A partire da stasera parleremo del re di Prussia Federico II, che è chiamato di solito Federico il Grande. Siccome magari non è una figura così familiare per tutti, cominciamo subito a collocarlo nel suo tempo. Federico nasce nel 1712, quindi in piena epoca dell'assolutismo. Per dire, in Francia Luigi XIV, il re Sole, è ancora vivo, anche se è molto vecchio e morirà tre anni dopo. Pietroburgo è stata appena fondata e lì regna Pietro il Grande, lo zar che con metodi brutali sta strappando la Russia al Medioevo. Qualche grossa novità però bolle in pentola anche nel resto d'Europa. Per esempio si comincia a parlare di illuminismo. Voltaire, che sarà forse il più famoso portavoce delle nuove idee illuministe, il più loquace dei filosof, Voltaire che come vedremo avrà una parte importante anche nella vita di Federico il Grande, a 18 anni quando Federico nasce. Di illuminismo quindi si comincia a parlare, di rivoluzione industriale, di capitalismo, di liberalismo invece non si parla ancora. L'Europa è un paese agricolo. Adam Smith, il grande teorico settecentesco dell'economia liberale, non è ancora nemmeno nato. Federico il Grande dunque nasce nel 1712, morirà nel 1786, quindi vive 74 anni. Sembra strano ma per quell'epoca sono moltissimi. Quando morì Federico era considerato decrepito. E il mondo intanto era molto cambiato rispetto a quello in cui era nato. L'assolutismo per esempio era gli sgoccioli. L'Inghilterra era appena stata costretta a riconoscere dopo una lunga guerra l'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Mancavano tre anni alla rivoluzione francese. E Napoleone Bonaparte aveva 17 anni. La vita di Federico dunque si colloca tutta nel diciottesimo secolo. E a suo modo è una vita emblematica di quel secolo. Di quello straordinario settecento che vede l'ultima stagione dell'assolutismo europeo, prima delle grandi rivoluzioni. E Federico il Grande fu uno dei massimi esponenti di quell'ultimo assolutismo. Insieme a certe donne sue coetanee, come Maria Teresa d'Austria, o un po' più giovani di lui, come Caterina di Russia. È il secolo che vede le riforme illuministiche e l'egemonia intellettuale dei filosofi. E Federico aveva la civetteria di considerarsi anche lui un filosofo. Un re, ma filosofo. Oh, il settecento poi è il grande secolo della musica classica. E Federico ebbe rapporti con Bach, anche se non con Mozart. E fu un discreto compositore lui stesso. Ma il settecento è anche un'epoca di guerre. Quelle che i francesi chiamano guerre en dentelle, le guerre con i pizzi. Perché i soldati, è vero, portavano uniformi sgargianti, multicolori, cravattini ricamati, i capelli incipriati, il codino. Gli ufficiali portavano la parrucca, nastri, galloni. Ma in realtà la guerra, anche allora, era un affare brutale, sporco e sanguinoso. Il settecento è il secolo di quelle guerre di successione che a scuola non riuscivamo mai a distinguere una dall'altra, spagnola, polacca, austriaca. Ma anche della guerra dei sette anni, che è stata descritta come la prima vera guerra mondiale. Perché fu combattuta in America e in India, oltre che sui campi di battaglia d'Europa. E vide il trionfo dell'Inghilterra che diventò la massima potenza coloniale del pianeta. Federico combatté e vinse contro tutte le difficoltà due di quelle grandi guerre. Visse col suo esercito al campo per circa dieci anni. Combatté sedici grandi battaglie, ne vinse tredici, ne perse solo tre, che è un record quasi insuperato. Ed è soprattutto per queste sue imprese militari, anche se a dir il vero spiace un po' dirlo, che i suoi contemporanei cominciarono molto presto a chiamarlo Federico il Grande. In Germania, verso la fine della sua vita, il re di Prussia, Federico II, era chiamato anche Federico l'unico. Ma questo appellativo non è poi rimasto nell'uso. Invece Federico il Grande sì. E allora rievocare la vita e le imprese di questo re sarà anche un modo per riflettere insieme su che cosa sia la grandezza. Perché i popoli chiamano grande qualcuno dei loro capi. Non sono poi molti ai casi nella storia. Pensandoci così rapidamente, viene in mente Alessandro Magno, certo. Costantino il Grande. Oggi non lo chiamiamo più tanto così Costantino, ma fu chiamato così dagli storici cristiani, per ovvie ragioni. Carlo Magno. Magno in latino, ricordiamocelo, vuol dire grande. E poi in Russia Pietro il Grande, che fu chiamato così, quando era ancora vivo, per decreto dello Stato, cioè di lui stesso. E Caterina la Grande, che abbiamo già ricordato prima, che fu contemporanea del nostro Federico. Ma ci sono anche casi, e sono molto istruttivi, in cui la pretesa di attribuire a un re questo epiteto, Grande, non ha attecchito. In Francia, per esempio, Luigi XIV, il re Sole, venne chiamato dai suoi cortigiani Luigi il Grande. Ma nessuno lo chiama più così. Nemmeno in Francia. Anche se a Parigi c'è ancora un famoso liceo, Louis Le Grand. Negli Stati Uniti, poi, che in origine erano una vera democrazia, radicale, non hanno mai chiamato Grande nessuno dei loro presidenti. Nemmeno George Washington. Anche lui un contemporaneo di Federico, appena un po' più giovane. Federico II, re di Prussia, invece, venne chiamato il Grande spontaneamente, quando era ancora vivo. Anzi, quando era ancora abbastanza giovane. Pare che sia stato proprio Voltaire a mettere in circolazione per primo questo appellativo, nelle chiacchiere di salotto. Poi fece anche un opuscolo, in realtà, in cui faceva l'elogio di Federico, lo chiamava il Grande, cosa che diede abbastanza fastidio al governo francese, che in quel momento era in guerra contro Federico. Naturalmente Voltaire lo chiamò così in francese, che allora era la lingua parlata da tutte le persone colte e in tutti gli ambienti politici d'Europa. Frédéric Le Grand. Alla gente piacque. Quando tornò nella sua capitale, Berlino, dopo la fine della guerra di successione austriaca, Federico, che aveva sui 35 anni, fu accolto con archi di trionfo, acclamazioni e discorsi ufficiali, in cui era regolarmente chiamato il Grande. Ora, una caratteristica comune a quasi tutti i sovrani che sono stati chiamati Grandi, e a dire il vero lo stesso discorso verrebbe anche per Napoleone. Napoleone non è stato chiamato il Grande semplicemente perché basta dire Napoleone, c'è soltanto lui. Poi c'è stato Napoleone III, ma insomma non è stata una gran cosa. Però anche per Napoleone vale quello che sto per dire, e cioè che sul piano umano, sul piano del carattere, e anche su quello morale, ecco, quando impariamo a conoscerli un po' meglio, questi Grandi, spesso c'è da mettersi le mani nei capelli. Sia Costantino il Grande, sia Pietro il Grande, per esempio, fecero uccidere il proprio figlio, perché avevano paura che congiurasse per spodestarli. Pietro il Grande, anzi a quanto pare, lo frustò a morte con le sue mani, in uno dei bastioni sotterranei della fortezza di Pietro e Paolo a Pietroburgo. Costantino no, però già che c'era, fece uccidere anche la propria moglie perché pensava che congiurasse col figlio. E allora dove sta la grandezza? La risposta va al di là di qualunque considerazione morale. Sta nel segno che questi uomini hanno lasciato nella storia. Nel fatto che hanno compiuto delle scelte decisive, che in qualche modo hanno cambiato il corso della storia. E pazienza, se questo è costato un bagno di sangue. Sono stati chiamati grandi lo stesso. Le sedici battaglie di Federico sono costate, secondo un calcolo approssimativo, che ho fatto io stesso, ma insomma mi pare che grosso modo funzioni qualcosa come 300.000 morti e feriti. E questo senza contare tutti i morti dovuti agli stenti, alla fame, alle malattie, anche fra i civili, durante le guerre combattute da lui. Eppure noi oggi dedichiamo queste nostre conversazioni a Federico il Grande. Chi era dunque come uomo Federico il Grande? Tutte le testimonianze ci dicono che sapeva essere molto affascinante, ma che nel fondo, a giudicarlo dalle sue azioni, era un uomo cinico, sleale, ingrato. Era tanto ingrato che nell'ambiente politico europeo si affermò un modo di dire che è rimasto in uso anche adesso, lavorare per il re di Prussia. E vuol dire darsi da fare inutilmente per qualcun altro che prima se ne approfitta e poi ti molla. Secondo lui nel suo mestiere di re l'unica cosa che contava era la forza. Bisogna che un regno sia forte, scrisse, e cito, perché la forza è il solo argomento che si può impiegare con questi cani di re e imperatori. Certo, possiamo dire che la politica del Settecento era tutta così. Il disprezzo dei principi e il perseguimento del proprio interesse a tutti i costi erano la regola nei rapporti fra gli stati, ma era una regola non scritta e che non si poteva dire. Ufficialmente invece contavano e come il diritto, le ragioni legittime, la parola data, i trattati. Noi possiamo discutere se questa facciata fosse solo ipocrisia o se invece forse non servisse comunque a limitare un pochino l'indecenza, a limitare quello che si poteva fare senza perdere la faccia. Per Federico invece era pura ipocrisia e lui non finiva di stupirsi che qualcuno potesse crederci a queste belle cose, la parola data. Una volta il governo spagnolo lo infastidì insistendo per fargli firmare un certo trattato e Federico scrisse al suo ministro degli esteri. Quel che mi stupisce è che il mondo non diventa mai più saggio. Anche dopo che si è visto quel che valgono le garanzie scritte, la gente si fa ancora fregare dai trattati. Gli uomini sono tutti stupidi. Ecco, questo disprezzo dell'uomo è centrale nel carattere di Federico il Grande. A Voltaire scrisse, gli uomini non sono fatti per la verità. Per me sono come un branco di cervi nel parco di un grande nobile, che non serve a nient'altro che a riprodursi e a popolare il parco. E un'altra volta, forse abbondo con le citazioni, ma per conoscere un uomo sapere quello che ha scritto ai suoi intimi serve. Federico una volta scrisse, il grosso della nostra specie è stupido e cattivo. Peraltro non era un disprezzo di classe, era un disprezzo ecumenico il suo. Si estendeva dai re e imperatori, tutti cani, come abbiamo sentito, fino ai suoi stessi soldati. Alla sua fanteria cominciò a scappare davanti ai russi, Federico cercò di fermarli urlando, cani! Vorreste forse vivere per sempre? Questa sfiducia nell'uomo spiega anche il cinismo di Federico. Il suo tono che è sardonico e anche volgare, quasi sempre sgradevole. Un ispettore delle finanze in pensione gli mandò una supplica chiedendo un aiuto perché era in miseria. A margine del memoriale Federico annotò di suo pugno. L'avevo legato alla greppia, perché non ha mangiato? E lo stesso tono lo usava con tutti, anche con le persone che in realtà amava. Di tutta la sua famiglia l'unica persona che amò veramente fu sua sorella, Guglielmina, moglie del margravio di Bayreuth, che allora non era ancora la capitale dell'opera wagneriana, ma un minuscolo principato, sconosciuto e senza un soldo. Eppure Guglielmina scrive nelle sue memorie che i soggiorni alla corte di suo fratello erano un tormento. Federico se ne stava sempre in compagnia dei suoi amici intellettuali, Volterra, Algarotti. Per la sorella non aveva tempo. Quando la incontrava riusciva solo a tirar fuori delle cortesie impacciate, oppure la prendeva in giro perché suo marito era povero. Ma poi faceva dalle battute cattive anche su se stesso. Mi faceva molta pena, dice Guglielmina. E in realtà Federico aveva come una compulsione a umiliare chi gli dimostrava affetto, come se si vergognasse del sentimentalismo, come se per principio desse per scontato che tutti erano ipocriti, che qualunque manifestazione di affetto o di calore umano era falsa. Non ebbe figli e negli ultimi anni di vita era solo come un cane, anzi trovava un po' di calore proprio solo nei suoi cani. Aveva la passione dei levrieri, Federico. E quelli li amava e li viziava. Di loro riusciva a fidarsi. E allora perché lo chiamiamo Federico il Grande? Quest'uomo che era sgradevole perfino dal punto di vista fisico. Si cambiava poco, era sporco, vestiva sempre la stessa vecchia uniforme, fiutava tabacco e il tabacco gli colava dappertutto, aveva sempre i cani addosso. Come mai lo chiamiamo grande? La risposta ovviamente non è una risposta morale, è una risposta puramente storica. Federico ha cambiato il mondo, ha lasciato un'impronta che ha influenzato la storia dell'Otto e Novecento in un modo impressionante e anche terrificante in un certo senso. Perché? Proviamo a spiegarlo. Quando Federico diventa re di Prussia, la Prussia non conta niente. È un piccolo regno tedesco. Non è egemone in Germania. In Germania l'egemonia ce l'ha l'impero asburgico e ancora il Sacro Romano Impero medievale e quella è la grande potenza tedesca. Poi ci sono tanti piccoli regni e principati, Prussia, Sassonia, Baviera, tanti altri che contano poco. Ma il Sacro Romano Impero, che è governato da secoli dagli Asburgo, non è una realtà soltanto tedesca. E anche un impero meridionale possiede l'Ungheria, che a quell'epoca non era la piccola Ungheria di adesso, ma comprendeva anche un grosso pezzo di Balcani, di Romania, la Slovacchia. Quindi l'impero asburgico teneva insieme la Germania e l'Europa sudorientale e balcanica. Era aperto in quella direzione, non tanto verso nord invece, non tanto verso nord-est, verso il mondo slavo del nord. L'impero asburgico faceva sì che la Germania fosse molto diversa da quella che diventerà poi in seguito. Perché la Germania Unita, la Germania Unita dell'Ottocento, che poi è uno dei grandi responsabili delle guerre mondiali, non l'ha fondata l'impero degli Asburgo. L'ha fondata la Prussia. E questo cambiamento di equilibri è interamente dovuto a Federico il Grande. Federico il Grande prende il potere in un momento in cui la Prussia conta poco e la Germania è dominata dall'imperatore asburgico e con le sue guerre, ma già con la sua prima guerra, addirittura con la sua prima conquista, entro il suo primo anno di regno, ha cambiato questi equilibri. Poi continuerà tutta la vita a combattere per difendere questo cambiamento. Cambiare questi equilibri vuol dire che la Prussia non si riconosce più subordinata all'impero degli Asburgo, che crea una sua potenza militare, sfida gli Asburgo, li attacca, diminuisce pesantemente il loro impero, annette un pezzo dell'impero asburgico e si propone come una nuova potenza guida della Germania. Una nuova potenza guida che però è molto diversa da quella che era stata il Sacro Romano Impero. Intanto la Prussia è una potenza protestante e questo conta. La Germania è spaccata a metà fra cattolici e protestanti, ma l'impero degli Asburgo era cattolico e continuava a garantire una certa egemonia cattolica sul mondo tedesco. Quando al posto degli Asburgo ci sarà la Prussia di Federico il Grande, il mondo tedesco tenderà a essere invece egemonizzato dai protestanti. E poi la Prussia proporrà alla Germania un altro orientamento, geografico anche. La Prussia, ne parleremo presto, è orientata verso est, all'espansione verso il mondo slavo. Qualcosa che l'impero asburgico non era in grado di fare, non avrebbe fatto. La Germania egemonizzata dalla Prussia non sarà solo una Germania protestante, ma sarà una Germania interessata a espandersi verso est, a conquistare spazio vitale verso est. Questo cambiamento non lo realizza tutto Federico il Grande, realizza soltanto il punto di partenza. Lo sappiamo, ma bisogna aspettare l'Ottocento, bisogna aspettare Bismarck, perché la Prussia sconfigga definitivamente l'Austria, anche un po' con il nostro aiuto, che abbiamo contribuito a questa cosa con le guerre del Risorgimento. E perché la Prussia dunque riesca a unificare la Germania. È la Prussia che unifica la Germania. Il Kaiser Guglielmo è il re di Prussia. Intorno a lui la Germania si proietterà nel Novecento, in quella direzione che, come sappiamo, ha dato origine alla Prima Guerra Mondiale e poi al nazismo e alla Seconda Guerra Mondiale. Colpa di Federico il Grande. A un certo momento qualcuno l'ha anche pensato. C'è anche stata un'epoca in cui parlare di Federico il Grande in Germania non si poteva più, insomma. A noi non è questo che interessa, non è questione di giudizi morali. Federico il Grande non poteva prevedere quasi niente di tutto questo, ma è la sua politica che ha cambiato la storia della Germania e la storia dell'Europa. Buonasera. Questa è la seconda puntata di una serie di trasmissioni dedicate a Federico il Grande, re di Prussia. Ma che cos'era la Prussia? Quanti oggi saprebbero trovarla sulla carta geografica? Io credo pochi, anche perché è un paese che oggi non esiste più. È un paese che è stato abolito per decreto. Il 25 febbraio 1947 le quattro potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale hanno ufficialmente disciolto lo Stato prussiano. E quello che una volta fu il territorio del regno di Federico il Grande oggi è diviso fra quattro paesi, la Germania, la Polonia, la Lituania e perfino la Russia. Beh certo, quando la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale provocò la cancellazione dello Stato prussiano e anche la divisione della Germania fra Est e Ovest, una Prussia come regno indipendente non esisteva già più. Non esisteva più da quando Bismarck aveva fondato quello che fu chiamato il Secondo Reich nel 1871. Dopo la vittoria sulla Francia di Napoleone III, proprio il re di Prussia unificò la Germania sotto il suo scettro e prese il titolo di imperatore di Germania. Ma non tutti sanno che quel Reich, quello che noi chiamiamo la Germania Guglielmina, fino alla Prima Guerra Mondiale comunque era un impero federale. Al suo interno sopravvivevano i vecchi regni e ovviamente anche quello di Prussia, che anzi era il più importante. Ogni regno aveva il suo esercito, batteva la sua moneta e il Guglielmo II era anche re di Prussia. Ma perfino sotto la Repubblica di Weimar e il nazismo, la Prussia esisteva ancora come ripartizione interna, amministrativa, della Germania. Goering era il ministro degli interni di Prussia. C'è da chiedersi cosa avrebbe pensato Federico di un ministro come quello. E allora, cerchiamo insieme di riportarlo sulla carta geografica, questo regno che non c'è più. E che invece quando nacque Federico il Grande era appena stato inventato, perché suo nonno, Federico I, fu anche il primo re di Prussia. Un regno inventato, ho detto. Infatti era una specie di mostruosità giuridica e geografica. Era un paese fatto di pezzi diversi. Anzi, forse per farci un'idea chiara di cos'era e dov'era questa Prussia, il modo migliore è proprio di raccontare come è nata. Così capiremo anche meglio quale fosse l'orizzonte mentale di uno che, come Federico, venne allevato per fare di mestiere il re di Prussia. Allora, all'inizio c'era una famiglia di principi tedeschi, gli Hohenzollern. È una famiglia che compare sulla scena nel Medioevo, non particolarmente antica e neanche particolarmente illustre. Si dice che Bismarck, una volta che aveva litigato con il Kaiser, esclamò, perché dovrei servire gli Hohenzollern? La mia famiglia è nobile quanto la loro. Dicevo che erano originari della Germania meridionale, ma nel corso del Medioevo qualcuno di loro cominciò a cercare fortuna da un'altra parte, lontano, verso est, come molti altri tedeschi d'altra parte. Bisogna sapere che nel Medioevo per i tedeschi l'est era un po' come il vecchio west per gli americani, una frontiera, un paese immenso da colonizzare, abitato da selvaggi, pagani, che bisognava convertire al cristianesimo, nel caso anche sterminare, non ci si faceva troppi scrupoli su questo. Un paese dove c'era spazio per tutti, per principi e nobili che avevano voglia di conquistare nuove signorie, ma anche per masse di contadini che cercavano lavoro. E' quello che in tedesco si chiama il Drang nach Osten, la spinta verso est, e che fino all'epoca nazista ha continuato a segnare il rapporto dei tedeschi con le pianure dell'Europa orientale. Terre da conquistare, da colonizzare, spazio vitale, come dirà Hitler. Ebbene il Drang nach Osten, che comincia nel Medioevo, è anche all'origine del regno di Prussia. Stiamo parlando di come nel Medioevo la colonizzazione tedesca verso est, oltre l'Elba, ha dato origine a quello che sarà poi il regno di Federico il Grande, il regno di Prussia. All'inizio questa spinta, questa immigrazione anzi, verso l'Europa orientale, fu diretta dagli imperatori del Sacro Romano Impero. Sotto la loro guida venne creato un paese nuovo, la Marca di Brandeburgo, e fu creata anche una nuova città, che si chiamò Berlino. Oggi i linguistici dicono che il nome di Berlino non è neanche tedesco, deriva da una radice slava, che ha a che fare con le paludi, e questo evidentemente è quello che c'era lì prima che arrivassero i coloni tedeschi, un villaggio slavo e paludi. Ma Ber in tedesco vuol dire orso, e Berlino mise un orso nel suo stemma e si dimenticò di essere mai stata slava. Crebbe diventò la capitale di un regno, il regno di Prussia, fu la capitale del nostro Federico, e oggi è di nuovo, come sappiamo tutti, la capitale della Germania Unita. Ecco, il primo nucleo storico del futuro regno di Prussia è questo, il Brandeburgo. Esiste ancora oggi, è un land tedesco, uno di quei nuovi lander orientali, economicamente depressi, ex Germania Est. Quando nacque era una Marca, che vuol dire terra di frontiera, e ancora nell'Ottocento i suoi abitanti la chiamavano semplicemente così, familiarmente, la Marca. Si parlava della vecchia nobiltà della Marca, di come gli abitanti della Marca fossero i più fedeli fra i sudditi degli Hohenzollern. E così perché nel Brandeburgo, molti secoli fa, arrivarono appunto gli antenati di Federico il Grande. All'inizio del Quattrocento, uno di loro, un altro Federico di Hohenzollern, ottenne dall'imperatore del Sacro Romano Impero l'investitura a signore della Marca di Brandeburgo. In tedesco si dice Mark Graf, che noi possiamo, se vogliamo, italianizzare un po' buffamente in Margravio. Insieme col Feudo, gli Hohenzollern, Margravi di Brandeburgo, ottennero il diritto di partecipare all'elezione dell'imperatore. Già, perché questo è una cosa che io che di mestiere faccio il medievista so, ma magari non tutti sanno. L'imperatore del Sacro Romano Impero non era una carica ereditaria, era elettiva, e avremo modo di riparlarne. Dunque, gli Hohenzollern, antenati di Federico il Grande, ebbero il titolo di principi elettori, e la Marca di Brandeburgo si chiamò anche Marca Elettorale, Kurmark in tedesco. Vi chiederete perché ci soffermiamo su questi dettagli oscuri di un sistema politico morto e sepolto da tanto tempo, ma il fatto è che è questo l'orizzonte in cui Federico nacque. È proprio questo sistema macchinoso dell'impero elettivo, con i suoi principi elettori. Proprio questo spiega le scelte politiche di Federico. Anzi, possiamo anticipare fin d'ora che proprio Federico ebbe un ruolo decisivo nel seppellire questo sistema medievale, ed è facendo così che cambiò il volto della Germania. E dunque, teniamo a mente questo. A partire dal Quattrocento, gli Hohenzollern, margravi di Brandeburgo, con la loro capitale a Berlino, sono vassalli del Sacro Romano Impero, e il loro paese, la Marca, fa parte di questo impero, che diventerà poi, dopo Carlo V, l'impero asburgico. Ma la colonizzazione tedesca verso est non si era fermata a Berlino. Era proseguita spingendosi molto più in là, fino alla Vistola, e poi ancora più in là, fino a quelli che oggi sono i paesi baltici. In parte, questa colonizzazione era guidata dai mercanti, dai fondatori dei grandi porti del Baltico, come Lubecca e Danzica, riuniti nella Lega Anseatica. Ma nell'interno, la spinta espansiva tedesca verso est era guidata da un'altra forza, una forza assolutamente fuori del comune, e che anch'essa era destinata a avere un ruolo decisivo nella nascita della Prussia, i cavalieri teutonici. Alle origini della Prussia, dunque, c'è anche l'ordine teutonico. Era uno di quegli ordini militari, mezzo monaci, mezzo cavalieri, che erano stati creati per difendere le conquiste cristiane in Terra Santa, come i Templari, o quelli che saranno poi i cavalieri di Malta. L'unica stranezza è che accoglieva soltanto cavalieri tedeschi. Ora, dalla fine del 200, di possedimenti cristiani da difendere in Terra Santa non ce n'erano più. I musulmani erano riusciti a riconquistare tutto e a ributtare in mare i crociati. E allora i cavalieri teutonici avevano dovuto inventarsi una nuova vocazione. E questa nuova vocazione li portò a nord sul Baltico. Lì, l'abbiamo detto, da secoli la colonizzazione tedesca si accompagnava allo sforzo di convertire i pagani. E era un impegno duro perché i popoli baltici resistevano, non volevano diventare né tedeschi né cristiani. Ora, un ordine religioso di monaci guerrieri tedeschi sembrava fatto apposta per operare in quel teatro. Fin dalla loro fondazione, in realtà, i cavalieri teutonici erano operativi sul Baltico. Una volta che le ultime piazze forti cristiane in Terra Santa furono cadute, si trasferirono lì in massa. E cominciarono un programma di conquiste che nel giro di un secolo li portò a conquistare un enorme spazio, su cui il gran maestro regnava come se fosse stato un re. Gli abitanti pagani vennero convertiti o sterminati e si organizzò l'immigrazione in massa di contadini tedeschi. Ora, il punto cruciale per noi è che queste terre conquistate dall'ordine teutonico non facevano parte del sacro romano impero. L'ordine non obbediva all'imperatore, rispondeva solo al papa sulla carta e in pratica non rispondeva a nessuno. L'espansione dei cavalieri teutonici verso est si interruppe per sempre con il rafforzamento del regno di Polonia e con la decisiva sconfitta che subirono nel 1410 alla battaglia di Tannenberg. Una parte delle loro terre fu occupata dai polacchi e il gran maestro si trovò a controllare solo un territorio più ristretto, una porzione della costa baltica e dell'entroterra, intorno alla città di Königsberg. Questa terra era popolata da tedeschi, ma conservava il nome di un'antica popolazione baltica che i cavalieri teutonici avevano annientato. Quelli si chiamavano i Prussi, o anche i Pruteni, e il paese si chiamò Prussia. Rimase parte della Germania fino al 1945, quando ci fu l'invasione sovietica e la popolazione tedesca fuggì in Occidente, e il paese venne annesso da Stalin e ancora oggi è parte della Russia. La sua capitale oggi si chiama Kaliningrad, ma è l'antica Königsberg, dove insegnò Kant. Ma torniamo all'inizio del Cinquecento, quando la Prussia formava il nucleo dei possedimenti dell'ordine teutonico. Come ci ricolleghiamo con Federico il Grande? Ci ricolleghiamo così. Il gran maestro dell'ordine teutonico, all'inizio del Cinquecento, era un Hohenzollern, Alberto, cugino del principe elettore di Brandeburgo. Quando la riforma protestante dilagò in tutta la Germania del nord, anche il gran maestro Alberto di Hohenzollern scelse di abbandonare il papa e i possedimenti dell'ordine vennero secolarizzati, come si diceva, che vuol dire che diventarono praticamente proprietà privata, dinastica, di Alberto. Dopo la sua morte, Alberto lasciò tutto quanto in eredità al cugino. E così l'elettore del Brandeburgo si trovò a possedere due paesi, il Brandeburgo intorno a Berlino e la Prussia molto più a est, intorno a Königsberg. Ma con questa stranissima differenza giuridica, che il Brandeburgo faceva parte del Sacro Romano Impero e invece la Prussia no, apparteneva agli Hohenzollern e basta. E' per questo che quando all'inizio del Settecento l'elettore di Brandeburgo, il nonno di Federico il Grande, ottenne dall'imperatore il permesso di chiamarsi re, non fu chiamato re di Brandeburgo, che pure era la ragione più importante, più ricca, fu chiamato re di Prussia. Anzi, per quelle stesse ragioni di protocollo non ebbe il permesso di chiamarsi proprio re di Prussia, ma re in Prussia, come per ricordargli che appena tornava nell'impero non era più un re, ridiventava un vassallo dell'imperatore. Questa sottigliezza protocollare poi venne dimenticata, ma il nuovo regno comunque si chiamò regno di Prussia. Nel XVIII secolo dunque Federico il Grande governò un regno costituito dai vari territori che per ragioni diverse erano finiti nelle mani della sua famiglia. Territori che non erano nemmeno collegati dal punto di vista geografico, perché anche solo fra i due paesi principali, il Brandeburgo e la Prussia, c'era una fascia di territorio polacco che culminava nella città di Danzica. Questo credo sia familiare a molti, è quello stesso corridoio di Danzica o corridoio polacco che venne ricreato dopo la prima guerra mondiale col trattato di Versailles, quando fu ricostituita la Polonia, è quel corridoio polacco che ebbe poi delle conseguenze tragiche nella storia del Novecento, perché è proprio quello il motivo che spinse Hitler a aggredire la Polonia e scatenare la Seconda Guerra Mondiale. Dunque il regno di Prussia era formato da pezzi di territorio disparati che non centravano niente l'uno con l'altro, se non per il fatto che appartenevano alla dinastia degli Ehoen Zollern. E però le identità nazionali sono delle cose che cambiano nel tempo, che si possono anche inventare. Dal momento in cui ci fu un re di Prussia e tutti i sudditi seppero di dover ubbidire al re di Prussia, e beh da quel momento cominciò anche a nascere una coscienza nazionale prussiana, o comunque un'identità prussiana. E si cominciò a chiamare Prussia l'intero territorio del regno, tant'è vero che la vera Prussia a oriente cominciò a essere chiamata Prussia orientale, che è il nome con cui poi è stata chiamata anche nell'Ottocento, Prussia orientale. In ogni caso il grosso dei territori che formavano il regno avevano qualcosa in comune. Intanto erano paesi abitati soprattutto da tedeschi in mezzo al mondo slavo, e anzi avevano una componente di slavi, soprattutto polacchi, ancora presente tra la popolazione contadina. Poi erano paesi poveri, poco popolati. È vero, c'era stata la colonizzazione tedesca per secoli, ma non era bastata riempire quelle pianure immense. Tanto che una delle preoccupazioni di Federico il Grande sarà sempre quella di attirare nuovi abitanti nel regno, di incoraggiare l'immigrazione. Gente ce n'era poca anche perché erano paesi poco fertili. In gran parte erano ricoperti da foreste di pini, del resto ancora oggi il paesaggio da quelle parti è così. E dove non ci sono i pini c'è una terra arida, sabbiosa. È proprio sabbia, i viaggiatori occidentali paragonavano la Prussia ai deserti dell'Arabia. E lo stesso Federico scrisse a Voltaire che quanto a sabbia l'unico paese che ne avesse più di lui era la Libia. C'è il mare, il Baltico. Le coste prussiane si affacciano sul Baltico e lì sboccano i due grandi fiumi prussiani, l'Elba e la Vistola. In passato il Baltico era stato un grande spazio commerciale, ricco, ma al tempo di Federico il Grande non era più così. Quei commerci erano decaduti da un pezzo e il Baltico non era più una risorsa, tuttavia un po' di pesce. C'erano due città in questo regno, Berlino e Königsberg, ma erano piccole città su scala europea, con poche decine di migliaia di abitanti e prima di Federico non avevano praticamente nessun edificio importante. Era un paese arretrato, a malapena europeo. La Prussia orientale in particolare era così primitiva che Federico da ragazzo, in una lettera, la definì un paese appena più civilizzato della Siberia. Era anche un regno piccolo. Quando Federico era bambino aveva due milioni di abitanti, o a titolo di confronto la Francia ne aveva venti milioni, l'impero osburgico ne aveva dieci. Un regno così debole per sopravvivere doveva fare delle scelte e i re di Prussia le fecero. Si trattava di puntare tutto sulla forza militare. Non fu Federico il Grande a pensarlo per primo. Già i suoi predecessori l'avevano ben chiaro. Quando Federico era cinque anni, un viaggiatore straniero scrisse da Berlino, qui non c'è niente di interessante, l'unica cosa magnifica sono i soldati. Ma che un posto così poco promettente sia diventato la forza propulsiva che unificò la Germania, questo sì fu opera di Federico il Grande. La famiglia e l'educazione sono importanti per capire un uomo e nella puntata di stasera cercheremo appunto di ritrarre l'ambiente familiare in cui crebbe quello che poi sarebbe diventato Federico il Grande. Nacque a Berlino il 24 gennaio del 1712. In quel momento suo nonno, il primo re di Prussia, Federico I, era ancora vivo e il padre del nostro, che si chiamava Federico Guglielmo, era soltanto il principe ereditario. Ma Federico I morì un anno dopo, all'inizio del 1713. Federico Guglielmo divenne re e il futuro Federico il Grande, a 13 mesi di età, diventò principe ereditario del regno di Prussia. Quando si ricostruisce la vita di un uomo non sempre è necessario dedicare uno spazio specifico al carattere di suo padre, ma nel nostro caso è indispensabile, perché il rapporto col padre, anzi diciamo pure il conflitto spaventoso col padre, ebbe un'importanza enorme nella vita di Federico il Grande, ebbe un'importanza enorme nel formare o forse nel deformare il suo carattere. E allora, chi era Federico Guglielmo I. Il padre di Federico il Grande è passato alla storia col soprannome il re sergente, che non è un soprannome particolarmente lusindiero. Come sia nato esattamente non si sa, ma un fatto è che il re era un fanatico dell'esercito. Era sempre vestito in uniforme, maniaco delle esercitazioni e della disciplina, e fin qui verrebbe da dire che i re di Prussia evidentemente erano fatti tutti con lo stesso stampo, perché tale padre è tale figlio, anche Federico il Grande sarà così. Però ecco già qui una differenza, Federico il Grande non solo andava matto per l'esercito, passa in guerra gli anni migliori della sua vita. Suo padre invece, il re sergente, non combatte neanche una guerra in vita sua, affittava i suoi reggimenti, questo sì, li affittava all'imperatore, suo signore, per combattere nelle guerre dell'impero, ci guadagnava bene, ma per lui la vita militare volle sempre soltanto dire addestramento, ispezioni, esercitazioni, da sergente appunto. Il padre di Federico il Grande aveva anche una passione che diventò leggendaria in tutta Europa, perché era una passione particolarmente stravagante. Si era formato un reggimento di guardie del corpo, composto tutto da uomini di altissima statura, i famosi granatieri giganti di Potsdam. Il re era uno che risparmiava il centesimo, ma per i granatieri giganti faceva follie, cercava in tutti i modi di procurarsi uomini altissimi da arruolare e spendeva delle somme enormi per questo, d'altra parte gli altri re d'Europa capirono subito che il modo migliore per guadagnarsi la sua amicizia era di mandargliene qualcuno in regalo. I colonnelli di tutti i reggimenti dell'esercito prussiano erano costretti a darsi da fare per scovare reclute alte, perché quando il re passava in ispezione il reggimento, se trovava una recluta bella alta, subito la prendeva per il suo reggimento dei granatieri e per il colonnello erano ricompense, gratificazioni e pacche sulle spalle. Invece i colonnelli che non trovavano giganti cadevano in disgrazia. Naturalmente se un suddito prussiano era abbastanza sfortunato da essere alto 1,90 m, il suo destino era segnato, doveva arruolarsi. Ricordiamoci che siamo in pieno assolutismo e il re può fare quasi tutto quello che vuole. Ma Federico Guglielmo andava anche oltre, faceva rapire giganti all'estero e li arruolava illegalmente nel suo reggimento. Cerco anche di allevarli, costringendo a sposarsi fra loro uomini e donne di alta statura. Il suo più grande piacere era di passare in rassegna sulla piazza d'armi di Potsdam il suo reggimento di giganti. Ecco, uno pensa che il militarismo di Federico il Grande, la sua abitudine all'uniforme, la sua mania della disciplina, gli siano venute direttamente dal padre. È vero, è sicuramente così. Però è anche utile sapere che la prima riforma decretata da Federico il Grande quando salì al trono fu di licenziare il reggimento dei granatieri giganti. Abbiamo detto che il padre di Federico il Grande era chiamato il re sergente e questo anche per un altro motivo. Quella era un'epoca in cui le maniere dei re, soprattutto in Europa orientale, bisogna dire, non erano particolarmente raffinate e i loro divertimenti erano spesso abbastanza grossolani. Anche per questo basta pensare a Pietro il Grande, alle sue ubriacature, ai suoi buffoni. Ma il re di Prussia, Federico Guglielmo, aveva un suo stile personale. Era uno che amava la vita semplice. In casa non voleva nessuna etichetta, odiava i salotti e le conversazioni, il teatro e la musica lo facevano sbadigliare. Degli intellettuali non sapeva cosa farsene, peggio che mai poi i filosofi francesi. Cito, tutti gli intellettuali sono degli imbecilli. Lui era un vero tedesco e ci teneva a dirlo, non un damerino alla francese. A lui piaceva starsene in campagna, andare a caccia di cinghiali e passare la serata con i vecchi amici, ma gente semplice come lui, militari, a bere e a fumare. Queste riunioni serali dal re erano un'istituzione, si chiamavano il Collegio del Tabacco, e bisogna immaginarsene queste sedute, tutte serate per soli uomini, una nuvola di fumo di pipa, il tavolo carico di bottiglie e gli ubriachi che scivolano sul pavimento. E si andava avanti tutta la notte, certe volte. Insomma, il re Sergete era un tipo semplice e amava i piaceri semplici. Era tutto il contrario di suo padre, il primo re di Prussia. Di quello lì, le malelingue dicevano che si alzava presto al mattino per godersi il più possibile il fatto di essere re, e quindi viveva nel lusso e nelle feste. Federico Guglielmo si vedeva soprattutto come un bravo padre di famiglia, uno che deve dare l'esempio ai sudditi. Una vita modesta, poche spese, niente arie. Gli davano fastidio il fasto della corte, l'etichetta, i palazzi. Appena poteva costringeva la moglie e i figli, si può immaginare quanto fossero contenti, a seguirlo in certe scomodissime case di campagna dove si gelava dal freddo e dove invece il re si sentiva a suo agio. Lui si alzava all'alba, andava a caccia e avrebbe voluto tornare a casa e trovare la moglie e i figli che lo aspettavano e pranzare insieme a loro come un bravo borghese e magari dire la benedizione prima di cominciare, perché era molto religioso. Avrebbe voluto dei figli che avessero i suoi stessi gusti e che vedessero la vita come la vedeva lui. E quanti altri padri hanno avuto la stessa illusione. Ma i sergenti all'epoca erano anche qualcos'altro. I sergenti erano quelli che dovevano istruire le reclute dell'esercito e le istruivano a forza di bastonate. Era con la canna che si insegnavano l'obbedienza e la disciplina e il re sergente era fedele al suo soprannome anche in questo. Bisogna dire che era uno che si arrabbiava facilmente, anche quando non beveva, quando beveva poi anche peggio, e quando era arrabbiato distribuiva bastonate, senza pensarci tanto. Uno storico ha scritto che Federico Guglielmo sembrava considerare il suo scettro come una specie di randello ingentilito. Bastonava i sudditi che per qualche motivo gli dispiacevano, compresi i ministri. Ovviamente bastonava i figli, da bravo padre di famiglia, anche qui, secondo l'idea dell'epoca. Ma Federico Guglielmo andava un po' in là. Quando gli facevano perdere la pazienza i figli, a tavola per esempio, tipica situazione della famiglia in cui il padre e i figli cominciano a discutere e litigano, e beh, Federico Guglielmo se perdeva la pazienza non soltanto cominciava a dare inescandescenze, insultava e minacciava di morte chiunque, la moglie, i figli, gettava i piatti in testa ai figli. Lo faceva con tutti, bisogna dire. Una volta che un giudice osò contraddirlo, Federico Guglielmo lo buttò giù dallo scalone del palazzo. Ma in famiglia era particolarmente scandaloso che succedessero queste cose. In parte è perché il re era così di carattere, in parte perché beveva troppo, del resto si ammazzò a forza di bere. Morì quando non aveva ancora 50 anni. Abbiamo presentato il padre di Federico il Grande, parleremo ancora parecchio di lui perché abbiamo appena cominciato a raccontare il tipo di conflitti che questo padre tremendo ebbe con un figlio, anche lui tremendo, come Federico. Ma fermiamoci un momento anche sull'altra figura familiare, la madre. Bisogna dire che in confronto a un padre ingombrante come quello che abbiamo descritto, la mamma di Federico il Grande è una figura più scialba. Però anche lei ebbe influenza su Federico, per contrasto, anzi forse ne ebbe ancora di più. Si chiamava Sofia Dorotea di Hannover ed era figlia del re d'Inghilterra. All'inizio del Settecento i principi tedeschi di Hannover erano diventati re d'Inghilterra. Sofia Dorotea quindi veniva da una grande dinastia, molto più potente degli Hohenzollern. Era stata educata in una corte raffinata, si può immaginare quanto fosse contenta della vita che le faceva fare suo marito, e comunque era convinta che la sua famiglia fosse infinitamente più nobile di quei parvenus degli Hohenzollern di Prussia. Nelle memorie di sua figlia Guglielmina, che sono uno straordinario ricettacolo di pettegolezzi, Sofia Dorotea fa una figura terribile, bisogna dire. Sembra che fosse una donna tremenda, isterica, aveva una paura terribile del marito, ovviamente, il marito girava col bastone, e però passava la vita a intrigare contro di lui. La regina di Prussia cercava in tutti i modi di combinare dei matrimoni fra i suoi figli e la famiglia reale inglese, la sua famiglia, e di far nascere un'alleanza fra la Prussia e l'Inghilterra. Il re naturalmente odiava l'Inghilterra, non voleva saperne. Sofia Dorotea intrigava e per raggiungere il suo scopo, ovviamente, era pronta a calpestare i desideri dei suoi figli. La felicità di un principio o di una principessa sta nello sposarsi come vuole la politica, ovviamente. Questo era normale nelle case regnanti. Dunque, non un matrimonio ben assortito, questo. Ovviamente, nelle memorie, nelle testimonianze dell'epoca, uno trova sempre i fatti più scandalosi, i pettegolezzi più succulenti. Ci sarà stata anche una quotidianità, una qualche rude convivenza fra marito e moglie, fra i genitori di Federico. In realtà risulta che quando erano in buona, lui la chiamava Fission, che è il diminutivo di Sofì, e lei lo chiamava Vilke, Guglielmo in dialetto. Del resto, Sofia fece il suo dovere e partorì a suo marito quattordici figli, di cui ben dieci sopravvissero. Ma a noi Sofia Dorotea, regina di Prussia, interessa per l'influenza che ebbe su Federico. Un'influenza che fu enorme, semplicemente perché presentava al ragazzo un modello opposto rispetto a quello di suo padre. Federico Guglielmo adorava la campagna, la vita rude, dormire in stanze non riscaldate, svegliarsi all'alba, lavarsi con l'acqua fredda e mangiare sotto la tenda. Sofia Dorotea odiava questa vita. Lei amava la vita di corte, le raffinatezze, le comodità. Secondo gli ambasciatori, le stanze della regina erano le sole stanze comode del palazzo. Federico Guglielmo considerava un punto d'onore essere un tedesco e detestava i francesi. Sofia Dorotea parlava francese appena possibile, e lo parlava così bene che una volta un francese le chiese se sapeva il tedesco. Federico Guglielmo odiava gli intellettuali. Sofia Dorotea proteggeva le arti e le scienze e si circondava di letterati. Quando era con sua madre da bambino, Federico ascoltava soltanto critiche feroci contro suo padre, contro la sua volgarità, e la mentele per il provincialismo di Berlino, per la taccagneria della vita in Prussia. Che rapporto ebbe Federico con questa madre? Lui non era uno che dimostrava i suoi affetti, e non è facile capire cosa pensava davvero. Appena sta lì al trono, escluse completamente la madre dagli affari di Stato. Tanto che Sofia Dorotea era stupita e mortificata di essere trattata così. Eppure quando la madre morì, Federico fu scioccato, come se non avesse mai pensato che una cosa simile poteva succedere. Era l'inizio della guerra dei sette anni, Federico aveva già più di quarant'anni, era già depresso per conto suo perché aveva appena perduto una battaglia per la prima volta in vita sua. Quando gli arrivò la notizia che sua madre era morta, rimase scioccato appunto. Il suo segretario scrive, il dolore del re è stato molto grande e violento, e Federico stesso scrisse alla sorella sono più morto che vivo. Ecco stiamo facendo questo rapido ritratto della famiglia di Federico il grande, o almeno dei più importanti fra i suoi familiari. Abbiamo parlato del padre, della madre, abbiamo menzionato diverse volte una sorella, e ne aveva parecchie, ma ce n'era una in particolare che ebbe un'importanza centrale nella vita di Federico, e soprattutto nella sua infanzia e nella sua adolescenza. Questa sorella si chiamava Guglielmina, e quella che poi divenne Margravia di Bayreuth. Guglielmina era la sorella maggiore, aveva tre anni più di lui. E quando Federico era bambino, fra loro si creò una complicità fortissima, una complicità che ovviamente era tanto più preziosa, visto il tipo di famiglia tremenda in cui gli toccava vivere. Insieme leggevano i libri, che il padre proibiva loro di leggere perché i libri fanno male, insieme facevano musica, si scrivevano quelle lettere a cuore aperto in cui gli adolescenti si rivelano tutto. Avevano un linguaggio segreto, comune, con cui si facevano beffe di tutti, dei genitori, dei cortigiani, dei ministri. Uno storico ha scritto che il loro affetto reciproco era rafforzato dall'odio che provavano per il resto del mondo. Per Federico e Guglielmina, quando si scrivevano, il re loro padre era il ciccione. E Federico, quando era ancora ragazzo, parlando con la sorella, si augurava apertamente che il padre crepasse presto. A un certo punto sembrò che stesse per succedere. Federico Guglielmo si prese una polmonite e i medici lo davano per spacciato. Federico era il principe ereditario e seguiva con attenzione spasmodica i bollettini medici. Quando il padre si riprese ci rimase malissimo. Perché racconto questo? Perché negli stessi giorni arrivò la notizia che era morto un altro qualunque principe tedesco, il duca di Brunswick, e Federico scrisse a sua sorella Guglielmina. Il duca di Brunswick, essendo un uomo d'onore, ha avuto la decenza di morire, al contrario di qualcun altro. Dunque, tra Federico e la sua sorella maggiore c'era una complicità strettissima, loro contro tutti, loro contro il padre, la madre, tutta la famiglia, tutto il mondo. Come spesso succede, questa complicità svanì quando i due adolescenti credbero e quando le loro vite si separarono anche fisicamente. A Guglielmina toccò andare a vivere in provincia perché era stata data in moglie a un minuscolo principe, appunto il Margravio di Bayreuth. Federico invece diventò il grande re e quando si incontrarono di nuovo non riuscirono più a ristabilire il tono di una volta, anche questa è una cosa che succede, le grandi amicizie, i grandi legami dell'adolescenza, poi è difficile riannodarli, anche tra fratelli, tra fratello e sorella. Ci rimasero malissimo tutti e due, ognuno aveva l'impressione che l'altro fosse cambiato e che ci fosse qualcosa che non andava, però hanno continuato a scriversi per tutta la vita e questo per noi è utilissimo perché queste lettere di Federico a Guglielmina sono una fonte di informazioni straordinaria. A Guglielmina è soltanto a lei Federico scriveva la verità, o almeno si ha questa impressione, si ha l'impressione che fosse sincero quando le scriveva e bisogna tener conto che in genere Federico per carattere e per educazione non era un uomo sincero. Quindi queste lettere sono straordinarie e una fonte di informazioni formidabile sono anche le memorie di Guglielmina. Guglielmina da vecchia scrisse delle memorie che parlano soprattutto della sua infanzia, adolescenza, alla corte di Prussia e sono memorie fantastiche perché ci fanno toccare con mano quanto era scomoda la vita in queste piccole corti tedesche, quanto erano pesanti le feste, i banchetti, quanto erano scarse le risorse sotto l'apparenza fastosa. È tutta una galleria di stanze gelide, finestre rotte, abiti vecchi, cattivi odori, cibi cucinati male. E poi c'è il ritratto tremendo del mondo femminile. La legina, le principesse, sorelle di Guglielmina, le parenti, le dame, le domestiche, vivono tutte insieme prigioniere, prigioniere di un mondo di pettegolezzi, di rivalitari, picche, cattiverie e di solitudine. Anche questo è il mondo della madre di Federico. Gli storici scrivono che negli appartamenti di sua madre Federico imparò l'amore per il lusso, per l'arte, il gusto della musica, ma dalla memoria di sua sorella esce un quadro diverso. Un quadro che ci fa capire come mai fra le altre cose Federico da adulto sia diventato anche un famoso misogino. Nella famiglia di Federico il Grande la figura più ingombrante era senza dubbio il padre, Federico Guglielmo, che però non era soltanto quella specie di caricatura di sergentaccio grossolano e ubriacone che viene fuori dalle lettere e dalle memorie dei suoi figli. Anche se può sembrare strano aveva ricevuto un'educazione raffinata, aveva imparato il francese e perfino il latino, aveva imparato a suonare il clavicembalo e il flauto, e chiaramente aveva odiato questo tipo di educazione. E appena era stato libero di fare a modo suo si era buttato in un tipo di vita completamente opposto. Però era pieno di zelo per il suo mestiere di re, oltre a un formidabile senso del dovere protestante. In realtà fu lui e non Federico a inventare la famosa frase per cui il re è il primo servitore dello Stato. Quando non andava a caccia Federico Guglielmo lavorava come un bue, si alzava alle cinque del mattino e quando alla sera si sprofondava nella birra, insieme agli amiconi del collegio del tabacco, aveva alle spalle una giornata di lavoro che avrebbe stroncato chiunque altro. Lui ci occupava personalmente di tutto, rafforzava l'esercito, sviluppava l'economia, favoriva l'immigrazione, costruiva strade e canali, bonificava paludi, emanava regolamenti, correggeva le leggi, soprattutto realizzava economie di bilancio, sempre pretendendo di vedere tutto di persona, bastonando i ministri che non obbedivano abbastanza in fretta, controllando i conti fino all'ultimo centesimo e accumulava barili di talleri d'argento negli scantinati del palazzo di Berlino. Ora, questo modello paterno si impresse totalmente nel figlio. Sotto tutti questi aspetti Federico sarà identico a suo padre. Però Federico Guglielmo si immaginava di dover plasmare il figlio, di doverlo rendere identico a lui per mezzo dell'educazione, non solo dell'esempio, e perciò escogitò per Federico un progetto educativo minuziosissimo, che regolava l'impiego di ogni ora della giornata, e che naturalmente era il contrario di quello che lui aveva ricevuto da ragazzo. A lui avevano insegnato il francese, il latino e la musica, uno spreco di tempo, tutte cose che aveva imparato solo a odiare, e che a un re non servivano a niente, ma lui non avrebbe fatto lo stesso errore. Suo figlio non doveva perdere tempo con queste stupidaggini. Niente latino e storia antica, tutta roba superata che non serve nel mondo moderno. Mio figlio, disse Federico Guglielmo, non deve essere educato come un re di figlieri. Niente francese e musica, che vanno bene per le donne, non per un soldato. In generale niente libri, che servono solo a mettere grilli per la testa. Il principe doveva imparare il suo mestiere di re sul campo, e siccome non sarebbe stato un re qualsiasi, ma un re di Prussia, innanzitutto doveva imparare il mestiere delle armi. A cinque anni Federico aveva già imparato a memoria i 54 movimenti del manuale di esercizio della fanteria prussiana. A sei anni comandava una compagnia di 130 bambini in uniforme, e doveva addestrarli e farli marciare in parata. A parte questo, l'unico altro contenuto dell'educazione di Federico era la religione. Bisogna dire che il re era un fervente cristiano, anche se a modo suo la situazione religiosa della Prussia era strana, i sudditi erano luterani, quasi tutti. La famiglia reale era calvinista per tradizione, però Federico Guglielmo non era neanche calvinista, era sotto l'influenza di certi predicatori pietisti che rifiutavano il calvinismo vero e proprio, rifiutavano la dottrina della predestinazione. E allora le istruzioni di Federico Guglielmo per l'educazione di suo figlio erano tutte intrise di spirito religioso. Dopo le cinque del pomeriggio il bambino aveva il diritto di divertirsi come voleva, ma solo all'aria aperta, che è sana, e, cito, purché non vada contro la volontà di Dio. Dopo la sveglia all'alba, e poi di nuovo prima di andare a dormire, Federico doveva dire le preghiere in ginocchio, insieme a tutti i suoi domestici, e ascoltare una lettura della Bibbia. Bisognava spiegargli l'assurdità dell'ateismo e, per citare le precise parole del re, la bassezza e l'assurdità del cattolicesimo. I suoi tutori dovevano insegnargli a disprezzare il lusso, la mollezza, il vizio, insomma farne un vero uomo, un vero cristiano e un vero soldato. Nessuno si stupirà, credo, apprendendo che il meraviglioso programma educativo, allestito da Federico Guglielmo per il principe ereditario, risultò in un completo fallimento. O almeno questa fu l'impressione dei due interessati, e anche di tutti quelli che ebbero la disgrazia di esservi coinvolti. Federico doveva essere allevato come un vero tedesco, senza libri inutili e senza pericolose lingue straniere, ma nell'ambiente di sua madre trovò tutti gli stimoli per assaggiare il frutto proibito. A nove anni, con la complicità della solita sorella maggiore, leggeva di nascosto romanzi francesi, e imparò addirittura a leggere l'italiano. Quando fu più grande, con la complicità di uno dei suoi precettori, si costituì una biblioteca segreta, in una casa presa in affitto di nascosto, vicino al Palazzo Reale, e lì mise insieme qualcosa come tre o quattromila libri, fra cui tutti i primi grandi autori dell'illuminismo, Locke e naturalmente Voltaire. Il padre voleva fare di lui un principe tedesco, Federico per tutta la vita pensò, parlò e scrisse in francese. Il tedesco lo parlò sempre male, lo considerava una lingua barbara che era costretto a usare per parlare con gli inferiori, e se ne vantava, parlo tedesco come un cocchiere. Quando cercò di leggere il più grande filosofo tedesco dell'epoca, Wolf, dovette farselo tradurre in francese, e nel suo Palazzo di Saint-Souci non fece mai entrare neanche un libro tedesco. E continuiamo allora. Federico doveva essere allevato come un buon cristiano nella fede riformata. Suo padre aveva in orrore la teoria della predestinazione, che era diffusa fra i calvinisti più rigorosi. Proibì anche soltanto di menzionarla nell'educazione del bambino. Ora, finché Federico rimase un bambino, la cosa funzionò. Quando aveva otto anni risulta che sotto la guida dei suoi precettori scrisse un saggio, regole di vita per un principe di alta nascita. E lì dichiarò che un principe deve temere Dio e deve seguire la fede riformata. Ma durò poco. In seguito e per tutta la vita Federico si infischiò completamente della religione. Ma l'unica questione religiosa che in qualche modo lo appassionava e di cui gli piaceva discutere era precisamente la dottrina della predestinazione. E poi? Suo padre aborriva più di tutto i filosofi francesi, stranieri e atei. A sedici anni Federico firmò una lettera a Guglielmina, Frédéric le philosophe. Suo padre disprezzava la musica, Federico di nascosto si dedicò al flauto. Ma la cosa più sorprendente per noi che conosciamo la futura carriera di Federico è che da ragazzo odiava anche la vita militare. Odiava portare la divisa, una volta la definì un sudario. Appena poteva se la toglieva e si vestiva con abiti all'ultima moda parigina, confezionati da sarti francesi. Ecco, semmai c'è stato un esempio di educazione fallita, questa fu l'educazione escogitata dal re sergente per il suo principe ereditario. Tuttavia abbiamo già visto che in realtà ci sono in Federico diversi aspetti in cui l'impronta paterna viene fuori, somigliante come un calco. E anche lo sforzo di appassionarlo alla vita militare, lo sforzo di convincerlo che l'esercito è la cosa più importante di un regno e che la gloria militare è il destino più alto per un re, ebbè quello sforzo alla fine riuscì. Vale la pena di citare una delle disposizioni di Federico Guglielmo. I precettori avevano l'ordine di instillargli il più possibile un vero amore per la professione militare e convincerlo che niente al mondo può dare a un principe più fama e onore della spada e che sarebbe la creatura più spreggevole della terra se non nutrisse reverenza per la spada e non cercasse lì la sua gloria. Ecco sono parole che oggi suonano un po' sinistre ma profetiche e da questo punto di vista non possiamo non concludere che in realtà il progetto educativo di Federico Guglielmo riuscì fin troppo bene. Noi oggi possiamo stupirci di come alla fine Federico il Grande sia venuto fuori così somigliante a suo padre, almeno sotto molti aspetti, mentre da ragazzo Federico odiava e disprezzava il padre con tutte le sue forze e l'idea di assomigliare a lui gli avrebbe fatto orrore. Dall'altra parte stessa cosa. Il re sergente non capiva il figlio, aveva degli accessi di rabbia tutte le volte che discuteva con lui, si disperava che il ragazzo stesse crescendo così male e alla fine arrivò seriamente a pensare di diseredarlo. Per come la vissero loro due l'educazione di Federico si trasformò in una tragedia per entrambi, per il figlio ma anche per il padre. Già Federico Guglielmo era sconcertato di avere fabbricato un erede così meschino dal punto di vista fisico, perché Federico era piccolo, magro, per niente atletico, era negato per la caccia. Il re si era inventato la passione per i granatieri giganti e adesso si ritrovava come erede un ragazzino effeminato, pensava lui, sempre malato, uno che non osava neanche guardarlo in faccia. Ci sono dei racconti, da questo punto di vista, tremendi nelle memorie dei cortigiani. Il re piombava all'improvviso nelle stanze di Federico per controllare cosa stava facendo. In genere trovava delle cose che non gli piacevano, andava su tutte le furie, lo prendeva a schiaffi e gli intimava di giustificarsi e quello per la paura non osava neanche aprire bocca. Se ne stava lì zitto, con gli occhi bassi e il re dava di matto. Erano tutti terrorizzati, non solo Federico, ma tutti i suoi domestici e i precettori che potevano essere licenziati o anche sbattuti in galera per un non nulla. Federico stava zitto, ricacciava le lacrime e in cuor suo sperava che il padre morisse. Qualcuno magari si chiederà come facciamo a sapere cosa passava nel cuore di Federico, ma forse ci ricordiamo che Federico certe cose le scriveva nelle sue lettere a Guglielmina, con lei si confidava e di queste speranze ne parla più volte. Ovviamente Federico Guglielmo era deluso, amareggiato, e offeso di questo figlio de genere. La considerava veramente un'offesa personale, il fatto che suo figlio stesse venendo su così diverso da come lui l'avrebbe voluto. Quando Federico aveva dodici anni, per la prima volta il re confidò a un amico che c'era qualcosa che non andava. Cito, non capisco che cosa passa in quella piccola testa, ma so che non la pensa come me. O la colpa naturalmente era dei precettori, tutti furfanti da licenziare, ma anche della regina e delle principesse e delle cortigiane che gli mettevano in testa chissà cosa. Al re sembrava che da tutte le parti si congiurasse per portargli via suo figlio. Man mano che il ragazzo cresceva andò sempre peggio. Il comportamento di Federico diventò diventò una sfida permanente a suo padre. Al re sergente sembrava che il ragazzo sfidasse apposta tutti i suoi valori, tutti i suoi principi. Insomma, tutte le paure che un padre può avere quando vede crescere un figlio diverso da come lo vorrebbe, lì si stavano materializzando. Federico Guglielmo reagiva a modo suo. Piombava in camera di Federico e ogni tanto buttava nel fuoco qualche abito francese, qualche vestaglia di seta, ma il damerino riusciva sempre a procurarsene di nuovi e si faceva pettinare alla moda di Parigi. Come un cacatua, disse una volta il re. Si vede che già allora i genitori e i figli non erano fatti per andare d'accordo sul taglio dei capelli. Quando era costretto a seguire il padre nelle sue partite di caccia, Federico si portava il flauto nella sacca e appena possibile se la sviniava si nascondeva da qualche parte e passava il tempo a suonare. Il re era fuori di sé e si lamentava con i suoi amici del collegio del tabacco. Gli era toccato come erede un pifferaio e un poeta. Il conflitto fra Federico Guglielmo e suo figlio maggiore covò a lungo sotto la cenere e sotto gli occhi dei cortigiani spaventati che si aspettavano che prima o poi succedesse qualcosa di tremendo. Pian piano l'adolescenza di Federico diventò una specie di inferno per lui e per suo padre. Anche qui c'è un'ironia, sono cose che succedono ancora oggi in qualunque famiglia. Alla fine, dopo tutto, il desiderio del re sergente di vivere come un normale padre di famiglia era stato soddisfatto. Tutto quello che amava Federico era costretto a farlo di nascosto, che si trattasse di leggere libri o di suonare o perfino di vedere la madre, perché Federico Guglielmo, che normalmente appunto con la moglie non aveva buoni rapporti, era ossessionato all'idea che fosse lei a rovinare Federico e cercava di tenerli separati. Quando era col figlio il re lo prendeva continuamente di punta, lo interrogava, lo insultava e quando Federico rifiutava di rispondergli lo picchiava anche in pubblico, perfino quando erano in visita presso una corte straniera. Federico subiva, Guglielmina scrive nelle sue memorie che era semplicemente pietrificato dalla paura e dice anche che continuò ad aver paura di suo padre per tutta la vita. Il re invece si convinceva sempre di più che suo figlio era un degenerato, un vigliacco, una femminuccia. Se mio padre mi avesse trattato così, disse una volta, mi sarei fatto saltare le cervella, ma questo ragazzo è senza onore. Ora, ovviamente una situazione del genere in vita a ogni tipo di interpretazioni, anche psicanalitiche, e effettivamente gli storici che amano le letture psicanalitiche trovano che nel comportamento di Federico Guglielmo c'è un tratto di psicosi molto riconoscibile, ed è l'odio inconscio per quello che era destinato a prendere il suo posto. Già all'epoca un ambasciatore scrisse a chiare lettere che il re era geloso del principe ereditario. Una volta Federico Guglielmo prese di punta suo figlio davanti agli ufficiali e lo accusò di congiurare per ucciderlo, non apertamente perché sei troppo vigliacco, ma gli avrebbe dato prima o poi una pugnalata alla schiena. Diciamo ancora una cosa che qualche anno dopo, quando il re ormai era in punto di morte, aveva la gotta, l'idropisia, ogni sorta di malattie, e tuttavia continuava a passare la notte a bere e a fumare al collegio del tabacco, ebbene una volta Federico entrò nella stanza, ormai era il principe ereditario, era adulto, il re stava per morire, tutti i presenti si alzarono in piedi, che non era previsto dall'etichetta, perché i generali in Prussia erano tenuti ad alzarsi in piedi soltanto quando entrava il re. Ebbene Federico Guglielmo ebbe un attacco di collera, li cacciò tutti dal palazzo, gridando che gli avrebbe insegnato lui a rendere omaggio al sole nascente. Ecco, è un tema abbastanza ovvio, insomma, questo del conflitto tra il padre che se ne sta andando e il figlio che aspetta di prendere il suo posto. Questa era la gente che non aveva letto Freud e che però queste cose le sapeva esprimere. Federico, quando era principe ereditario, sul soffitto del salone del suo palazzo fece affrescare Apollo, il dio del sole, che spunta all'orizzonte e disperde le nubi. Ecco, evidentemente questo tema appunto del sole nascente era un'ossessione per tutti e due, non c'è bisogno di essere psicanalisti per capire cosa voleva dire. Ma per adesso siamo ancora lontani da quegli ultimi anni. Stiamo parlando del 1730, quando Federico era un adolescente e a palazzo si moltiplicavano le scenate con il re che lo costringeva a mangiare cose che non gli piacevano e gli tirava dietro i piatti e quando era inchiodato sulla sedia a rotelle, da un attacco di gotta come gli succedeva di solito, gli arrancava dietro e cercava di bastonarlo con le stampelle. Alla fine Federico scrisse una letterina a suo padre chiedendogli se lo odiava. Il re gli rispose, il principe ha un carattere ostinato e malvagio e non ama suo padre. Un figlio che ama suo padre gli ubbidisce. Io non so cosa farmene di un ragazzo effeminato che non sa cavalcare né sparare e che per di più è sporco, non si taglia mai i capelli e se li arriccia come un idiota. Un signorino presuntuoso che non si degna di parlare con nessuno, fa solo smorfie come se fosse matto. Ecco noi qui non vogliamo esagerare con le attualizzazioni ma evidentemente la difficoltà dei padri di capire i figli adolescenti esisteva già prima che fosse inventato il concetto di adolescenza. Nel nostro racconto della vita di Federico il Grande, re di Prussia, siamo arrivati a una svolta decisiva, all'episodio che forma la cesura fra l'adolescenza e la vita adulta. Un episodio che gli provocò un trauma da cui secondo molti il suo carattere uscì danneggiato in modo permanente e come vedremo effettivamente è un episodio abbastanza traumatico. Federico aveva 18 anni e aveva un rapporto così catastrofico col padre che prese una decisione disperata, scappare di casa. Che i ragazzini in crisi adolescenziale nutrano spesso progetti di questo genere, si sa, è un luogo comune, ma un principe ereditario che scappa di casa è già una cosa più insolita. Eppure Federico ci pensò seriamente e si preparò a lungo, aspettando l'occasione. Ne parlò con sua sorella Guglielmina, sappiamo già, ne abbiamo parlato, che era la sua unica confidente, l'unica persona con cui parlasse sinceramente e forse l'unica persona a cui voleva davvero bene. Guglielmina cercò di spiegargli che stava facendo una sciocchezza, ma non sembra che sia servito a molto. Ne parlò anche con l'ambasciatore inglese e questo è un po' più grave, perché la sua prima idea era stata di scappare in Inghilterra dallo zio, il re Giorgio II. L'ambasciatore inglese ovviamente si mise le mani nei capelli e lo pregò caldamente di non fare niente del genere. Venne l'estate del 1730 e il re decise di fare un viaggio di stato attraverso la Germania, di andare a trovare un certo numero di principi, parenti o alleati, e fu deciso che Federico lo avrebbe seguito. Era l'occasione d'oro per scappare da quella prigione che era il regno di Prussia e il principe diciottenne decise di coglierla al volo. In questo progetto di fuga di Federico ebbero un ruolo importante due personaggi che adesso dobbiamo introdurre per la prima volta, i suoi migliori amici, anzi forse gli unici amici intimi che abbia mai avuto, perché dopo l'episodio traumatico che stiamo per raccontare non ebbe mai più amicizie veramente intime e neanche affetti profondi a dire la verità. L'amico più caro in assoluto del principe Federico era un tenente von Catte, un uomo più maturo di lui perché aveva già 26 anni, ufficiale di cavalleria, di ottima famiglia, relazioni brillanti, destinato a una bella carriera. Questo Catte era un aristocratico spavaldo, spregiudicato, libertino, molto sicuro di sé. Si può capire che Federico ne fosse affascinato e per un po' di tempo anche molto influenzato, come succede nell'adolescenza. Erano così intimi che qualcuno cominciò a sparlare di loro e dopo di allora gli storici non hanno più smesso di chiedersi se fra quei due non ci fosse qualcosa di più di un'amicizia fra adolescenti. Bisogna anche dire che Federico aveva anche un altro amico inseparabile, da cui non voleva mai staccarsi, un paggio di corte che poi era diventato anche lui ufficiale e si chiamava Von Keith. Ecco, Guglielmina, la sorella è molto ambigua quando parla di queste amicizie nelle sue memorie, di questo giovane tenente von Catte e di questo ancora più giovane paggio von Keith. Guglielmina dice sapevo della loro amicizia per mio fratello, ma non sapevo quanto fosse intima. Se aggiungiamo l'ostentata indifferenza di Federico per le donne, del Federico maturo dico soprattutto, beh, si capisce che i pettegolezzi non si siano mai fermati. Noi non sapremo mai fin dove si sia spinta davvero questa amicizia a tre. Va comunque registrato che il Federico adolescente non era così indifferente alle ragazze come il Federico maturo e nella sua corrispondenza i riferimenti a Scappatelle e a Morazzi non mancano. Quello che è certo è che i tre erano inseparabili e decisero di fuggire insieme. Federico staccò dalle sue decorazioni le pietre preziose, le sostituì con vetrini perché nessuno se ne accorgesse e le fece vendere di nascosto per procurarsi dei fondi e pagare la fuga di gruppo. Federico aveva deciso di fuggire di notte, mentre il re e il suo seguito facevano tappa in un villaggio vicino a Heidelberg. Siamo nella Germania meridionale, lontani dalla maledetta Prussia, c'erano solo 70 chilometri fino alla frontiera francese. Se Federico fosse riuscito a arrivare fin là, la mano del re e suo padre non avrebbe più potuto raggiungerlo. Uno dei suoi complici, il fratello del tenente von Keith, che era anche lui un paggio a seguito del re e quindi accompagnava questa spedizione, questo viaggio all'estero della corte, ebbene questo paggio doveva sellare due cavalli e raggiungere Federico alle due di notte. Gli altri amici Katte e Keith erano di servizio con i loro reggimenti, non avevano potuto liberarsi, ma erano d'accordo che si sarebbero ritrovati tutti quanti all'estero più tardi. A luna di notte di sabato 5 agosto 1730 Federico si alzò di nascosto, si vestì con un abito borghese e con una cappa rossa che si era fatta confezionare apposta per la fuga per chissà quale suggestione romanzesca, e uscì nella notte ad aspettare i cavalli. Ma c'erano degli ufficiali che il re aveva incaricato di sorvegliarlo durante tutto il viaggio, e questi ufficiali non dormivano e si accorsero che c'era qualcosa di strano. Uscirono anche loro, trovarono il principe così, all'aperto, in piena notte, vestito in borghese, lo costrinsero a tornare dentro e a rimettersi l'uniforme, perché se il re lo avesse sorpreso vestito così non si sapeva cosa poteva succedere. Forse sarebbe finito tutto lì, ma il mattino dopo il complice, il paggio, terrorizzato, si buttò ai piedi del re e gli confessò tutto. Il re per il momento non disse niente, e teniamo conto che la situazione era assurda, perché erano tutti quanti all'estero, dove quindi lui, il re di Prussia, non aveva nessuna autorità, non poteva far niente. Quel giorno, quando il figlio venne a salutarlo, Federico Guglielmo lo guardò di traverso e gli disse, credevo che a quest'ora fossi a Parigi. Poi convocò segretamente gli ufficiali che scortavano il principe ereditario, e ordinò che sulla loro testa, alla fine del viaggio, dovevano riportarlo in territorio prussiano. Intanto però il viaggio continuava e bisognava fare finta di niente. La domenica a Francoforte salirono tutti su una nave da crociera per discendere il meno, e lì fu consegnata al re una lettera di Federico a Catte, una lettera che era stata intercettata, e leggendole il re capì per la prima volta che suo figlio aveva dei complici, ed ebbe l'impressione che ci fosse qualcosa come una congiura contro di lui. Aveva sempre pensato che suo figlio un giorno o l'altro avrebbe congiurato, e adesso gli sembrava di avere la prova di questa congiura, e si spaventò a morte. Essendo l'uomo che era, affrontò Federico, gli strappò i capelli, lo colpì in faccia con la canna. Non ordinò ancora di arrestarlo, ma lo fece tenere sotto scorta. Quando il gruppo scese a terra dalla nave, i guardiani avevano l'ordine di riportarlo a bordo, vivo o morto. Federico riuscì ancora a mandare un biglietto al tenente von Kite. Salvati, tutto è stato scoperto, e Kite fece in tempo effettivamente a fuggire, e si salvò in Inghilterra. Il 12 agosto, dopo quindi una settimana di questo viaggio allucinante, travestito da vacanza, rientrarono in territorio prussiano, e immediatamente il re informò Federico che era sotto arresto per diserzione, un crimine che prevedeva la pena di morte. Poi lo spedì sotto scorta, in una lontanissima fortezza, Küstrin, sull'Oder, alle frontiere orientali del Brandeburgo. I guardiani avevano l'ordine di non perderlo mai di vista. È molto furbo, gli avvertì il re, e userà mille astuzie per evadere. A Küstrin, Federico venne rinchiuso in una cella senza mobili, senza candele, senza riscaldamento, vestito con un abito da carcerato di panno bruno, grezzo. Nessuno aveva il diritto di rivolgergli la parola, e i pasti arrivavano già tagliati a pezzettini, in modo che non avesse bisogno di coltello. Un servo veniva tre volte al giorno a svuotare il bugliolo. Non poteva avere libri, tranne la Bibbia. Il ritorno del re a Berlino, dopo la tentata fuga e l'arresto di Federico, fu una scena da tragedia elisabettiana. Federico Guglielmo fece irruzione negli appartamenti della regina, le disse in faccia che suo figlio era morto, e si mise a frugare alla ricerca delle sue lettere, per trovare le prove della congiura. La sorella preferita, la confidente di Federico, Guglielmina, svenne. Quando si riprese, il re la colpì a pugni in faccia, e l'avvertì che la colpa era tutta sua, e che l'avrebbe pagata con la testa. Poi disse alla regina di smetterla di frignare, che quel furfante di Fritz non era ancora morto, ma lo ammazzerò. Poi diede ordine di tagliare la lingua a chiunque osasse parlare in pubblico di questa faccenda. Tutti coloro che erano stati più vicini al principe ereditario, precettori, domestici, vennero tutti quanti licenziati, se erano fortunati, e se no mandati in esilio, o sbattuti in galera. Ecco, anche se sembra incredibile, Federico rischiava la pelle davvero. Il re aveva molti altri figli maschi. Non ne abbiamo parlato finora, perché erano tutti piccoli. Federico non aveva un grande rapporto con loro, ma questi figli c'erano. Il re non aveva nessun bisogno di lui. Per qualche motivo il confidente di Federico, il tenente Foncatte, non era scappato. L'altro amico, Foncaeth, sì, ma Foncatte no. E il re lo fece arrestare, ovviamente, e lo fece sottoporre a durissimi interrogatori. Volevano fargli confessare che il principe ereditario aveva congiurato contro il regno. Non si arrivò a mettere catte alla tortura, come pretendeva il re, perché era figlio e nipote di generali, e lo scandalo sarebbe stato troppo grande. Però lo interrogavano in presenza del boia e con gli strumenti di tortura in bella vista, in modo che avesse qualcosa a cui pensare. Anche Federico era interrogato continuamente da un tribunale militare. Il re aveva preparato un questionario di 185 domande a cui l'accusato doveva rispondere, e anche a Federico fu minacciata la tortura. Federico confessò poi a Guglielmina che si era sentito gelare il sangue nelle vene, quanto gliene avevano parlato. Si andò avanti qualche settimana in questo modo. Ovviamente i due erano separati, rinchiusi in fortezze separate, venivano interrogati separatamente, tutti e due negavano. Non c'era stata nessuna congiura, non avevano mai complottato contro il re. Federico insisteva che il suo amico non aveva nessuna colpa, l'idea di fuggire era venuta a lui e basta. Il re ovviamente era fuori di sé. Ricordiamoci che il capo d'accusa contro Federico era di diserzione, perché il principe era pur sempre colonnello dell'esercito. A quell'epoca i principi ereditari diventavano colonnelli appena nati. E il codice militare prussiano prevedeva la pena di morte per la diserzione. Però anche qui, attenzione, nemmeno un sovrano assoluto era così potente da poter far ammazzare suo figlio senza doverne rispondere in qualche modo. In questo caso specifico, il re di Prussia era ancora un vassallo del sacro romano impero. C'era un imperatore che era il superiore di tutti i principi tedeschi. Anche il principe ereditario di Prussia avrebbe avuto diritto di fare appello all'imperatore se fosse stato condannato a morte e ne sarebbe venuto fuori uno scandalo politicamente insostenibile. Quindi il re, da un certo punto di vista, faceva fatica a portare avanti l'accusa. Però se Federico avesse confessato di aver congiurato contro lo Stato, ebbè allora forse il re non lo avrebbe condannato a morte comunque, ma sarebbe stato abbastanza forte da costringerlo a rinunciare alla successione. I verbali degli interrogatori danno l'impressione che fosse proprio quella l'intenzione del re. Specialmente le ultime domande battevano tutte su quel punto. A Federico si chiedeva se dopo quel che aveva fatto meritava ancora di regnare e se per avere salva la vita non avrebbe fatto meglio a rinunciare al trono. Anche Federico aveva capito che la posta in gioco era quella. E riuscì a rispondere sempre con tanta ambiguità e con tali giri di parole da non compromettersi mai. Si sottometteva alla volontà del re, ma confidava che il re non sarebbe stato così crudele con lui, eccetera, eccetera, eccetera. Appigli non ne fornì mai. Davanti al mondo la responsabilità di un'eventuale condanna rimaneva tutta sulle spalle di suo padre. Alla fine delle indagini, in una triste giornata autunnale, il tribunale militare si riunì per giudicare il principe ereditario Federico e il tenente Foncatte, imputati di diserzione. Era composto da tre tenenti, tre capitani, tre maggiori, tre colonnelli, tre generali, tutti estratti a sorte, perché nessun ufficiale aveva accettato di farne parte. Ogni grado doveva esprimere un voto partendo dal basso, prima i tenenti, poi i capitani e così via. E la cosa forse più bizzarra, ma siamo in un regno devoto e protestante, è che il verdetto doveva essere espresso tramite la scelta di un passo biblico appropriato. Il vecchio generale von Dönhoff lesse il passo del dolore di Davide quando gli viene annunciata la morte di Assalonne e grida, ah mio figlio Assalonne, mio figlio Assalonne. Tutti i gradi dichiararono di non essere competenti per giudicare il principe ereditario e lo raccomandarono alla misericordia del re. Per catte, tre dei voti erano per la condanna a morte, due per la reclusione a vita. Il presidente del tribunale, che contava come sesto voto, scelse la reclusione a vita e secondo le leggi militari in caso di parità prevaleva la pena più mite. Il re impazzì di rabbia, accusò il tribunale di criminale indulgenza, inveì contro i giudici minacciando di destituirli e sbattere in galera anche loro e pretese che la sentenza fosse cambiata. È una storia che nella sua tragicità è molto affascinante per uno storico perché è emblematica di quei conflitti fra il potere assoluto del re e gli organi della giustizia e della legge. Conflitti che non erano rari nell'Europa dell'ancien regime perché erano proprio soltanto i tribunali che in qualche modo cercavano ancora di frenare l'assolutismo dei re e di costringere anche i re a ubbidire alla legge. E anche in questo caso il tribunale all'inizio tenne duro. Federico Guglielmo non si sentì abbastanza forte per far giustiziare il figlio o anche solo per escluderlo dal trono. Nei suoi confronti semplicemente non decise nulla. A pagarla per tutti fu catte. Il re dichiarò che meritava di essere torturato con tenagli roventi e squartato sulla pubblica piazza, ma per riguardo alla sua famiglia lo avrebbe fatto semplicemente decapitare. E stavolta nessuno osò più opporsi. Quando il vecchio generale Foncatte venne a implorare pietà per suo figlio, il re gli disse «Tuo figlio è un furfante, è il mio anche, e noi, poveri padri, non possiamo farci niente». Il 6 novembre alle 5 del mattino Federico venne svegliato nella sua cella da due ufficiali. Si spaventò credendo che stessero per giustiziarlo. Nel cortile il giorno prima avevano eretto un tibolo, tutto coperto da un drappo nero, e il comandante della prigione aveva avuto ordine di farglielo vedere e non dirgli niente. Quel mattino gli rivelarono che era per catte, e che su ordine del re lui doveva assistere all'esecuzione del suo amico. Oh, Federico durante gli interrogatori aveva sempre scagionato catte, da qualunque colpa, aveva sempre dichiarato che lui non c'entrava niente. Adesso, nel panico, chiese di poter scrivere al re e disse che era pronto a rinunciare al trono, pur di salvare la vita al suo amico. Ma il re aveva ordinato che l'esecuzione non fosse ritardata per nessun motivo. Alle sette, catte salì il patibolo, e Federico venne obbligato a andare alla finestra della cella. Salutò l'amico e gli chiese perdono. Gli disse che avrebbe dovuto essere lui al suo posto. Catte rispose che non aveva nulla da perdonare e che era felice di morire per lui. Poi appoggiò la testa sul ceppo. Quando il boi alzò la spada, Federico svenne. E noi lo lasceremo lì, svenuto, questo Federico diciottenne e non ancora il grande, nella sua cella della fortezza di Küstring, e torneremo a raccontare di lui lunedì prossimo. Avevamo lasciato Federico diciottenne svenuto nella sua cella della fortezza di Küstring, dopo essere stato costretto ad assistere alla decapitazione del tenente Foncatte. Molti pensano che questo trauma, l'arresto, il processo e soprattutto l'esecuzione del suo migliore amico, molti pensano che questo trauma abbia determinato una trasformazione, anzi un completo capovolgimento del carattere di Federico. E effettivamente, a prima vista, nel Federico maturo si ritrova poco dell'adolescente timido, ma anche frivolo, amante dei divertimenti e delle avventurette, quell'adolescente insomma che emerge dalla sua corrispondenza di ragazzo. Invece nel Federico adulto vengono fuori i tratti di carattere che corrispondono all'impronta di suo padre, il senso del dovere ossessivo, l'avarizia, l'attaccamento alla divisa e alla vita militare. Ecco, secondo un'interpretazione psicanalitica molto diffusa, questa non era la vera natura di Federico. Era piuttosto un travestimento. Un travestimento che il ragazzo adottò dopo il trauma, come per corrispondere finalmente alle aspettative che gli adulti avevano su di lui. Un travestimento che solo col tempo diventò una seconda natura. Quello che è certo è che da questo momento diventa difficilissimo leggere il carattere di Federico e indovinare i suoi sentimenti. Ogni volta che si cerca di andare un po' più in profondità ci si trova davanti a un muro. Nei comportamenti viene fuori duplicità sempre, se non doppiezza morale. Soprattutto i dieci anni che passano dalla tragedia di Küstrin fino alla morte di Federico Guglielmo e all'ascesa al trono di Federico, questi dieci anni sono noti agli storici come il periodo dell'ipocrisia. In una biografia recente il capitolo destinato a questo decennio si intitola L'attore, perché Federico formalmente si era sottomesso. Ammetteva i suoi errori, dichiarava di essere pronto a tutto per riguadagnare la stima di suo padre. E il re sergente, poco per volta, o sempre sospettoso, pronto a dare di matto alla minima contraddizione, però cominciò a sgelarsi. C'erano anche dei motivi politici, naturalmente. Da tutte le corti europee arrivavano segnali di stupore e di malcontento per quel modo di trattare il suo principe ereditario. Da una parte il re era furioso che gli altri re si permettessero di mettere il naso nelle faccende sue, ma d'altra parte non poteva non riflettere sullo spettacolo che stava dando. Bisogna dire che gli ambasciatori stranieri a Berlino e gli stessi ministri del re avevano paura. Avevano paura che il principe fosse, non dico giustiziato, perché a quello si credeva poco, ma che lo lasciassero morire in prigione. Avevano paura e tutti cercavano di ammansire il re. E alla fine, dopo qualche settimana di indecisione, Federico Guglielmo decise che forse, in futuro, Federico avrebbe potuto essere perdonato. Ma il perdono doveva guadagnarselo. Fu liberato dalla fortezza, ma rimase agli arresti domiciliari a Küstrin. Ebbe di nuovo il diritto di portare la spada, che aveva una valenza simbolica fortissima per un nobile, ma non l'uniforme che in Prussia ne aveva altrettanta di valenza simbolica. L'uniforme che secondo suo padre aveva disonorato cercando di fuggire dal regno e quindi di disertare. Prima di essere riabilitato doveva dimostrare di essere cambiato davvero. Perciò, e la condanna fu questa, sarebbe rimasto a Küstrin fino a nuovo ordine, partecipando tutti i giorni a tempo pieno alle sedute dell'amministrazione locale, la regia camera dei domini e delle foreste. Avrebbe partecipato a queste riunioni come un qualunque impiegato, prendendo appunti, così avrebbe imparato dal vero come si amministra un paese. Il re era preoccupato che suo figlio diventasse finalmente una persona seria, un bravo amministratore e soprattutto economo, che veda coi suoi occhi come fa un contadino a guadagnare un tallero. Mentre Federico se ne stava in punizione a Küstrin, suo padre non smetteva un momento di pensare a lui. I custodi dovevano riferire tutto al re e ricevevano continuamente istruzioni dettagliatissime. Può darsi che Federico Guglielmo cercasse di tacitare un rimorso, ma di fatto si dimostrava sfiduciato e sospettoso. Le avvertiva di stare attenti perché Federico era un briccone e tornava sempre a rimuginare su quei comportamenti di suo figlio che lo esasperavano. Cito dalle sue lettere, non si taglia mai i capelli, cammina come un ballerino, non ti guarda mai in faccia, è sporco da far paura, mangia come un maiale col naso nel piatto, fa sempre delle smorfie e si comporta come un matto. Il re era soprattutto preoccupato di informarsi dal cappellano di Küstrin sui sentimenti religiosi del figlio, e anche lì quello che sentiva non gli piaceva. Il cappellano aveva lunghe conversazioni col principe e da parte di Federico continuava a saltar fuori un interesse per la dottrina della predestinazione, proprio quella dottrina che era la bestia nera del re. Scrisse al cappellano che se Federico doveva andare all'inferno ci andasse pure, ma intanto bisognava dimostrargli che aveva torto e cercare di convertirlo. Però il cappellano doveva stare attento che non si fidasse di quello che gli diceva il principe. Cito ancora, in lui non c'è niente di buono tranne la lingua, in quella non c'è niente che non va. Quando nel pieno dell'inverno Federico si ammalò, suo padre reagì con apparente indifferenza, o forse con ostentata indifferenza. Visto che è predestinato non c'è da preoccuparsi. Comunque non morirà, perché l'erba cattiva non muore mai. Passarono nove mesi così, prima che il re decidesse di venire a Küstrin a vedere se quel cuoricino malvagio è cambiato o è ancora pieno di ipocrisia. Federico si gettò ai suoi piedi e il padre cominciò a interrogarlo. Era Catte che lo aveva corrotto o piuttosto il contrario? Sono io che l'ho corrotto, disse Federico. Il re fu soddisfatto. Bene, sono contento di sentirti dire la verità, per una volta. A tutte le domande Federico rispose esattamente a quello che il padre voleva sentire. Naturalmente uno si chiede se questa fosse davvero la prova che il suo cuore non era più pieno di ipocrisia, ma il re era contento, però non voleva farlo vedere. Gli fece un lungo discorso dove in sostanza gli disse lo so che non ti piaccio, io non ho lo spirito e le maniere francesi che ti piacciono tanto, sono un principe tedesco io e voglio vivere come un principe tedesco. Era diventata un'ossessione anche quella per Federico Guglielmo. Ai custodi di suo figlio aveva raccomandato di costringerlo a diventare tedesco. Doveva bere birra e non champagne. Ecco, sotto questo aspetto vedremo presto che le aspettative del re sergente erano destinate a essere deluse. Federico non diventò mai un tedesco e del resto già a Küstrin a un certo punto trovò un medico disposto a dichiarare che doveva bere champagne per ragioni di salute. Sul piano religioso le cose non andarono molto meglio. Federico era costretto a lunghe conversazioni quotidiane col cappellano e ogni domenica doveva sentire tre messe. Il risultato è che ne uscì fuori completamente indifferente alla religione. Però sotto altri aspetti la rieducazione riuscì. In quasi un anno e mezzo passato a Küstrin a seguire tutti i giorni i lavori dell'amministrazione si sviluppò in Federico una passione per il dettaglio e per l'economia che non lo abbandonò mai più. Al padre mandava certi rapporti minuziosissimi. Riferiva di aver comprato cavalli per l'esercito, di averli esaminati personalmente uno ad uno, aver ispezionato la fabbrica di vetro che c'era lì in zona e mandava al re dei campioni di prodotto. Aveva suggerito ai contadini dei miglioramenti nel modo di arare i campi, figuriamoci un po' questo principino che andava a insegnare i contadini a arare. E comunque lo faceva molto seriamente e può darsi che all'inizio lo facesse solo per compiacere il re, però poi continuò a farlo per tutta la vita. L'altro aspetto della rieducazione di Federico che ebbe pieno successo fu quello militare. Quando il re suo padre decise che si era riabilitato, gli permise di lasciare Küstrin, appunto dopo un anno e mezzo di prigionia, e gli permise soprattutto di indossare l'uniforme, che in Prussia era fondamentale, cioè non portava l'uniforme non era nessuno, e gli diede il comando di un reggimento di nuovo. Ma stavolta non era più soltanto un comando simbolico, come quando era un ragazzo. Adesso aveva vent'anni e doveva imparare il mestiere sul serio. Perciò Federico non tornò a Berlino e non tornò neanche alla vita di corte. Fu spedito in un'altra cittadina di provincia, un altro buco, stavolta si chiamava Noi Ruppin, dove era stanziato appunto il suo reggimento. E lì fece davvero il colonnello. Se uno lo prendeva sul serio era un impegno a tempo pieno e Federico era obbligato a prenderlo sul serio. A Guglielmina, che gli scriveva per chiedere notizie, rispondeva, ho fatto gli esercizi, faccio gli esercizi, farò gli esercizi, ecco tutte le notizie. E però anche qui, a forza di fare quel mestiere, cominciò ad accorgersi di una cosa inaspettata che in fondo gli piaceva. Quella vita non solo in mezzo ai soldati, ma soprattutto quella vita con le responsabilità di un comandante, sempre impegnata a organizzare, a ispezionare, a punire, con un organismo complesso interamente ai suoi ordini e con il compito di mantenerlo in perfetta efficienza, anzi, se possibile, di migliorarlo. Ecco, questo era qualcosa che rispondeva alla sua natura. Quando divenne re e si trovò di colpo libero di fare quello che voleva, non smise affatto. Semplicemente cominciò ad applicare lo stesso impegno all'intero esercito prussiano, anziché a un solo reggimento. Nel 1734, a 22 anni, Federico partecipò per la prima volta in vita sua a una campagna militare e ne tornò entusiasta. Il re suo padre aveva affittato 10.000 uomini all'imperatore, che era in guerra con la Francia, e Federico ebbe il permesso di accompagnarli sul reno, e conobbe personalmente il comandante dell'esercito imperiale, il principe Eugenio. Era il soldato più famoso del suo tempo, quello che quasi trent'anni prima aveva vinto la battaglia di Torino. A questo punto era già molto vecchio, era quasi decrepito, e come generale era l'ombra di se stesso, però Federico rimase lo stesso impressionatissimo di fare la conoscenza di questo mostro sacro, che aveva una presenza così forte nell'immaginario dell'epoca. E lì, cenando col principe Eugenio, assistendo alle sue manovre, che cominciò a corrispondere a un altro desiderio di suo padre. Federico cominciò davvero a pensare alla gloria militare come al solo destino degno di un principe. Nella sua vita in quegli anni ci fu un'altra grande novità, il matrimonio. Naturalmente fu un matrimonio imposto dal padre, senza tenere conto di nessun desiderio. Non fu consultata la madre, Federico ovviamente venne a sapere tutto quando era già tutto deciso. E non fu un matrimonio conforme ai suoi desideri, perché la mamma di Federico, forse se lo ricordiamo, era sorella del re d'Inghilterra, e avrebbe voluto che lui sposasse una principessa inglese. E Federico da ragazzo era d'accordo con la madre, perché, anche qui cerchiamo di immaginarci la situazione, sposarsi con la casa regnante inglese sarebbe stato un matrimonio splendido, prestigioso per un re di Prussia, che era pur sempre un re di secondo piano in Europa ancora. Avrebbe avuto una ricaduta internazionale e clamorosa, Federico Guglielmo non ne volle sapere. Gli inglesi erano stranieri e non gli piacevano, suo figlio doveva sposare una brava principessina tedesca, che fosse una buona padrona di casa e che gli facesse tanti figli. E pazienza se non sarebbe stato un matrimonio illustre. Venne scelta una principessa, Elisabetta di Brunswick, che non era né bella né ricca, ma in compenso era nipote dell'imperatore. E Federico Guglielmo, al suo dovere di vassallo del Sacro Romano Impero, ci teneva. Quando ebbe scelto la sposa per lui, Federico Guglielmo scrisse al figlio per comunicargli i suoi ordini. La lettera ci è rimasta, a leggerla adesso non si può dire che abbia avuto la mano felice. Dice, non è brutta, ma non è neanche bella, però è timorata di Dio e questa è l'unica cosa che conta. Federico protestò, ma alla fine capì che nella sua posizione non c'era lo spazio per opporsi. Pazienza, disse, ci sarà una principessa infelice in più. A uno dei ministri di suo padre scrisse che aveva giurato di obbedire e di fare il suo dovere. Vedo che ora il mio dovere è di scopare. In privato annunciò che l'avrebbe ripudiata. Appena sarò il padrone. Il matrimonio fu celebrato nel 1733. Federico aveva 22 anni. La futura sposa gli era stata presentata qualche tempo prima e non gli aveva fatto cambiare parere. La trovò né bella né brutta, qui aveva ragione suo padre, ma timida, goffa, maleducata. La prima volta che si trovò a chiacchierare con lei perse la pazienza e la chiamò bestia. Com'era suo dovere, passò con lei la prima notte di nozze. Il mattino dopo scrisse a sua sorella Guglielmina, grazie a Dio è finita. Questo matrimonio cambiò pochissimo la vita privata di Federico, che non ebbe più rapporti con la moglie, e anche quando erano insieme in pubblico non le rivolgeva la parola. Del resto la chiamava la muta. Però la sua condizione cambiò. Quella cambiò e come? Ora che aveva una famiglia doveva tenere una corte. Il re gli concesse un finanziamento per comprarsi un palazzo, vicino a noi Ruppin, dove era a distanza il suo reggimento. Comprò questo palazzo e cominciò a ristrutturarlo secondo il suo gusto, con quadri francesi e a freschi di pittori alla moda. E in questo palazzo, che si chiamava Rheinsberg, e dove i suoi appartamenti erano completamente separati da quelli della moglie, qui Federico finalmente ricominciò a vivere la vita di un principe, dando dei balli, invitando a cena dei letterati, sentendosi finalmente padrone di vivere come voleva. Non che nuotasse nell'oro, perché il bilancio concesso dal re non era tanto generoso e i gusti di Federico erano costosi, che si trattasse di comprare dei vattò o di rifornire le cantine di champagne. Ecco, a questo problema dei soldi Federico, principe ereditario, rimediò in un modo che oggi può apparire abbastanza scioccante rispetto alle nostre abitudini e al nostro modo di fare politica. Adesso che era stato riabilitato, è chiaro che le potenze straniere si interessavano a lui. Tutti pensavano che un giorno sarebbe stato re, e forse abbastanza presto, conveniva tenerselo buono. Quando capirono che era in ristrettezze economiche, i governi stranieri cominciarono a offrirgli dei prestiti, in segreto naturalmente, senza che il re ne sapesse nulla. E Federico non si fece nessuno scrupolo di accettarli. Insomma, il principe ereditario prendeva denaro dalle potenze straniere all'insaputa di suo padre. La corte di Vienna pagava. Poco, perché di soldi non ce n'erano neanche lì. Allora Federico si mise d'accordo con l'ambasciatore Sassone a Pietroburgo perché gli facesse avere un prestito dalla zarina. Stabilirono un codice segreto per parlare di questa faccenda nelle loro lettere senza che nessuno potesse accorgersene. Mi mandi quel libro? Voleva dire che Federico aveva bisogno di soldi. Aspetto quei dodici volumi? Voleva dire che gli servivano dodicimila talleri. Quando i soldi arrivarono Federico scrisse all'ambasciatore che era molto soddisfatto dell'edizione russa. Lei è il miglior libraio del mondo. Ma quello che lo foraggiava più di tutti era lo zio Giorgio, il re d'Inghilterra, che fu abbastanza imprudente da offrirsi di pagare tutti i debiti di Federico e ricevette una stoccata micidiale. Il codice dei libri funzionava anche qui e l'ambasciatore inglese a Berlino scrisse a Londra. Ho anticipato allo studente qualche opuscolo, ma qui ci vogliono dei tomi in folio. Ben presto il principe ereditario fu indebitato di nuovo fino al collo e c'è da chiedersi se questi giochi pericolosi non lo avrebbero messo nei guai prima o poi. Ma non ci fu il tempo. Quando gli inglesi cominciarono a pagare, il re suo padre aveva solo un anno di vita. Nei primi mesi del 1740 la salute del re Federico Guglielmo, il padre del nostro Federico il grande, declinò rapidamente. Il re ispezionò la bara preparata per lui, lasciò istruzioni dettagliate per il suo funerale e il 31 maggio morì. Non aveva ancora 50 anni. Federico ne aveva 28 e dopo aver rischiato il patibolo e poi essere rimasto per così tanto tempo in purgatorio, ora finalmente era il padrone, per usare la sua terminologia. I ministri e i generali di suo padre vennero a rendergli omaggio, si inchinarono ai suoi piedi e il più autorevole di tutti quei ministri era un vecchio principe, Leopoldo di Dessau, un generale che fra l'altro è considerato il vero creatore dell'esercito prussiano. Bene, il vecchio principe di Dessau, dopo avergli giurato fedeltà, si permise di esprimere la speranza che sua maestà gli avrebbe lasciato le sue cariche e la sua autorità. Fu un'espressione infelice. Federico lo abbracciò, lo fece rialzare, gli confermò le cariche, ma poi aggiunse, quanto all'autorità non so cosa intende dire, in questo regno ci sono soltanto io che esercito un'autorità. In Europa la morte del re sergente e l'ascesa al trono del nuovo re vennero accolte con generale soddisfazione. bisogna dire che negli ultimi anni Federico si era fatto un nome come principe illuminato, anzi filosofo, come protettore delle lettere, delle arti. Voltaire gli dedicava delle odi, piene di adulazioni, e profetizzava l'avvento di un salomone del nord. I governi che lo avevano pagato sotto banco si aspettavano di poterlo manovrare facilmente, e tutti quelli che gli erano stati vicini negli anni in cui teneva la sua corte di principe ereditario al castello di Rheinsberg, beh tutti quanti ovviamente si aspettavano promozioni e onori. In genere si pensava che dopo l'austerità di Federico Guglielmo, suo figlio, visti i suoi gusti, avrebbe aperto una nuova era di piaceri e di festeggiamenti. In realtà rimasero tutti delusi. È vero che Federico dopo essere salito al trono diede nuovi ordini ai cuochi, e a quanto pare il menu della tavola reale fu migliorato drasticamente, e si concesse anche un lusso, comprò a Parigi un servizio da tavola d'oro, ma per il resto fu lui a cambiare vita. Aveva delle idee molto chiare sulla responsabilità di un re. E di nuovo, forse questa è la prova che dopo tutto i sistemi educativi di suo padre erano serviti davvero a modificare il suo carattere, a plasmarlo in un modo di cui anche il re sergente alla fine avrebbe potuto andare fiero. Agli amici e ai collaboratori più stretti distribuì qualche incarico, di poco conto, e qualche decorazione, ma disse anche «adesso la festa è finita». Le prime riforme, intraprese da Federico subito dopo essere salito al trono, erano già un presagio di quello che c'era da aspettarsi dal suo regno, e cioè qualcosa di molto diverso da quello che si aspettavano i filosofi di Parigi. Suo padre aveva lasciato scritto nel testamento che entro sei mesi dalla sua morte bisognava aumentare l'esercito di cinque nuovi reggimenti. Federico ne creò nove, e lo scrisse anche a Voltaire, tutto soddisfatto, anche se è probabile che Voltaire non apprezzasse particolarmente questa cosa. In compenso Federico abolì il reggimento dei granatieri giganti, così amato da suo padre, che costava il quadrupo di un reggimento normale, oltretutto, vista la difficoltà di trovare queste reclutee fuori del comune. Abolire il reggimento, vabbè, certamente era una vendetta postuma contro il padre, però era anche un segnale che d'ora in poi si faceva sul serio, e non più per gioco. Sotto il re sergente si dava troppa importanza all'apparenza delle truppe, a lucidare e far brillare l'equipaggiamento. Se si fosse continuato così, scrisse Federico qualche anno dopo, ora avremmo il rossetto e i nei finti. Il suo esercito doveva essere efficiente sul campo di battaglia e non nelle parate. Per suo ordine le manovre annuali diventarono una simulazione della vera guerra, così realistica che l'ambasciatore francese, quando fu invitato a assistere, rimase stupefatto a vedere quanti cavalli si ammazzavano e quanti soldati ne uscivano dalle manovre, con le gambe o con le braccia rotte. L'esercito dunque, fin dal primo momento l'esercito fu al centro delle preoccupazioni di Federico e del suo modo di intendere il mestiere di re. E allora magari è il caso di fermarci e osservarlo un po' più da vicino, questo famoso esercito prussiano, che suo nonno e suo padre avevano sviluppato fino a farne l'esercito più ammirato d'Europa. Una volta molto tempo dopo, quando Federico era vecchio, un altro intellettuale francese, Mirabeau, in visita a Berlino, lanciò una battuta che diventò subito famosa. La Prussia non è uno stato che possiede un esercito, è un esercito che possiede uno stato. In senso politico, naturalmente non era vero, perché i generali dell'esercito non avevano la minima influenza politica. Nessuno in Prussia aveva influenza, tranne il re. Però nella battuta di Mirabeau c'è qualcosa di vero, nel senso che le risorse dello stato erano interamente concentrate nell'esercito. Sotto Federico Guglielmo le entrate del regno di Prussia ammontavano a 7 milioni di talleri e 6 di questi erano destinati alle spese militari. Naturalmente bisogna dire che sotto l'antico regime i bilanci erano molto diversi dai nostri. Le spese per stipendi erano minime, perché gli impiegati statali erano pochissimi. La scuola e la sanità, per lo più, non erano a carico dello Stato. E quindi, in tutti i regni, le spese militari facevano la parte del leone, insieme con quelle per la corte e per i palazzi, per l'edilizia. Però nessun regno aveva un bilancio così militarizzato come quello di Prussia. Diamo qualche cifra. Alla radio le cifre non funzionano bene di solito, ma queste sono veramente indispensabili per capirci. All'avvento di Federico il paese aveva 2 milioni e 250 mila sudditi e manteneva sotto le armi 81 mila soldati, cioè il 7% della popolazione maschile. A titolo di confronto il paese più potente d'Europa, la Francia, che aveva 20 milioni di abitanti e quindi una popolazione nove volte quella della Prussia, manteneva un esercito grande appena il doppio. La Prussia dunque era davvero, e già prima di Federico, uno Stato militarista, in cui tutte le risorse della società erano indirizzate all'accrescimento della forza militare. Durante il regno di Federico questo militarismo venne ancora più ostentato. Basta dire che la popolazione del regno in quel mezzo secolo crebbe fino a raddoppiarsi, ma anche l'esercito venne raddoppiato. Alla fine era grosso come quelli della Francia o dell'Austria, e cioè di paesi che avevano ancora il triplo o il quadruplo degli abitanti. Però nel corso del Settecento ci fu anche qualcos'altro che cambiò. Cambiarono gli umori della società europea più colta e più avanzata, e si cominciò a dare un giudizio più duro dell'assolutismo e del suo versante militare. Quando Federico era giovane nessuno ci trovava niente di sbagliato nel fatto che un re avesse un grande esercito e spendesse tutte le risorse del paese per l'esercito. Ma quando Federico era vecchio c'erano molti a cui questo sistema faceva orrore. Nel 1769 Vittorio Alfieri, ventenne, fece un viaggio in Prussia, di cui lasciò poi una famosa relazione che vale la pena di citare qui. Alfieri, all'entrare negli stati del gran Federico, che mi parvero la continuazione di un solo corpo di guardia, mi sentì raddoppiare e triplicare l'orrore per quell'infame mestiere militare, infamissima e sola base dell'autorità arbitraria. Qui dobbiamo ricordare che anche Alfieri, che era nobile, era costretto a fare l'ufficiale nell'esercito del re di Sardegna e quindi era prigioniero anche lui di quell'infame mestiere. Ma sentiamolo ancora. fu presentato al re. Non mi sentì nel vederlo alcun moto né di maraviglia né di rispetto, ma di indegnazione bensì e di rabbia. Il ministro che lo aveva presentato gli chiese come mai non era venuto in uniforme, visto che era anche lui un ufficiale. Risposigli, perché in quella corte mi re ave ne fossero degli uniformi abbastanza. Dopo la conferenza con il re, Alfieri se la squagliò e ringraziai il cielo di non mi aver fatto nascere suo schiavo. Uscì di quella universal caserma prussiana verso il mezzo novembre, abborrendola quanto bisognava. Per Vittorio Alfieri, come abbiamo sentito, un esercito di professione come quello prussiano era il puntello dell'assolutismo monarchico e dunque della tirannia. Anche se questo è un linguaggio che Federico non avrebbe capito. Perché tirannia? Lui era il re e aveva il diritto e soprattutto il dovere di comandare. Se guardiamo bene in questa incomprensione ci sono le prime avvisaglie di un conflitto che avrebbe poi spaccato in due l'Europa. Ricordiamoci che Federico il Grande morì appena tre anni prima della presa della Bastiglia e non fece in tempo per un soffio a vedere la ghigliottina. Però al di là dell'assolutismo, più o meno illuminato o più o meno arcaico e medievale a seconda dei punti di vista, quello che rendeva unica la Prussia, quello che agli occhi di uno straniero come Alfieri la faceva assomigliare a una universal caserma, era la militarizzazione della società. E questo anche se in realtà l'esercito di Federico era un esercito mercenario che arruolava chiunque, di qualsiasi nazionalità, tanto che metà della truppa era formata da stranieri. Questo tra l'altro aveva delle conseguenze tutt'altro che secondarie, perché i mercenari stranieri ovviamente non erano legati al re da una particolare fedeltà o devozione e alla prima occasione disertavano. Come mai allora? Un esercito così importante come quello prussiano, a cui il re dedicava così tante cure, era costretto a arruolare mercenari inaffidabili. Il fatto è che mantenere un esercito, proprio perché era così numeroso in un paese povero come la Prussia, povero di abitanti anche, non solo di soldi, ebbene questo obbligava il re a cercare reclute all'estero. L'Europa era battuta da ufficiali reclutatori prussiani, che spesso impiegavano anche sistemi poco ortodossi. La storia dell'ingenuoto che viene fatto ubriacare all'osteria, o magari crede di essere stato assunto come domestico, e il giorno dopo si ritrova arruolato a forza nell'esercito prussiano, è una situazione che si ritrova nella letteratura. Pensiamo al Barry Lyndon, che è un romanzo di Tackeray, prima di diventare un grande film di Stanley Kubrick. Ma questa situazione è confermata anche dalla memorialistica. C'è un libro affascinante, che si intitola Il pover uomo del Tockemburg, scritto da un certo Ulrich Brecher, che era un contadino svizzero, il quale si ritrovò appunto arruolato senza saperlo nell'esercito di Federico il Grande, proprio alla vigilia della guerra dei sette anni. Brecher fu abbastanza sveglio da riuscire a disertare alla prima battaglia e tornò a casa per raccontarlo. Ecco, questo fatto sorprendente, cioè che l'esercito di Federico II era composto quasi per metà da stranieri, deve essere però visto in prospettiva. Intanto quegli stranieri erano quasi tutti tedeschi, perché la Prussia era solo uno fra i molti stati indipendenti in cui era divisa la Germania. E comunque, anche solo fornire le reclute all'altra metà dell'esercito, quella che era formata da sudditi, era uno sforzo tale per una popolazione così scarsa come quella prussiana, che alla fine l'intera organizzazione sociale finiva per identificarsi con l'esercito. Qui dobbiamo ricordarci che la società prussiana non era una società evoluta, era una società arretrata rispetto a quelle dell'Occidente, assomigliava molto di più a quella russa o polacca. In che senso era una società arretrata? Intanto la stragrande maggioranza della popolazione era contadina e soprattutto i contadini erano servi della gleba, erano legati fin dalla nascita a un latifondo nobiliare o statale. E quindi che i loro giovani fossero costretti a prestare servizio militare era una disgrazia che i contadini accettavano senza discuterla, come la grandine o la peste. E però Federico riorganizzò il reclutamento territoriale su una base più moderna. Ogni reggimento fu assegnato a una circoscrizione chiamata un cantone e anno dopo anno reclutava lì i suoi coscritti. E quindi ogni reggimento acquistò una coloritura provinciale con i soldati che venivano dagli stessi villaggi e spesso si conoscevano fra loro e quindi con un certo orgoglio localistico. E di qui prese forma anche lentamente un patriottismo prussiano. Proprio lo svizzero Brecker ci dice che i soldati che erano nati nel regno, anche se erano dei servi della gleba analfabeti, tutto sommato una certa fierezza di combattere per il re ce l'avevano. La fierezza di servire il re a quell'epoca sostituiva motivazioni più moderne che cominciavano appena a nascere appunto come il patriottismo e a maggior ragione valeva per gli ufficiali che erano quasi tutti tratti dalla nobiltà. In Prussia la terra apparteneva tutta o al re o ai nobili, quei nobili che in Prussia orientale si chiamavano Juncker e si vantavano di discendere dai cavalieri teutonici. Era una terra povera e i nobili erano poveri anche se non pagavano tasse. L'esercito offriva un impiego onorevole e tutte le famiglie nobili mandavano qualcuno dei loro figli a servire il re. Come la società era fatta di padroni nobili e contadini servi, così l'esercito era fatto di ufficiali nobili e soldati contadini. E non era nemmeno pensabile che le cose andassero in un altro modo. Questo fatto, tra l'altro, spiega un tratto molto contraddittorio del carattere di Federico, che ha sempre stupito gli storici. Federico, ormai lo conosciamo, non credeva niente, non si faceva illusioni di nessun tipo e comunque amava atteggiarsi a filosofo e ridere dei pregiudizi. Tuttavia questo stesso Federico pretese sempre che solo i nobili potessero diventare ufficiali nel suo esercito. A dire il vero un'eccezione c'era, era l'artiglieria, dove per riuscire a colpire il bersaglio bisognava che gli ufficiali avessero studiato un po' di trigonometria e non si poteva pretendere questo dagli Juncker, perciò in artiglieria i borghesi potevano diventare ufficiali, ma nel resto dell'esercito no. Solo negli ultimi tempi della guerra dei sette anni, quando le cose andavano davvero male e le perdite erano terrificanti, solo allora Federico fu costretto a accettare dei borghesi, ma appena la guerra fu finita tutti gli ufficiali di origine borghese furono mandati in pensione. Come mai? Questo comportamento è sempre stato giudicato incomprensibile, perché Federico non credeva certo che i nobili fossero migliori degli altri uomini o che la nobiltà di nascita contasse qualcosa. Il fatto è che vedeva, molto lucidamente in questo, che dal punto di vista sociologico questa coincidenza fra la nobiltà e il corpo degli ufficiali era una forza per l'esercito prussiano e valeva la pena di mantenerla a tutti i costi. Non per nulla tutti gli ufficiali dell'esercito di Federico, di qualunque grado fossero, portavano la stessa uniforme identica, dal tenente al colonnello, senza nessun simbolo del grado, niente spalline, galloni o cose del genere. Erano tutti nobili e fuori dal servizio erano tutti uguali. Ecco, bisogna però dire che anche tra gli ufficiali dell'esercito c'erano molti stranieri. Ce ne erano dappertutto in Prussia, Federico li assumeva volentieri, era un esterofilo sfegatato e quando poteva assumere uno straniero lo preferiva. E bisogna anche dire che in tutti gli eserciti dell'epoca c'erano ufficiali stranieri. L'Europa era piena di avventurieri, nobili o magari mica tanto nobili, facevano magari solo finta di esserlo, anche tipi poco raccomandabili, gente senza un soldo, gente che si era giocata a tutto e che per campare si arruolava. Questi ufficiali stranieri ovviamente non è che ci si potesse aspettare da loro chissà quale fedeltà, patriottismo poi meno che mai, si arruolavano per soldi o per spirito di avventura. Ecco, a Federico questo non dava nessun fastidio, purché lo servissero bene accettava tutti, anzi con gli stranieri non era neanche tanto severo quanto ai quarti di nobiltà. Sembra quasi che con gente così si trovasse a suo agio, perché in realtà anche lui, anche Federico aveva qualcosa dell'avventuriero, del giocatore d'azzardo che è sempre convinto che la sua fortuna lo tirerà fuori dai guai. La notte prima della battaglia di Leuten, che fu poi la più grande delle sue vittorie, Federico entrò in un castello dove gli avevano preparato il letto e si trovò in mezzo a un gruppo di ufficiali austriaci prigionieri, che erano stati sistemati lì. In mezzo a loro c'era un francese che prima era stato ufficiale prussiano e poi aveva disertato. E il re lo riconobbe e gli chiese come mai te ne sei andato. E quello rispose veramente vostra maestà la nostra posizione era troppo disperata. Federico disse guarda diamo ancora un colpo oggi e se perdo domani diserteremo tutti e due. Pochi mesi dopo che Federico fu salito al trono si presentò subito la prima grossa crisi politica della sua carriera. E anzi la più grossa in assoluto perché vedremo che il modo in cui Federico rispose a questa crisi determinò poi tutta la sua carriera di re, tutta la sua vita e in realtà cambiò fin dal primo momento del regno di Federico la storia europea. Quale fu la crisi? Il 20 ottobre del 1740 morì l'imperatore del Sacro Romano Impero, cioè per dirla alla moderna l'imperatore d'Austria, Carlo VI d'Asburgo. Carlo VI lasciava soltanto una figlia femmina, quella che sarà poi l'imperatrice Maria Teresa. Ora qual era il problema? Nell'impero vigeva la cosiddetta legge salica, cioè una vecchia legge medievale che poi i giuristi avevano frainteso, avevano commentato male, ma che insomma a quell'epoca però ci credevano tutti e secondo questa legge le donne non potevano succedere al trono. Intanto noi sappiamo che il trono imperiale era elettivo, però comunque c'era una legge per cui le donne non potevano essere elette. Questa cosa a Carlo VI non piaceva per niente, lui aveva solo una figlia, le voleva un gran bene e avrebbe voluto in tutti i modi riuscire a trasmettere a lei il suo potere. Praticamente per tutta la vita Carlo VI si era dato da fare per ottenere questo risultato e quindi per prima cosa aveva emanato una legge che molti si ricorderanno dai tempi della scuola, la prammatica sanzione, nessuno poi si ricorda mai che cosa sia, ma la prammatica sanzione era appunto un decreto di Carlo VI che aboliva la legge salica e permetteva alle donne di subentrare nell'impero. Ma naturalmente l'imperatore non poteva fare questo decreto da solo e basta, aveva bisogno del consenso di tutti i principi dell'impero e Carlo VI per anni aveva negoziato con i principi per ottenere il loro consenso alla prammatica sanzione. Con i principi e anche con gli altri governi europei, insomma, perché tutti sapevano che quando Carlo VI fosse morto il problema si sarebbe aperto. Bisognava eleggere un nuovo imperatore e la candidata naturale era una donna. Carlo VI morì abbastanza tranquillo, abbastanza convinto di aver raggiunto il suo scopo, perché a parole tutti i governi europei gli avevano detto ma sì certo non c'è nessun problema, in fondo che l'impero fosse elettivo era una cosa che gli altri re guardavano con un po' di diffidenza, non gli dispiaceva mica mettere un po' da parte questo principio, quindi se si fosse affermata l'idea che l'erede di Carlo VI era comunque sua figlia, anche se era una donna, ecco in fondo tutti i re erano abbastanza contenti. I principi tedeschi cosa potevano dire? Quando l'imperatore veniva da qualunque piccolissimo principe e gli chiedeva il suo consenso alla prammatica sanzione, quello ovviamente diceva di sì. Finché l'imperatore vivo non era mica tanto facile dirgli di no. Però tutti sapevano, sotto sotto, che quando poi Carlo VI si fosse tolto di mezzo allora i giochi si riaprivano. Federico lo sapeva meglio di tutti come vedremo, ma in realtà tutte le corti d'Europa aspettavano abbastanza ansiosamente di vedere cosa sarebbe successo. E finalmente appunto Carlo VI morì molto presto, Federico era re da cinque mesi. Se Carlo VI fosse campato ancora qualche anno probabilmente Federico avrebbe passato ancora molto tempo nei divertimenti, il teatro, la musica, i piaceri, la filosofia e invece si trovò bruscamente a dover prendere delle scelte. Perché appena Carlo VI morì fu subito chiaro che qualche principe tedesco cominciava ad alzare la testa e a dire l'impero è elettivo, che una donna sia imperatrice non si è mai sentita. La prammatica sanzione ma era legale? Non è mica detto che fosse legale. E comunque perché non si può presentare un'altra candidatura? In particolare c'era un principe, un grosso principe tedesco, l'elettore di Baviera, che da sempre era alleato della Francia e quindi si sentiva alle spalle coperte perché aveva questo potente alleato che lo copriva. Ebbè l'elettore di Baviera appena si sparse la notizia che era morto Carlo VI cominciò subito a far capire che lui si candidava all'impero. Alla morte dell'imperatore Carlo VI d'Asburgo dunque si creò in Europa una situazione estremamente problematica. L'imperatore lasciava una figlia, Maria Teresa, che ereditava una parte dei possedimenti paterni perché Carlo VI oltre all'impero aveva anche il regno di Ungheria e quello andava alla figlia, non c'era la legge salica in Ungheria. Per cui Maria Teresa ereditò tranquillamente il regno d'Ungheria. Non per niente Federico il Grande poi affetterà sempre di chiamarla la regina d'Ungheria. L'impero invece era un'altra faccenda. L'impero, cioè il grosso della Germania con tutti i suoi staterelli che dipendevano dall'imperatore, quello era elettivo e che Maria Teresa fosse eletta non era assolutamente scontato. Era molto probabile invece che ci fossero dei grossi guai e che la pace europea, che non durava da molto, l'ultima guerra di successione polacca era finita da poco. Era comunque probabile che la pace europea sarebbe finita di nuovo. Noi conosciamo abbastanza Federico per immaginare che se qualcuno era proprio sicuro che ci sarebbero stati dei guai, era lui. E l'altra cosa di cui era sicuro è che una crisi del genere era un'occasione magnifica per la Prussia e che in un modo o nell'altro bisognava approfittarne. Federico dava per scontato che il suo dovere di re era di conquistare nuove province e di ingrandire il regno. Lo dava talmente per scontato che già prima di diventare re l'aveva teorizzato apertamente. Aveva scritto che un re ha il dovere di approfittare di ogni occasione per allargarsi. Ancora, quando era molto giovane, durante la sua reclusione a Kystrin, quando, diciamo così, era in prova e doveva guadagnarsi il perdono di suo padre, già in quegli anni Federico aveva cominciato a riflettere sul suo futuro mestiere di re e aveva scritto che la Prussia in particolare, tutti i regni in genere, ma la Prussia in particolare, che è così debole, doveva assolutamente ingrandirsi. Perché quando uno non avanza, arretra. Ingrandirsi quindi era una necessità politica e non importava la legalità dei mezzi con cui il regno avrebbe potuto farlo. Ecco, queste cose Federico le scriveva già quando aveva vent'anni. Più tardi, un po' di tempo prima che Carlo VI morisse davvero, aveva anche previsto che alla morte dell'imperatore ci sarebbe stato un grande sconvolgimento e lo aveva espresso con il suo solito cinismo, cito, ogni regno arrafferà quello che potrà. E lui non intendeva essere l'ultimo, anzi. Appena ricevuta la notizia della morte dell'imperatore, decise subito di agire. E in realtà era un piano che aveva preparato già da un pezzo. Quel giorno stesso scrisse a Voltaire. La morte dell'imperatore manda a gambe all'aria tutte le mie idee pacifiche. E credo che entro l'estate prossima si parlerà di polvere da sparo, di soldati e di assedi, piuttosto che di attrici, balletti e teatro. A un altro dei suoi amici filosofi, l'italiano Algarotti, scrisse in termini che oggi ci appaiono ancora più raggelanti. Federico scriveva dalla villeggiatura e disse, non c'è neanche bisogno che vada a Berlino, tutto è già previsto, tutto preparato. Si tratta solo di mettere in pratica dei progetti che ho avuto in testa per tanto tempo. E quali erano questi progetti? Quello che Federico aveva in testa era di invadere puramente e semplicemente una grossa provincia dell'impero, la Slesia, e annetterla alla Prussia. Approfittando del fatto che l'imperatore era morto, l'esercito austriaco notoriamente era in cattivo stato, le finanze ancora peggio, Maria Teresa era giovane e poi era una donna. Figuriamoci se uno come Federico poteva preoccuparsi di lei. E comunque Maria Teresa avrebbe già avuto il suo da fare per riuscire a farsi eleggere imperatrice. E quindi era difficile che potesse opporsi. Federico contava di metterla di fronte al fatto compiuto. Occupare la Slesia e poi offrirle la sua amicizia. Era sicuro che Maria Teresa con l'acqua alla gola avrebbe accettato. E non fu l'unica volta in cui Federico, sicuro di sé come era, sottovalutò l'avversario che si trovava davanti. Federico dunque aveva deciso di occupare la Slesia. E che cos'è questa Slesia? Oggi, dopo i grandi spostamenti di popolazione che sono seguiti alla seconda guerra mondiale, la Slesia è in Polonia ed è abitata da polacchi. È una grande regione mineraria, industriale, anzi è il cuore industriale della Polonia. Al tempo di Federico e di Maria Teresa, invece, era abitata in prevalenza da tedeschi ed era già allora però una provincia ricca. Aveva un milione e mezzo di abitanti, il che vuol dire che da sola valeva più di metà del regno di Prussia. Aveva un'industria tessile, fiorente, e aveva anche un'importanza strategica, perché se uno guarda la cartina si accorge che chi è padrone della Slesia può scendere molto facilmente attraverso le montagne in Bohemia, in Moravia, che erano le province al cuore dell'impero sburgico, e da lì poi minacciare Vienna. Insomma, si capisce che questa Slesia per Federico fosse un bocconcino appetitoso. Dopo aver passato un bel po' di tempo a studiare appunto la carta geografica, aveva deciso che quella era la provincia che la Prussia doveva conquistare per diventare finalmente un grande regno. Naturalmente c'era un problema, o meglio, quello che chiunque altro avrebbe considerato un problema, che la Slesia era una provincia dell'impero sburgico che la possedeva pacificamente da secoli, e Federico non aveva nessun diritto di prendersela. È vero che molto tempo prima qualcuno dei suoi antenati aveva tirato fuori delle rivendicazioni vaghe sulla Slesia, ma era tutta roba morta e sepolta, e comunque anche a Federico non importava niente. Non si preoccupò neanche di mandare qualcuno in archivio a ricercare quelle vecchie pretese. Tutto al più si poteva dire, e questo è un argomento che all'epoca poteva avere un certo peso, che la popolazione della Slesia per metà era protestante. E allora non era giusto che fosse costretta a ubbidire agli Asburgo che erano cattolici. Però era un argomento a doppio taglio, perché l'altra metà della Slesia era cattolica. E comunque anche qui possiamo immaginare quanto importasse a Federico in cuor suo un argomento di questo genere. No, quello che è impressionante nel comportamento di Federico è che decide di prendersi la Slesia così, per un calcolo politico, come se giocasse a risico. I suoi ministri erano spaventati e chiedevano una giustificazione legale da presentare all'Europa, poi erano loro quelli che dovevano scrivere in giro per annunciare quello che il loro re stava facendo. Federico rispose, la faccenda del diritto sono fatti vostri e cominciate pure a lavorarci, perché gli ordini alle truppe sono già stati dati. E infatti Federico non aspetta neanche che i ministri riuscissero a bozzare almeno una parvenza di giustificazione. Quello che stava facendo era una rapina bella e buona e non gli importava niente che tutto il mondo lo sapesse. Per cui mandò a Vienna un ultimatum, possiamo immaginare Maria Teresa che era appena subentrata al padre, era disperata per la situazione in cui si trovava, non sapeva se sarebbe riuscita a farsi eleggere all'impero, tutte le sue risorse si riducevano al regno d'Ungheria e in quel preciso momento, pochi giorni dopo che suo padre è morto, le arriva un ultimatum del re di Prussia che le ordina di cedere la Slesia. Così, senza neanche una giustificazione, e subito dopo i prussiani invadono la Slesia, senza neanche aspettare la risposta da Vienna. Ora, è vero che in politica il cinismo e la ricerca del proprio interesse sono normali, e nel Settecento lo erano anche più di oggi, però le corti europee rimasero scioccate lo stesso dalla spregiudicatezza di questa mossa. Federico aveva inaugurato uno stile nuovo, in cui la facciata non contava niente, contavano solo gli interessi bruti. Nemmeno il re Sole si era mai comportato così, con tanta indifferenza per le regole. Insomma, il re di Prussia aveva reinventato la Realpolitik alla Machiavelli, dopo che l'Europa dei re cristiani aveva fatto di tutto per farla dimenticare. Il problema è tutto qui, disse Federico ai suoi ministri. Quando ci si trova in vantaggio, bisogna approfittarne o no? Abbiamo detto che Federico non si preoccupò di trovare nessuna giustificazione legale per l'invasione della Slesia. Se l'ha presa e basta. Ma questo non vuol dire che non abbia cercato di ammantare questa rapina di giustificazioni ipocrite, che in realtà fanno più male che bene, perché ci si legge un cinismo veramente straordinario. Federico fece sapere a Vienna che se occupava la Slesia non era per ostilità verso l'impero, anzi, era proprio per garantire la pace fra la Prussia e l'Austria, perché senza quella provincia lui si sentiva minacciato e invece, in cambio della Slesia, Maria Teresa poteva contare sulla sua sincera amicizia, perché tutto quello che lui aveva a cuore era il bene della casa d'Austria. Tutta questa roba sta stampata e la si legge ancora oggi negli archivi di Vienna, così come si ritrova stampato il proclama che Federico rivolge ai popoli della Slesia, e che è redatto nello stesso linguaggio strabiliante. Ho dovuto, dice, entrare con le mie truppe in Slesia, per proteggerla, perché in Europa sta per scoppiare la guerra. Insomma, se non c'entrava lui, chissà chi l'avrebbe fatto. E lui non intendeva assolutamente nuocere all'imperatrice, anzi, il suo unico desiderio era di essere amico della venerata casa d'Austria e di proteggerla con tutti i mezzi, come avevano già fatto i suoi antenati. Ecco, ovviamente questo linguaggio non ingannò nessuno neanche per un momento, però vale la pena di commentarlo, perché è proprio questo linguaggio che ci fa vedere come l'aggressione di Federico alla Slesia sia stata una rottura di portata storica. Torniamo un po' con la memoria a suo padre, ai tempi di suo padre e di suo nonno. Il re di Prussia era vassallo dell'imperatore. Certo, ora che Carlo VI era morto, un imperatore non c'era, e non si sapeva chi sarebbe stato eletto, e non era detto che Maria Teresa ci riuscisse. Però Carlo VI aveva chiesto ai principi tedeschi la garanzia che l'avrebbero eletta, e il vecchio re di Prussia, Federico Guglielmo aveva firmato, come tutti gli altri. Il padre di Federico si era sempre considerato un fedele vassallo dell'impero. Non si sarebbe mai sognato di ingrandire il suo regno a spese dell'impero. Aveva costretto Federico a sposare la disgraziata principessa Elisabetta di Brunswick, anche perché lei era nipote dell'imperatore, e il re sergente ci teneva ai buoni rapporti con l'impero. Invece Federico fa esattamente il contrario. Proprio nel momento in cui l'impero è in crisi, è più debole e rischia di sprofondare, nel momento in cui l'erede di Carlo VI è una donna giovanissima, e tutti pensano che sia debole e indifesa, poi noi conosciamo Maria Teresa, si sbagliavano di grosso, ma questo non poteva saperlo nessuno. In quel preciso momento Federico aggredisce l'impero senza nessuno scrupolo, e gli porta via la più ricca delle sue province. E allora, mettiamo questa cosa in una prospettiva storica un po' più lunga. Per la prima volta, in quel dicembre del 1740, si propone quell'antagonismo mortale tra la Prussia e l'Austria, quella concorrenza per l'egemonia in Germania, che si concluderà definitivamente più di un secolo dopo, col trionfo della Prussia di Bismarck e con la decadenza dell'Impero Osburgico. Ecco, abbiamo visto un comportamento da parte di Federico che non si può non giudicare incredibilmente cinico. Però c'è anche un altro punto di vista. Dal suo punto di vista Federico stava semplicemente facendo quello che suo padre gli aveva insegnato, che un principe deve cercare la gloria con la spada. Di suo ci metteva semmai il gusto dell'azzardo. Più azzardo che calcolo. I ministri tremavano e lui gli fece la lezione. Chi si impegna solo in piccole cose resterà per sempre un mediocre. Se tenti dieci grande imprese, e te ne riescono anche solo due, diventi immortale. E già da un po' di tempo quelli che conoscevano Federico si erano accorti che aveva una gran voglia di diventare immortale. Uno dei suoi amici aveva addirittura previsto che avrebbe cominciato il suo regno con un colpo di fulmine. E dunque non è solo questione di cinismo. C'era anche la smania di gloria e l'entusiasmo ingenuo del ragazzo che dopo essere entrato in Slesia scriveva a Berlino «Ho passato il rubicone, con le bandiere al vento e al rullo dei tamburi. Le mie truppe sono piene di buona volontà, gli ufficiali di ambizione, i generali affamati di gloria. Voglio morire o guadagnarmi l'onore di questa impresa». Finora siamo riusciti a parlare di Federico il Grande senza raccontare né guerre né battaglie, ma questa sera ci tocca. Perché siamo nel dicembre 1740, Federico è entrato in Slesia alla testa delle sue truppe ed è scoppiata quella che sarà poi chiamata la guerra di successione austriaca. All'inizio l'invasione va bene, la bassa Slesia è protestante e in generale la popolazione è abbastanza soddisfatta di cadere sotto il dominio di un re protestante e di sfuggire agli Asburgo cattolici. All'inizio va bene, la popolazione quindi accoglie i prussiani con un certo entusiasmo, però siamo in inverno. In inverno a quell'epoca di solito non si faceva la guerra, anche in questo sta all'azzardo di Federico. Lui calcolava che gli austriaci non sarebbero stati pronti e infatti praticamente non ci sono truppe austriache in Slesia. Quelle poche che ci sono si rinchiudono nelle fortezze delle città cattoliche, dove si può pensare che la popolazione sarà soddisfatta di resistere all'invasione dei prussiani eretici. Federico a un certo punto è costretto a fermarsi, a cominciare a assediare qualche città. Quando fa mettere l'assedio alla città di Nice ordina di bombardare senza pietà quel nido di preti. Si sta adeguando anche lui a questo clima religioso quasi della guerra. E poi deve combattere la prima battaglia della sua carriera, perché alla fine dell'inverno, nel marzo-aprile del 1741, Maria Teresa riesce finalmente a mettere insieme un esercito e a mandarlo in Slesia per tentare di riconquistare la provincia. Al comando dell'esercito austriaco c'è il maresciallo von Neyperg, un vecchio libertino, dissoluto, cieco da un occhio. Un buon generale però. Neyperg avanza, è ancora pieno inverno a quell'epoca in Slesia, nevica, fa un freddo tremendo, la pianura è gelata, coperta di neve. I due eserciti si avvicinano l'uno all'altro quasi senza accorgersene. Finalmente quando si rendono conto di essere vicini, Federico attacca. Gli austriaci sono molto sicuri di sé, ricordiamoci che nessuno sa ancora che quello lì è Federico il Grande, è soltanto questo giovanissimo re di Prussia che si è permesso di sfidare l'impero. Neyperg dice ai suoi che è ora di rimandare questo re filosof a Apollo e alle muse, che è meglio che si occupi di quelle cose lì piuttosto che di guerra. Gli ufficiali austriaci, quando si affrettano a raggiungere i loro posti, ordinano di tenergli la cena in caldo, vanno a dare una battuta ai brandeburghesi e tornano. La battaglia, la battaglia di Molvitz, è la prima battaglia ripetiamolo, della carriera di Federico, è un enorme caos. È difficile gestire una battaglia e quando la fai per la prima volta perdi la testa molto facilmente. Federico la perde. In questo caos non si capisce niente, la cavalleria austriaca sembra che sia dappertutto, ha un certo punto. La sensazione forte dei prussiani è che l'azzardo sia andato male, che la battaglia si stia perdendo. I vecchi generali consigliano al re di mettersi in salvo e Federico, nel pieno della battaglia di Molvitz, abbandona il campo di battaglia, scappa, vaga tutta la notte cercando di mettersi in salvo. Poi si accorge che dappertutto ci sono gli usseri austriaci, che le strade sono tutte bloccate, che rischia di farsi catturare. All'alba torna indietro, torna indietro verso il campo di battaglia e scopre che senza di lui il suo esercito ha vinto. Che gli austriaci non sono riusciti a continuare la loro offensiva, a un certo punto sono loro che si sono disgregati, i generali prussiani sul posto hanno tenuto duro. Il vecchio Naiperg si è ritirato. La battaglia di Molvitz è vinta. Ecco, possiamo solo provare a immaginare cosa abbia provato Federico in quel momento. Era la sua prima battaglia, sappiamo con quali sogni di gloria era partito, tutto sembrava che andasse bene, invece poi lui è scappato e senza di lui la battaglia è stata vinta. Ed è stata vinta a un prezzo carissimo. Una settimana dopo Federico scriverà al fratello abbiamo battuto il nemico ma siamo tutti in lutto, chi per un fratello, chi per un amico. Insomma, siamo i vincitori più tristi che puoi immaginare. Che Dio ci guardi da un'altra battaglia così sanguinosa. Noi sappiamo che in vita sua ne combatterà altre quindici. Federico dunque aveva vinto la sua prima battaglia, o meglio, i suoi generali e il suo esercito l'avevano vinta senza di lui. Sembrava che tutto andasse benissimo e Federico certamente si aspettava che a questo punto quella donnicciola che stava sul trono a Vienna, Maria Teresa, si sarebbe arresa. Noi sappiamo che non fu così e che Maria Teresa non era esattamente quello che Federico si immaginava. Sappiamo che Maria Teresa era scioccata che Federico le avesse fatto questo, che un re suo vassallo, proprio nel momento in cui lei aveva bisogno di aiuto, l'avesse invece pugnalata alle spalle. Per tutta la vita Maria Teresa odierà Federico e si riferirà a lui esclusivamente chiamandolo, in francese come tutti, le méchant homme, l'uomo cattivo. Con queste premesse ovviamente Maria Teresa non si arrende, non cede al ricatto. Anche se intorno a lei sembra che stia crollando tutto, perché adesso che Federico ha cominciato, gli altri re d'Europa effettivamente decidono, come lui aveva previsto, di approfittarne anche loro, di banchettare anche loro sul cadavere di questo impero che sembra che sia in disfacimento. L'elettore di Baviera convince i principi tedeschi a eleggere lui imperatore e non Maria Teresa. La Francia dichiara guerra all'Austria, anche i francesi vogliono arraffare qualche cosa, sempre per usare il linguaggio di Federico. Maria Teresa è costretta a fuggire in Ungheria, tutto quello che le rimane. È costretta a rivolgersi ai magnati ungheresi e in una scena famosa a dirgli che lei è lì, la loro regina, perché senza di loro è perduta. E i principi ungheresi promettono di aiutarla e la aiutano effettivamente a rimettere in piedi un esercito. A questo punto Federico continua a comportarsi come l'uomo che era. Ha ottenuto quello che voleva e propone agli austriaci la pace. Potrebbero firmare un armistizio in segreto, perché Federico in realtà si è impegnato con l'elettore di Baviera, con la Francia, a continuare la guerra. Ma perché dovrebbe? Ormai quello che voleva l'ha ottenuto. Quindi propone agli austriaci di fare un armistizio segreto. Gli austriaci faranno finta di continuare a difendere la fortezza di Neisse, Federico farà finta di assediarla, poi gli austriaci faranno finta di arrendersi e se ne andranno. E Federico spinge la doppiezza fino a incontrarsi col maresciallo von Neiperg e spiegargli come deve fare per sconfiggere i francesi, che sono i suoi alleati. Lui in quel momento stesso scrive ai francesi delle bellissime lettere di incoraggiamento e intanto si prepara a mollarli. Poi però si accorge che i suoi alleati stanno subodorando qualcosa, che rischia di perdere la faccia, e soprattutto si accorge di un'altra cosa. Si accorge che in realtà l'impero austriaco sta veramente perdendo la guerra. I francesi avanzano in Bohemia, l'elettore di Baviera sembra padrone della situazione, Maria Teresa sembra ridotta agli ultimi, e Federico ci ripensa, cambia idea un'altra volta e decide di ricominciare la guerra e invade la Bohemia. Gli austriaci hanno a fatica la possibilità di mettere insieme un esercito per affrontarlo, però ci riescono. Quindi un nuovo esercito entra in Bohemia e noi dovremmo raccontare un'altra battaglia. Noi qui le battaglie non le racconteremo in dettaglio invece, perché ci vorrebbe l'intera trasmissione se dovessimo raccontare tutte le battaglie di Federico, però su ogni battaglia importante qualcosa vale la pena di dire. Questa che stiamo per raccontare è la battaglia di Hotuzitz, è la seconda battaglia di Federico, è la prima che combatte lui davvero, perché ricordiamocelo, Amolwitz era scappato dal campo di battaglia. E' di nuovo una battaglia decisiva, perché quello è l'ultimo esercito austriaco, o riescono a sconfiggerlo o dovranno fare la pace. E Federico vince. Federico affronta questo esercito che è più grosso del suo, contrattacca, lo respinge, lo mette in rotta. Per quello che ne sappiamo, di nuovo, il merito non è tanto suo, Federico è ancora un generale inesperto, ma il merito è dell'esercito di suo padre, di quella capacità di manovra, di quella velocità di tiro, di quella disciplina ferrea della fanteria prussiana. Nella battaglia di Hotuzitz diremo soltanto una cosa ancora, che dopo la battaglia Federico comprò tre ettari di campi nella zona per fare un cimitero e seppellire tutti i morti. Tre ettari di morti. Però la battaglia era vinta e la guerra era vinta. Dopo la sconfitta di Hotuzitz perfino Maria Teresa si rese conto che doveva cedere qualcosa, almeno per il momento, e quindi accettò di cedere la Slesia a Federico per fare la pace. Ora, naturalmente Federico aveva promesso alla Francia, alla Baviera, di continuare la guerra fino all'ultimo, fino alla sconfitta finale dell'impero austriaco, ma di nuovo cosa gliene importava. Aveva avuto quello che voleva. I trattati per lui erano pezzi di carta, l'aveva scritto, che chissà perché i governi sono così ingenui da credere ai trattati, da credere alla parola data. Perciò fece la pace. La notizia scoppiò in Europa, oggi facciamo fatica a immaginarcelo perché non ci importa più granché della guerra di successione austriaca, ma immaginiamoci un governo come quello francese che si è impegnato a fare questa guerra fino in fondo con l'alleanza prussiana e che all'improvviso riceve la notizia che il re di Prussia li ha mollati e ha fatto la pace. Il primo ministro francese, il cardinale di Fleury, scoppiò a piangere e qualche ministro svenne quando arrivò questa notizia. Federico si divertiva un mondo. L'ambasciatore francese dice fa delle smorfie che non riesco a descriverlo, sembra un burattino. A Voltaire scrisse, è un'alleanza come un matrimonio, uno ha sempre il diritto di divorziare. Ora naturalmente Federico aveva fatto i suoi calcoli, si aspettava che senza di lui la guerra sarebbe durata ancora lungo, che la Francia, l'Austria si sarebbero dissanguate e intanto la Prussia si rafforzava. E invece aveva sbagliato i calcoli un'altra volta, perché senza la Prussia la coalizione era debole. I francesi da soli non avevano l'energia per continuare la guerra sul serio e Maria Teresa cominciò a vincerla la guerra. Tra l'altro entrò in guerra l'Inghilterra. All'Inghilterra non importava niente degli Asburgo, ma era nemica della Francia e quindi quella era una buona occasione per dare fastidio alla Francia. L'Inghilterra decise di sostenere Maria Teresa contro l'altro pretendente, amico dei francesi, l'elettore di Baviera. L'Inghilterra entrò in guerra e nel 1743 gli inglesi sbaragliarono i francesi in una famosa battaglia a Dettingen. Federico ci rimase malissimo. Che il diavolo si porti mio zio, disse, parlava del re d'Inghilterra naturalmente, perché i francesi sconfitti volevano dire che Maria Teresa trionfava. E infatti è così. La candidatura bavarese all'impero era belle finita. Maria Teresa in pratica aveva vinto, si ritrovava le mani libere e però aveva ancora un conto da presentare. E il conto da presentare era per il malvagio uomo di Berlino, che aveva occupato la Slesia e la stava ancora occupando. Federico si spaventò e decise che l'unica cosa da fare era tornare in guerra. Non aspettò che Maria Teresa lo attaccasse. Si alleò di nuovo con la Francia e con la Baviera per ricominciare la guerra. La cosa incredibile è che i francesi e i bavarese gli abbiano creduto di nuovo, abbiano firmato un trattato e abbiano accettato di impegnarsi anche loro. Una delle cose affascinanti in questa fase è come Federico cerca di giustificare la sua politica agli occhi del mondo. Si vede che stava imparando. Aveva cominciato anche a capire che non si possono fare delle porcherie troppo grosse senza cercare perlomeno di coprirle con qualche giustificazione. E quindi mandava in giro per l'Europa dei bellissimi memoriali dove diceva che lui era un fedele vassallo dell'impero. Era Maria Teresa che aveva violato la costituzione dell'impero. E il legittimo imperatore eletto era il duca di Baviera. E quindi lui, Federico, era costretto a fare la guerra a Maria Teresa. Naturalmente lui aveva a cuore soltanto la libertà dell'impero e la pace dell'Europa. Mandò in giro in tutte le corti memoriali di questo tipo e poi dichiarò guerra a Maria Teresa e procedette immediatamente a invadere la Bohemia. Siamo dunque nel 1744 e stiamo raccontando questa nuova fase della guerra di successione austriaca. Una fase che gli storici tedeschi chiamano anche la seconda guerra slesiana, perché in realtà appunto al di là del trono imperiale quello che interessava era chi avrebbe posseduto alla fine la Slesia, con tutte le sue ricchezze, con tutta la sua popolazione, la Prussia o l'Austria. Federico attaccava come fece quasi sempre durante la sua carriera di generale. Quando poteva attaccava, tirava i dadi e era sicuro di farcela. Entrò in Bohemia col suo esercito, così come pochi anni prima era entrato in Slesia. E qui però le cose erano diverse. La Bohemia era una provincia cattolica fedelissima agli Asburgo. Lì i prussiani erano stranieri e erano nemici davvero. I contadini erano ostili, non si trovava da mangiare. L'esercito prussiano cominciò a soffrire la fame. E quando i soldati hanno fame ovviamente requisiscono, entrano nei villaggi, portano via tutto, non pagano, bastonano, violentano. E quando succedono queste cose i contadini cominciano a aspettare i soldati isolati e fargli la pelle. E allora poi cominciano le rappresaglie, i villaggi bruciati. E la fame provoca anche le diserzioni. I soldati dopo un po' si stancano di questa vita. Nel giro di qualche mese l'esercito di Federico in Bohemia si squaglia come neve al sole. Senza neanche una battaglia perde metà delle sue forze. E alla fine Federico si rende conto che non può fare nient'altro che tornare indietro. E intanto a livello politico le cose gli stanno andando malissimo. L'elettore di Baviera, lo pseudo imperatore concorrente di Maria Teresa, muore e suo figlio non ne vuole più sapere di questa faccenda. Fa la pace. La Sassonia si allea all'Austria e promette di aiutarla contro i prussiani. Promette di aiutarla a riconquistare la Slesia. Tutto il mondo aspetta la fine di questa che è diventata una specie di caccia. Ormai sono tutti contro Federico e tutti decisi a fargliela pagare per come si è comportato fino a quel momento. Federico ripiega in Slesia con quello che gli resta del suo esercito e aspetta. Gli austriaci, i sassoni, mettono insieme un esercito grande il doppio del suo e si preparano a invadere la Slesia. E ripeto, tutto il mondo sa che ormai è finita. Si aspetta solo la notizia che finalmente il re di Prussia è stato rimesso a posto e che ha perso questo ennesimo azzardo. Ecco, si può immaginare a questo punto l'effetto che fa nelle corti e nei caffè d'Europa la notizia che quando l'esercito austriaco e sassone finalmente ha passato le montagne e è entrato in Slesia, Federico lo ha attaccato con un esercito grande la metà, lo ha sbaragliato, ha messo in rotta l'intera forza nemica, l'ha ricacciata al di là delle montagne, praticamente distrutta, insomma ha stravinto. E questa battaglia, che si chiama la battaglia di Hohen Friedberg, che comincia veramente a creare il mito di Federico. Le prime due potevano ancora essere un caso, ma questa è la terza volta che Federico vince e vince in condizioni in cui sembrava veramente che non avesse la minima possibilità di farcela. Anche Federico considerò sempre questa battaglia di Hohen Friedberg come il momento culminante della sua carriera. Scrisse anche una marcia militare, non abbiamo forse mai detto che Federico era un musicista, non si limitava a suonare il flauto, ma componeva, del resto ne parleremo prima o poi. Compose una grande marcia militare che chiamò la marcia di Hohen Friedberg, la dedicò alla sua cavalleria, che con una grande carica aveva vinto la battaglia, e questa marcia è suonata tuttora dall'esercito tedesco. A questo punto la situazione era ribaltata, Federico era il più forte. Invade la Sassonia, occupa Dresda e a questo punto nessuno ne può più. Accettano tutti di fare la pace. Perfino Maria Teresa ha denti stretti, firma. L'uomo malvagio è il padrone della Slesia. Lo aspettano dieci anni di pace e ci si chiede se abbia imparato qualche lezione. In apparenza sì. Infatti Federico, subito dopo la vittoria, si mette a parlare di come la cosa più importante per un re è la felicità dei sudditi. Che non bisogna più fare grandi progetti, che poi costano tanto sangue. Bisogna vivere invece, promuovere la vita. Non attaccherò più neanche un gatto, dichiara. Intanto però l'azzardo gli è andato bene. Ha aumentato del 50% la popolazione del suo regno e ha trasformato la Prussia in una potenza europea alla pari con l'impero austriaco. In patria lo accolgono in trionfo. E è proprio in quel momento che nei discorsi ufficiali e negli slogan si diffonde l'uso di chiamarlo Federico il Grande. Dopo la fine della seconda guerra per la Slesia, Federico il Grande e la Prussia ebbero dieci anni di pace. E allora forse questo è il momento di cominciare a chiederci che cosa voleva dire essere il re di Prussia in tempo di pace. Come governava Federico il Grande? Se fossimo così ingenui da fidarci di lui e prendere per buona la sua parola, potremmo andare a cercare la risposta in un trattato che lui stesso aveva scritto quando era principe ereditario ancora. Un trattato che è noto come l'Anti Machiavelli. In origine si chiamava Confutazione del Principe di Machiavelli, che è un po' più pedante come titolo. Fu Voltaire che aveva il genio della pubblicità che suggerì di chiamarlo Anti Machiavelli. Allora Federico pretendeva di essere rimasto scandalizzato dal Principe di Machiavelli, tanto che si mise al lavoro appunto per Confutarlo. Il Principe è uno dei libri più pericolosi del mondo, disse Federico. E poi continuò ragionando sul fatto che non era più l'Italia del Cinquecento quando un principe rischiava continuamente di essere fatto fuori, avvelenato o cacciato via da una rivolta di sudditi. Oggi, dice Federico, i re sono sicuri, non hanno paura di ribellioni o di avvelenamenti e perciò non devono pensare soltanto alla forza. Notate che è Federico che scrive queste cose quando ancora non era re. Non devono pensare soltanto a ingrandire il loro stato, devono pensare al benessere del popolo, promuovere le arti, le scienze. Un re deve essere benevolo, virtuoso, deve coltivare il sapere, non deve perseguire piaceri fisici violenti come la caccia. Questa era per suo padre Federico Guglielmo evidentemente. Ecco, si può immaginare come erano contenti i filosof vedendo un principe ereditario che esprimeva delle opinioni così illuminate. Appena Federico divenne re, Voltaire gli chiese il permesso di pubblicare a stampa l'anti Machiavelli, con qualche correzione stilistica che avrebbe fatto lui. E l'Europa fu ammiratissima di questo re filosofo. Peccato che subito dopo, invadendo la Slesia e scatenando la guerra di successione austriaca, Federico abbia un po' dissipato questa buona opinione che si erano fatti di lui. E da allora non è più di moda prendere sul serio l'anti Machiavelli. Anzi, i commentatori si esercitano a cercare quei passaggi dove Federico, senza volerlo, tradisce la sua vera natura. A un certo punto per esempio sostiene che le guerre preventive in fondo sono giuste. È vero che Voltaire non era d'accordo e che tagliò questo passo senza neanche chiedergli il permesso. In un altro punto Federico scrive che praticare l'inganno è un errore politico, però aggiunge se l'inganno è spinto troppo in là. Insomma, ognuno è libero di fare quello che vuole con l'anti Machiavelli e noi non siamo obbligati a credere che esprima davvero fino in fondo la concezione politica di Federico. Però c'è un'affermazione che senza dubbio invece esprime il suo ideale e che sta proprio all'inizio dell'anti Machiavelli. Del resto è un'affermazione che Federico doveva aver già sentito da suo padre. Il re è il primo servitore dello Stato. Ovviamente Federico deve aver sentito che detto così questo principio suonava un po' falso e infatti mette le mani avanti. È vero che è pagato molto bene, ma è per poter mantenere la dignità che si addice al suo ufficio. In realtà se c'è una cosa che possiamo riconoscere a Federico è che a lui della pompa, dello sfarzo, della magnificenza del trono non gli importava niente. O almeno riusciva benissimo a dare questa impressione e a comportarsi davvero da filosofo. Quando fu incoronato disse che la corona era solo un cappello che lascia passare la pioggia. E lo stesso disincanto gli piaceva manifestarlo in pubblico anche quando si trattava di cerimonie, di acclamazioni, tutta roba che gli dava fastidio. Quando entrò a Breslavia e fu accolto da una folla festante commentò mettete una scimmia su un cammello e avrete la stessa reazione. Federico dunque era un re filosofo, o meglio filosof come avrebbe detto lui, ma era anche un illuminista. Gli illuministi per definizione sono ottimisti, sono gente che ha fiducia nella ragione e nell'uomo, nel progresso del genere umano. Federico non era un ottimista, tranne quando tentava un azzardo in guerra, ma questo è un altro discorso. Era un razionalista, questo sì, però era un razionalista disilluso. Con i suoi amici intellettuali condivideva il disprezzo per i pregiudizi, per l'oscurantismo religioso, ecco questa è una cosa che veramente non gli andò mai giù, il disprezzo per il fanatismo di ogni genere, ma non condivideva la loro speranza nella ragione umana, la loro fiducia nel futuro dell'umanità. Ecco, quello semplicemente non ci riusciva a crederci. E quindi il suo illuminismo non impedì mai a Federico di essere un sovrano assoluto e anzi di sentirsi perfettamente a suo agio in quel ruolo. Delegare non gli piaceva, era talmente convinto di essere l'unico che ci capiva qualcosa e che gli altri fossero tutti degli incapaci o dei corrotti, che era tranquillo solo quando controllava tutto, personalmente, fino all'ultimo bottone delle divise e fino all'ultimo centesimo nei conti pubblici. Ora in realtà bisogna dire che ancora al tempo di Federico, ed è l'epoca in cui l'assolutismo sembra trionfare, raggiunge proprio il massimo della sua forza, ecco, tuttavia il potere di un re aveva ancora dei limiti. Soprattutto in materia finanziaria. I sovrani nel corso dei secoli avevano conquistato il diritto di imporre nuove tasse senza chiedere l'approvazione del Parlamento, come invece dovevano fare nel Medioevo. Beh, a dire il vero, un unico sovrano non c'era riuscito, lo sappiamo, il re d'Inghilterra, dove quando Carlo I ci provò gli tagliarono la testa. Ma in tutti gli altri regni i re erano indipendenti, potevano imporre tasse senza chiedere il permesso a nessuno. C'era un solo organo finanziario che poteva in qualche modo dargli fastidio, ed era la Corte dei Conti. La Corte dei Conti doveva approvare tutti gli ordini di spesa, anche quelli del re, e aveva in genere il potere di fare delle storie. Era una sana tradizione medievale, anche quella, che l'assolutismo non era riuscito a distruggere. In generale negli stati di antico regime una delle occasioni di conflitto politico si aveva proprio quando la Corte dei Conti rifiutava di approvare qualche decisione di spesa presa dal re e che però non aveva copertura finanziaria. Era un'opposizione che non poteva essere distrutta, bisognava girarla, bisognava fare dei giochi di prestigio col bilancio, insomma. E Federico, naturalmente, si diede da fare e diventò un maestro in questo. Tutto quello che poteva lo stornava su uno speciale capitolo di spesa che si chiamava Fondo a disposizione del re. E su quello la Corte dei Conti non ci poteva mettere il naso. Quindi, per esempio, quando conquistò la Slesia fu ben chiaro subito che le entrate fiscali della Slesia non confluivano nel bilancio generale. Andavano nel fondo a disposizione del re. Bisogna anche dire che l'unico a conoscere il bilancio dello Stato era lui. Nessun ministro lo conosceva tutto. Ciascuno conosceva soltanto il suo comparto. E Federico si vantava di non avere mai riunito un consiglio dei ministri. La considerava una cosa dannosissima. E del resto è difficile dargli torto vedendo come funzionano oggi i consigli dei ministri. Federico diceva i problemi, invece di chiarirsi, si complicano. Vengono fuori rivalità individuali per cui si perde l'unità d'azione del governo. E poi è impossibile mantenere il segreto sulle decisioni che si sta per prendere. Perciò Federico riuniva i suoi ministri solo una volta all'anno per comunicare appunto a ciascuno il suo bilancio di spesa. E basta. Per il resto comunicava con loro per iscritto. I ministri gli mandavano dei rapporti, dei memoriali, presentavano i vari problemi, prospettavano le possibili soluzioni e poi il re deliberava da solo, in segreto, e pubblicava dei cosiddetti ordini di gabinetto che avevano valore di legge. E ne emanava anche dodici al giorno. Del resto non erano testi complicati, bastavano due righe. Il re ordinava che si faccia questo. Non doveva neanche spiegare le ragioni. C'era una conseguenza inevitabile del sistema di governo di Federico, di questo sistema di governo assolutistico. Ed è che il re era completamente solo. Non aveva confidenti, non aveva consiglieri, non aveva neanche collaboratori, aveva soltanto servitori. Federico per carattere non accettava consigli da nessuno. Anzi, provare a dargli un consiglio era il modo sicuro per cadere in disgrazia. Una volta uno dei suoi ministri si permise di consigliargli di risiedere per un po' di tempo in Slesia, visto che appunto era la provincia che aveva appena conquistato e sarebbe stato bene, disse il ministro, se il re si fosse familiarizzato col paese. Poi la gente sarebbe stata contenta. Federico rispose, occupatevi di quel che vi riguarda e non permettetevi di dirmi dove devo o non devo andare. Qualche volta i ministri osavano anche criticare le decisioni economiche di Federico. Bisogna dire che si rimane ammirati di fronte al coraggio di questi ministri che nonostante tutto ogni tanto timidamente osavano alzare la mano e criticare. Questa volta la risposta del re fu un ordine che suonava così. Io mi meraviglio dell'impertinente memorandum che lor signori mi hanno mandato. Posso scusare i ministri per la loro ignoranza, ma la malizia e la corruzione di chi l'ha scritto deve essere punita in modo esemplare, altrimenti non riuscirò più a farmi ubbidire dalle canaglie. Ecco, questo è il modo in cui Federico parlava con i suoi ministri. In genere li trattava come scolaretti che dovevano essere esaminati e puniti se sbagliavano, o in alternativa come furfanti che dovevano tremare all'idea di una sua ispezione. Federico era convinto che dappertutto c'era del marcio, che tutti rubavano e che il suo compito era di fare il castigamatti e andare a mettere le cose a posto. Una volta gli capitò di arrabbiarsi con l'amministrazione di una nuova provincia, si chiamava il West Preussen, Prussia Occidentale, che poi era un pezzo di Polonia che Federico si era annesso. Gli capitò dunque di arrabbiarsi con l'amministrazione di questa provincia e quei funzionari si videro recapitare la seguente lettera del loro re. «Voi siete arci canaglie che non valgono il pane che mangiano e che meritano di essere messe alla porta. Aspettate che io venga nel West Preussen?» Insomma, anche i ministri più importanti erano solo dei servitori che dovevano preoccuparsi di eseguire gli ordini e scattare. Federico non li bastonava come aveva fatto suo padre, ma per il resto li trattava allo stesso modo. Non rispondevano a nessuno tranne a lui. Del resto la Prussia aveva la fortuna di essere un regno nuovo. Ricordiamoci che era nata soltanto al tempo del nonno di Federico. Essere un regno nuovo aveva dei grossi vantaggi per il re, perché non c'era l'ingombro di tutte quelle istituzioni medievali, come il Parlamento in Inghilterra o come gli stati generali in Francia, che limitavano in qualche modo il potere del re. In Prussia, grazie a Dio, il re era davvero il padrone. E visto che era il padrone, ci teneva a occuparsi personalmente di tutto. Un altro aspetto che è diventato leggendario della personalità di Federico è che lui prendeva tutte le decisioni, ma davvero tutte. Ancora verso la fine della sua vita nominava personalmente, non dico gli ufficiali, ma i sergenti e i caporali di tutto l'esercito, un esercito che intanto era salito a 200.000 uomini. Gran parte del suo tempo la dedicava a dei viaggi di spezione e dovunque andasse prendeva nota di tutto quello che gli sembrava da correggere e poi ordinava di provvedere. Durante un viaggio in Slesia prese un appunto di questo tenore. Nella città di Schweidnitz ci sono ancora troppo pochi tetti coperti di tegole. Bisogna provvedere. E uno si immagina i funzionari locali che, sospirando, convocano i padroni di casa e ordinano di sostituire i tetti di paglia con tetti di tegole. A loro spese, si capisce. E che facciano in fretta perché la prossima volta che il re passa di lì, se non si accorge di qualche miglioramento, saranno guai per tutti. Lo stile di governo assolutistico e intollerante di Federico si riconosceva anche nella sua politica finanziaria. Il re era molto attento ai bilanci e in genere in tempo di pace riusciva anche a realizzare un grosso avanzo di bilancio. Un paio di volte si bruciò tutti i risparmi con delle guerre costosissime che lasciavano le casse vuote e i contribuenti stremati. Però la seconda metà del suo regno fu un'epoca di pace e alla sua morte Federico lasciò il tesoro pieno di soldi. Però quando aveva bisogno di fare quattrini in fretta non si faceva comunque scrupoli. Durante la guerra dei sette anni impose una contribuzione di 30.000 talleri ai commercianti di Breslavia e ordinò al presidente dell'amministrazione locale di riscuoterli. I commercianti risposero che era impossibile pagare una somma così forte e il presidente fece l'errore di accompagnare la loro lettera con un rapporto favorevole che gli dava ragione. In margine al rapporto Federico annotò io preparo qualcosa per il presidente se non ottiene subito e senza discussione il denaro da questi mercanti. Ecco oggi non c'è nessun ministro delle finanze che possa usare questo linguaggio anche se a qualcuno probabilmente piacerebbe ma gli stati assoluti invece funzionavano così. Diciamocelo soprattutto in quell'Europa orientale dove la società civile era più debole e dove il complesso dei privilegi medievali che erano l'unica difesa contro l'assolutismo era meno forte di quanto non fosse in Francia o soprattutto in Inghilterra. In campo finanziario Federico non introdusse grandi riforme. In realtà la sua preoccupazione era di far rendere di più le imposte e di fare economie di spesa. Mentre lo dico mi accorgo che questo suona abbastanza attuale ma evidentemente certe preoccupazioni i governi le hanno sempre avute. Dopo la fine della guerra dei sette anni Federico decise un'unica grossa riforma e fu uno sbaglio. Si giocò gran parte della sua popolarità andando a toccare il sistema fiscale. Si sa che tutti i governi che vanno a mettere le mani nel sistema fiscale corrono dei rischi. D'altra parte Federico non doveva andare alle elezioni, poteva anche infischiarsene. In sostanza questa riforma del sistema fiscale fu un frutto della solita esterofilia di Federico che era sempre convinto che all'estero le cose le sapessero fare meglio che in Prussia. All'estero e soprattutto in Francia. Perciò decise di introdurre l'appalto delle tasse ai privati sul modello francese appunto. Si chiamava la Régie questo sistema e naturalmente affidò la gestione dell'appalto totalmente a personale francese. Fece venire dalla Francia centinaia di impiegati, gli mise alla testa un'equipe di manager super pagati, tutti francesi anche loro, e questa squadra di esperti si mise subito al lavoro per combattere l'evasione, per combattere il contrabbando e si possono immaginare le reazioni della gente. I bravi sudditi prussiani erano furiosi con questa folla di stranieri che si arricchivano a loro spese e che appunto, ripetiamolo, avevano in mano l'intera riscossione delle tasse. Oltretutto il bello è che anche in Francia si sapeva benissimo che appaltatori di questo genere erano sempre corrotti, realizzavano dei profitti enormi. Non per niente in Francia durante la rivoluzione, un bel giorno tutti gli ex appaltatori generali delle tasse vennero mandati tutti insieme alla ghigliottina. Ma Federico era talmente convinto che i francesi fossero più in gamba dei tedeschi che per un bel po' si rifiutò di ammetterlo e non volle cambiare il sistema. Finì che la gente si stancò di protestare e cominciò ad aggredire gli impiegati francesi della Regie e ci scappò anche qualche morto. E alla fine Federico si lasciò convincere, licenziò i francesi e nominò personale prussiano. È forse l'unico caso in cui la protesta dell'opinione pubblica abbia convinto Federico a cambiare idea. Tanto è potente la rabbia della gente quando si tratta di tasse. E per stasera io vi saluto e ci risentiamo lunedì prossimo. Al tempo di Federico il Grande i re pensavano che fosse loro dovere promuovere lo sviluppo economico. Non erano ancora i tempi dell'economia liberale, dell'SFR, delle borghesia che pretendono di essere lasciate in pace dal governo. Al contrario, in genere c'era pochissima fiducia nell'iniziativa privata. E i governi tendevano a regolamentare tutto e a pensare che solo in quel modo si poteva avere un'economia prospera. Federico ovviamente in un sistema del genere era nel suo elemento. E si buttò anima e corpo nello sforzo di sviluppare un'industria in Prussia. E lo fece a modo suo, preoccupandosi cioè dei minimi dettagli. Sono rimaste sue istruzioni sul modo migliore di allevare il baco da seta, sul metodo più economico per fabbricare lacci da scarpe e così via. E queste istruzioni venivano stampate e venivano fatte circolare nel regno. E i predicatori erano incaricati di comunicarle dal pulpito. Insomma, il re ficcava il naso in tutte le attività dei suoi sudditi e ovviamente voleva essere ubbidito. A un certo punto decise di fondare una cartiera a Berlino. A quel tempo la carta si faceva con gli stracci, no? Si facevano macerare. E un rapporto rivelò che in Prussia gli straccivendoli non raccoglievano abbastanza stracci. Allora il re si mise a pensare come fare in modo che gli straccivendoli raccogliessero più stracci. E alla fine lasciò un promemoria. È tutta colpa di una pessima abitudine che abbiamo qui in Prussia. Che le massaie usano gli stracci per accendere il fuoco. Perciò bisogna ordinare agli straccivendoli di provvedersi di combustibile e fare in modo che lo diano alle massaie in cambio dei loro stracci. E con gli occhi di oggi un re che si occupa di queste cose è abbastanza sorprendente. In realtà non si può dire che Federico avesse una concezione moderna dell'economia. Il suo era un approccio mercantilista che stava già passando di moda. Era di moda al tempo del re sole. Cosa vuol dire mercantilista? In due parole. Era una teoria economica secondo cui per garantire la prosperità di una nazione il commercio doveva essere rigidamente regolamentato. Non si pensava che la libertà di commercio fosse vantaggiosa per tutti. Il commercio era visto come uno scambio in cui uno guadagna e l'altro perde e quindi un governo saggio doveva regolarsi di conseguenza. L'esportazione andava benissimo per procurare valuta pregiata, però per esempio non bisognava esportare materie prime, come per esempio la lana, perché così si aiutavano le industrie straniere. L'importazione era considerata un pericolo, una debolezza per lo Stato. Non bisognava importare nulla e fabbricare nel paese tutto quello di cui c'era bisogno. Se non era economico, pazienza. Si tenevano in vita le industrie a forza di protezioni doganali e di sovvenzioni statali. Ecco, dicevo che queste idee già al tempo di Federico cominciavano a sembrare antiquate e erano criticate dai nuovi economisti. Anzi, ci sono economisti del Settecento che additano proprio la Prussia come esempio di un paese che ha una politica economica completamente sbagliata. Ma Federico non era uno che cambiava idea facilmente e continuò per tutta la vita a praticare questi principi. E quindi, sotto il suo regno, la produzione agricola in Prussia crebbe, soprattutto perché cresceva la popolazione. Qualche industria sovvenzionata dallo Stato cominciò a svilupparsi, ma nell'insieme non ci fu un vero decollo economico. Anzi, in certi settori ci fu addirittura un regresso. Torniamo alla Slesia, di cui abbiamo già parlato tante volte. Federico conquista la Slesia e in quel momento quella è una provincia ricchissima che ha un commercio fiorente con le altre province dell'impero austriaco, la Bohemia. Quando Federico conquista la Slesia non vuole più che i suoi sudditi commercino con gli stranieri e quindi fa di tutto per boicottare questi commerci della Slesia con la Bohemia. Alza tutta una barriera di protezioni doganali e il risultato è che il commercio della Slesia declina. La politica economica protezionista si basava anche sui monopoli e ovviamente Federico li trovava di suo gusto. In tutti i paesi c'era il monopolio di Stato sul sale e sui tabacchi, quello che in Italia in parte c'è ancora oggi. Ma oltre a questo Federico si inventò per esempio un monopolio sul caffè e ci caricò una tassa del 250%. In un caso come questo chiaramente lo scopo non era tanto di guadagnare quanto di scoraggiare l'importazione di una merce straniera, di qualcosa cioè che con tutta la buona volontà non si poteva produrre in casa. La nobiltà della Pomerania gli mandò una supplica chiedendo di ridurre la tassa sul caffè perché nessuno se lo poteva più permettere. Federico rispose la persona di sua maestà è stata allevata nella sua giovinezza inzuppando il pane nella birra. Anche il popolo di quella regione può fare colazione con la zuppa nella birra. È molto più sana del caffè. Qui peraltro è obbligo dello storico osservare che Federico era in assoluta malafede perché risulta che lui personalmente beveva 30 tazze di caffè al giorno. È vero che le correggeva con lo champagne quindi probabilmente l'effetto si riduceva. L'altro modo di migliorare l'economia consisteva nell'incoraggiare l'industria e gli interventi di Federico in questo campo sono molto indicativi della sua concezione. era una concezione quasi bellicosa dell'economia, competitiva, dobbiamo prosperare noi e rovinare gli altri. E anche qui i modelli a cui guardava erano dei modelli già vecchi, i modelli del tempo del re sole e del suo ministro Colbert. Così Federico decise di sviluppare in Prussia la fabbricazione della porcellana perché Luigi XIV aveva fatto così. Le manifatture di Sevres risalgono proprio a quell'epoca. Ora in Germania c'era già un'industria della porcellana e stava in Sassonia, cioè un paese che Federico odiava, che invase due volte in vita sua e che cercò sempre di rovinare. Verso la fine della guerra di successione austriaca appunto Federico aveva occupato la capitale della Sassonia, Dresda, e in quei mesi con tutto quello di cui doveva occuparsi trovò il tempo di rubare i segreti della fabbricazione della porcellana nelle fabbriche Sassoni. E a questo punto era pronto a fondare la regia fabbrica di porcellane a Berlino. Senonché venne fuori che la porcellana prussiana era comunque meno buona di quella Sassone e la gente non la comprava. Il re si intestardì. Per prima cosa è decisa che alla sua tavola si sarebbe usata solo porcellana nazionale. Poi cominciò a regalarla. A un certo punto i re europei sapevano già che in qualunque occasione in cui ci fosse da scambiarsi dei regali, dalla Prussia arrivava porcellana. E siccome non bastava ancora, Federico escogitò un altro sistema. Bisogna dire, per capire quello che sta per succedere, che allora in tutti i paesi d'Europa gli ebrei erano soggetti a limitazioni di vario tipo. In molti paesi era vietato agli ebrei risiedere. Ma anche dove erano ammessi dovevano generalmente pagare, avere un permesso di residenza, rispettare certi obblighi, certi limiti. In Prussia gli ebrei erano ammessi. Ma Federico decise che tutti gli ebrei che volevano venire a stabilirsi nel suo regno dovevano comprare per un certo valore di porcellana. Se poi volevano il permesso di stabilirsi a Berlino, altra porcellana. Se volevano sposarsi, di nuovo porcellana. Alla fine c'erano famiglie di ebrei ricchi, borghesi, che avevano le soffitte piene di porcellana invendibile, con cui avevano pagato tutti i loro diritti. E con tutto questo ancora oggi, come si sa, la porcellana tedesca viene dalla Sassonia. Si sa che il Settecento fu un secolo di riforme. Uno dei più grandi storici italiani, Franco Venturi, ha scritto un'opera fondamentale che si intitola appunto Settecento riformatore. E tra le riforme più urgenti in tutti i paesi c'era quella della giustizia. In generale i regni settecenteschi avevano ereditato un sistema giudiziario crudele, con la tortura, con la pena di morte diffusissima, e un po' dappertutto si sentiva l'esigenza di intervenire su questo. Anche Federico intervenne, con spirito illuminista. Fece riformare il diritto, fece abolire la tortura, molto prima che Cesare Beccaria scrivesse dei delitti e delle pene. Riformare la giustizia voleva dire anche cercare di unificarla, perché quelli erano paesi dove c'erano ancora privilegi, particolarismi, dove ogni provincia, ogni città, ogni ceto, ogni corporazione aveva il suo diritto diverso. I re del Settecento erano disperati di fronte a questo e, essendo finalmente assoluti, cercavano di eliminare tutte queste differenze, tutti questi privilegi. E anche Federico cercò di far mettere insieme un nuovo codice unificato per tutto il regno di Prussia. Ma in realtà il suo carattere lo portava di più in un'altra direzione. La sua tendenza era di andare a mettere il naso nei processi, nelle situazioni specifiche e andare a controllare quello che facevano i giudici. Anche in questo campo voleva sapere tutto. Esaminava personalmente un'infinità di appelli, di suppliche, esattamente come un re medievale. E di solito partiva dal presupposto che tutti i giudici fossero corrotti e che bisognava proteggere i sudditi contro i giudici. È emblematico di questo un caso che è passato alla storia come il caso del mugnaio Arnold. Questo Arnold venne sfrattato dal padrone del mulino perché non pagava l'affitto. Allora il mugnaio fece causa, sostenendo che un altro nobile gli portava via l'acqua e quindi il mulino non poteva più lavorare ed è per questo che lui non pagava l'affitto. Il tribunale competente disse che non poteva farci nulla. Se non pagava l'affitto del mulino era giusto che fosse sfrattato. Allora il mugnaio si appellò al re. Federico mandò un colonnello a fare un'inchiesta e il colonnello riferì al re che secondo lui il mugnaio aveva ragione. Allora Federico ordinò al tribunale di rifare il processo. Il tribunale rifece il processo, sostenne che non era vero che mancava l'acqua, che il mugnaio si era inventato tutto e lo condannò un'altra volta. Allora Federico avvocò il processo a Berlino e ordinò alla corte d'appello di rifarlo per la terza volta. Per la terza volta il mugnaio perse la causa. A questo punto Federico decise che gliel'avrebbe fatta vedere lui a questi giudici che opprimevano i poveri applicando la legge in modo così miope. Per prima cosa fece mettere in prigione tutti i giudici coinvolti, sia quelli del tribunale provinciale sia quelli del tribunale d'appello e ordinò al ministro della giustizia di aprire un'istruttoria contro di loro. Il ministro della giustizia, doveva essere un altro di quei pochi coraggiosi che ogni tanto tentavano di resistere, si rifiutò di processare i giudici. Federico lo convocò a palazzo e quando quello si presentò gli disse soltanto «March, il tuo posto è già occupato!». Lo condannò a un anno di prigione e gli fece pagare le spese processuali e il risarcimento al mugnaio. L'aspetto affascinante dell'intera faccenda è che dopo la morte di Federico si scoprì che il mugnaio era davvero un imbroglione, che non c'era mai stata perdita d'acqua. Però c'è anche un altro caso famoso, anzi leggendario, che riguarda un mugnaio, un altro mugnaio, che ha ancora a che fare con Federico e con i giudici e quindi raccontiamo anche questo perché così il quadro è più completo. Dunque la leggenda racconta che il re stava facendo costruire il suo palazzo vicino a Potsdam e aveva bisogno di espropriare un mulino, ma il mugnaio non voleva vendere e sosteneva che il re non aveva il diritto di espropriarlo. Federico cercò di cacciarlo con la forza e il mugnaio rispose a muso duro, e la storia è tutta qui, il mugnaio rispose «Io farò causa, ci sono ancora dei giudici a Berlino». Ecco questo aneddoto, che è probabilmente falso, diciamolo, è interessante perché in realtà solo a prima vista il re ci fa una brutta figura. In realtà il messaggio che trasmette è che sotto il regno di Federico la giustizia era talmente rispettata che i giudici avrebbero difeso anche un povero diavolo contro il re. Noi prima abbiamo raccontato la storia del mugnaio Arnold, che al contrario di questa è vera, è documentata, e insomma vediamo che le cose, non dico che fossero proprio il contrario, ma certo erano un po' più complicate di così. C'è un ultimo aspetto importante del governo di Federico che voglio rievocare stasera, e per una volta è un aspetto pienamente confortante, che giustifica la sua immagine di re filosofo e illuminato, ed è la tolleranza religiosa. Beninteso, l'epoca di Federico non era più quella delle guerre di religione. In Europa nessuno rischiava più la pelle per motivi religiosi. Ma questo non vuol dire che ci fosse la libertà di religione. Le minoranze religiose erano oppresse dappertutto. Un cattolico in Inghilterra o un valdese in Piemonte praticamente non aveva diritti. Federico volle che il suo regno fosse aperto a tutti i profughi perseguitati per ragioni religiose. In realtà già alla fine del Seicento, quando il re Sole aveva abrogato l'editto di Nantes, che concedeva diritti ai protestanti, e aveva cominciato a perseguitare i protestanti, già allora molti ugonotti francesi si erano rifugiati in Prussia. E i re di Prussia si erano accorti subito che quegli immigrati occidentali contribuivano molto alla crescita del paese. E ancora al tempo di Federico, a Berlino c'era una colonia ugonotta molto attiva. Ecco, fin qui però non c'era niente di strano, perché gli ugonotti erano comunque protestanti, e quindi accoglierli in un paese protestante non stupiva nessuno. È molto più significativo quello che successe quando i gesuiti cominciarono ad avere dei guai. I gesuiti nel Settecento erano molto criticati e temuti, perché si pensava che avessero un vastissimo potere sotterraneo, i re avevano paura di loro. E a un certo punto i gesuiti cominciarono a essere espulsi, non dai paesi protestanti, e lì non li avevano mai lasciati entrare, cominciarono a essere espulsi dai regni cattolici. E Federico li accolse. Ovviamente aveva previsto un tornaconto, perché nel suo paese c'era un bisogno disperato di insegnanti, e i gesuiti per vocazione erano ottimi insegnanti. La scuola prussiana andava a Maluccio Federico, a un certo punto si era ridotto a nominare maestri di scuola, i soldati rimasti invalidi in guerra, e si può immaginare che maestri ne venissero fuori. Quindi i gesuiti vennero accolti a braccia aperte, ma rimane il fatto che per un re protestante era una scelta controcorrente. Anzi, si verificò una situazione addirittura paradossale, perché a un certo punto il Papa, dando retta ai re cattolici, decise di sopprimere la compagnia di Gesù, che era diventata scomoda anche per lui, e la Prussia protestante fu uno dei pochi paesi in cui i gesuiti continuarono a esistere. Oh, anche qui naturalmente, la tolleranza e la libertà religiosa non le ha inventate Federico, al suo tempo erano di moda fra gli intellettuali, fra gli illuministi, ma non è che i governi e la società civile fossero già attrezzati per praticarle. E anche in Prussia la tolleranza di Federico suscitò delle critiche. A queste critiche il re rispose con una delle sue frasi più memorabili. Io ho accolto i gesuiti e ho costruito per loro delle chiese cattoliche, e se turchi e pagani vorranno venire a lavorare qui e arricchire il paese, io costruirò per loro moschee e templi, perché qui ciascuno deve andare in paradiso alla sua maniera. Ecco, il riferimento ai turchi e alle moschee ovviamente è di particolare attualità, anche se Federico stava facendo un paradosso e non si immaginava che un giorno interi quartieri di Berlino sarebbero stati popolati proprio da turchi. Ma il principio era quello, e Federico vi rimase sempre fedele. Siccome a forza di conquiste aveva un numero sempre più grande di sudditi cattolici, fece costruire a Berlino una cattedrale cattolica, dedicata a Santa Edvige, patrona di Polonia, e la fece costruire a pochi passi dal Palazzo Reale. In Slesia, che era divisa fra le due confessioni, il re nominava i predicatori nelle chiese luterane e regalava addobbi per le statue della Vergine nelle chiese cattoliche. Oggi tutto questo magari non ci stupisce più, ma bisogna ricordare che all'epoca sarebbe stato completamente impensabile nei paesi più ricchi e civili d'Europa, come la Francia cattolica o l'Inghilterra protestante. Federico il Grande era acclamato dai suoi contemporanei come un re filosofo. A dire il vero avevano già deciso che sarebbe stato un filosofo prima ancora che diventasse re, perché già quando era principe ereditario tutta Europa parlava del contrasto fra suo padre, il re sergente, e ci ricordiamo ancora la rozzezza di questo personaggio, il contrasto fra il re sergente e lo stile brillante di Federico, che nel suo castello di Reinsberg invitava intellettuali e letterati stranieri e scriveva opere come l'Anti Machiavelli, che poi venivano pubblicate all'estero con prefazione di Voltaire e accolte con entusiasmo dal pubblico colto. E per capire Federico, o almeno per cercare di capirlo, perché credo che nessuno possa vantarsi veramente di riuscire a capire Federico fino in fondo, per cercare di capirlo bisogna tenere conto proprio di questa sua facilità di scrittura, che era anche poi una gran voglia di pubblicare, di essere letto, di essere applaudito, di far discutere con le sue opere. Tutte queste voglie se le portò dietro per tutta la vita. E scriveva, scriveva, scriveva continuamente. Non si capisce bene dove trovarsi il tempo, visto il carico di lavoro che aveva. Eppure ha lasciato una montagna di opere. Bisogna anche dire che per il gusto di oggi sono quasi tutte illeggibili. Però questo non conta. È comunque una produzione enorme a cui lui è evidente che teneva moltissimo. E quindi per capire l'uomo bisogna anche sprofondarsi in questo oceano. Che innanzitutto è un oceano di versi francesi. Perché il genere che gli riusciva più facile era proprio la poesia. Ma appunto, intendiamoci, non la lirica, no. Poesia di un genere che è completamente passato di moda oggi. Poesia didascalica. Che in pratica è poco più che prosa rimata. Federico scriveva in versi su qualunque argomento. Su soggetti storici, scientifici, morali. Ovviamente appunto scriveva in francese. C'è un certo tipo di verso che è tipico della poesia classica francese. E del teatro classico francese. Il verso che usava Racine. Sono gli alessandrini. Sono dei versi un po' meccanici, a dire il vero. Se uno è un bravo artigiano li può fabbricare in serie. E Federico ne fabbricava instancabilmente. Anche in tempo di guerra, quando uno si immagina che avesse tutt'altro per la testa, lui stava sotto la tenda e scriveva versi francesi. L'unica cosa che si può dire è che evidentemente ne aveva bisogno. Si distendeva in questo modo. Era una fuga, forse anche. Scriveva a seconda delle circostanze. Dopo la vittoria di Rosbach, butto giù tutto un poemetto per farsi beffe dei francesi che aveva sconfitto. Invece quando veniva sconfitto lui, gli venivano più facili le meditazioni poetiche sul destino o sulla morte. Ogni tanto i versi doppicavano e allora ricorreva a Voltaire per farseli correggere. Voltaire alla fine era così stufo che la loro amicizia rischiò di guastarsi per questo. Poi, cos'altro scriveva Federico? Trattati. Trattati sul buon governo, sulla buona amministrazione. Già quando era bambino avevano cominciato a fargli scrivere cose del genere. Sui doveri di un principe cristiano. E anche lì non smise mai. Scriveva opere storiche. Per esempio fece una storia della sua dinastia, gli Hohenzollern. E anche qui il modello era sempre il solito Voltaire, che per l'epoca era veramente in qualche modo il punto di riferimento di tutto. Voltaire era anche il grande storico della sua epoca. Scrisse il secolo di Luigi XIV, un'opera che ancora oggi vale la pena di leggere. E Federico quindi scriveva opere storiche. Scrisse anche le sue memorie e le chiamò Histoire de Montaigne, storia del mio tempo. Ed è una cosa anche questa, che vale la pena di leggere. Si capisce che l'autore mente, ma non più di chiunque altro nella stessa situazione. E si capiscono tante altre cose. E poi, per un re filosofo ovviamente, c'erano anche le opere filosofiche. Non che Federico avesse una grande inclinazione per la speculazione astratta, però specialmente in vecchiaia vennero anche quelle, opere morali soprattutto. E insomma, ce n'è abbastanza per giustificare il fatto che i suoi contemporanei fossero abbastanza stupiti di un re di questo genere. Abbiamo passato in rassegna, così un po' rapidamente, la produzione letteraria di Federico. Vale la pena a questo punto anche di riflettere un po' sui suoi limiti come filosofo, come pensatore. In realtà basta aprire un qualunque libro di Federico per accorgersi che da un lato aveva uno stile estremamente brillante, era uno spiritoso con la battuta pronta, però era anche uno stile superficiale. Oggi diremmo giornalistico in qualche modo. Federico non va quasi mai a fondo nelle cose, non è un pensatore veramente. Va molto in dettaglio certe volte, che però è un'altra cosa. E se uno riflette in generale sulle sue concezioni, sulla sua visione del mondo, ci si accorge che da diversi punti di vista c'erano dei limiti. Per esempio, Federico visse in un'epoca in cui il mondo stava cambiando vertiginosamente. C'era la rivoluzione industriale, c'era la rivoluzione americana a un certo punto. Ecco, Federico è vissuto attraverso tutto questo e non chiuso in un buco di provincia. Faceva il re e tutte queste cose le conosceva bene. Tuttavia non c'è rimasta neanche una riga sua in cui in qualche modo cercasse di riflettere appunto su come il mondo stava cambiando. Forse è perché non ci credeva che il mondo potesse cambiare. Era talmente disilluso nei confronti dell'uomo che non credeva che un po' di illuminismo avrebbe potuto cambiare la realtà. Non credeva nel progresso, per esempio. Certo, poi si dava da fare per migliorare l'industria prussiana o per fare economie sul bilancio dell'esercito, ma non è quello il progresso. Il progresso dell'umanità, quella cosa che proprio dal suo tempo cominciava a affascinare la gente e che poi più tardi, nell'Ottocento, diventerà l'illusione di tutta la civiltà europea. Il progresso. Ecco, questo nella prospettiva di Federico non c'è. E magari aveva anche ragione, però ovviamente questo vuol dire che non ha nessuna stima, nessun interesse per quei progressi reali, scientifici per esempio, che stavano davvero cominciando a venire fuori. Del progresso scientifico Federico non si interessava, meno che non si trattasse magari di migliorare i cannoni. Ma in generale era fuori dalla sua prospettiva. Una volta disse a uno dei suoi amici intellettuali, uno dei grandi illuministi, d'Alanbert, gli disse ma questa elettricità tutti ne parlano tanto, ma è chiaro che è solo un giochino, non serve assolutamente a niente. E allora, nel momento in cui ragioniamo su questi limiti dell'intelligenza di Federico, vale la pena di dire una cosa che a prima vista ci stupisce perché il personaggio è così cosmopolita, un grande sovrano, amico degli illuministi, uno che si occupa di tutto, che governa e che si è orientato con successo per mezzo secolo nella politica europea. Ecco, in apparenza dovremmo pensare a Federico come qualcuno che aveva una cultura e un'esperienza enorme, vastissima, diversificata. Eppure, per esempio, Federico non andò mai da nessuna parte. Praticamente non viaggiò mai. Ci fu un viaggio importante nella sua vita, l'abbiamo raccontato un po' di tempo fa, quando da ragazzo il re se lo portò dietro nella Germania Meridionale e Federico cercò di scappare. Dopo quella volta il re non lo portò mai più da nessuna parte. Quando era ragazzo era stato una volta alla corte di Dresda, che non è poi così lontana da Berlino. Ecco, basta, per il resto Federico non è mai andato da nessuna parte. C'è un'unica occasione, era appena diventato re, proprio da poche settimane, fece una scappata, un altro colpo di testa, da ragazzo proprio, andò per due giorni a Strasburgo in incognito. Ovviamente un re in incognito lo riconoscono subito, la gente faceva la fila per vederlo in mezzo alla strada, il governatore francese di Strasburgo era imbarazzatissimo, finalmente Federico capì e se tornò a casa. Ecco, a parte questa scappata, Federico non uscì mai dalla Germania e non uscì quasi mai dalla Prussia. Non vide niente, non vide Parigi, non vide Londra, non vide l'Italia. E allora forse, ecco, su questo vale la pena di riflettere, quando si cerca di capire come mai un uomo così brillante e così intelligente al tempo stesso ha potuto avere una impostazione intellettuale con tanti limiti. Quando parliamo della cultura di Federico, dobbiamo parlare per forza anche della sua attività edilizia, degli edifici, dei monumenti che ha lasciato. Se uno oggi va a Berlino, a quella che una volta era Berlino Est e che già da parecchio tempo è stata restaurata alla perfezione, sull'Unterden Linden trova un monumento di Federico a cavallo. Il monumento è posteriore, naturalmente, ma intorno a questa statua di Federico a cavallo ci sono i grandi edifici che lui ha lasciato alla sua capitale. E in particolare l'edificio che amò più di tutti, il teatro, un'architettura da tempio greco, di quelle che piacevano appunto al gusto neoclassico, con la scritta pagana Fridericus Rex, il re Federico, Apollini et Musis, ad Apollo e alle Muse, che per un re protestante, appunto, anche questo, non era così normale. Subito dietro il teatro c'è la Chiesa di Santa Edvige, la cattedrale cattolica che Federico fece costruire per i suoi sudditi polacchi, col suo tetto di rame che ancora nei quadri del primo ottocento è rosso e oggi invece è diventato verde per l'ossidazione. Ma il gusto per le costruzioni di Federico si esplicò soprattutto nei palazzi. Aveva una mania per i palazzi? Bisogna dire che tutti i re ce l'avevano. Anzi, è talmente spiccata questa tendenza dei re assoluti a investire nella costruzione di enormi palazzi, ovviamente Versailles per il re sole, ma tutti i re di allora costruivano. È talmente spiccata questa mania che uno si chiede veramente che cosa significa. Perché da un lato sembra un tale spreco, una tale ostentazione inutile in questi paesi dove la gente moriva di fame e il re costruiva questi immensi palazzi uno dopo l'altro. Forse invece era necessario, forse era un investimento propagandistico di cui c'era bisogno, perché il re era agli occhi di tutti il suo palazzo e bisognava imprimere bene nella testa della gente che cosa voleva dire il potere del re. Forse era anche una scelta economica razionale, forse costruire questi palazzi, aprire questi enormi cantieri voleva dire anche dare lavoro. Un'infinità di operai, di artigiani, di commercianti vivevano per anni, per decenni sui cantieri di questi palazzi. Chi lo sa? Certamente Federico aveva anche però il gusto personale dei palazzi. Lo disse anche a un certo punto, disse gioco con i palazzi come una bambina gioca con le bambole. E il palazzo più importante, quello che ancora oggi è identificato più di tutti con l'immagine di Federico, è il palazzo di Saint-Souci, a Potsdam, la cittadina vicino a Berlino. Il palazzo che Federico si fece costruire dopo la vittoria nella seconda guerra per la Slesia, con l'idea di viverci da scapolo, praticamente, perché la regina lì non ci veniva mai, stava da un'altra parte. Il palazzo di Saint-Souci, che Federico volle chiamare così, Saint-Souci in francese vuol dire senza pensieri, senza preoccupazioni. e riflette, come dire, l'ultima stagione della vita di Federico in cui, dopo aver vinto la sua prima guerra, Federico forse ha davvero pensato di ridiventare un re filosofo, amante dei piaceri, del teatro, dei balli, delle conversazioni. A Saint-Souci Federico coltivava frutta e fiori nelle serre, invitava i suoi amici intellettuali, viveva in una società esclusivamente maschile, perché quello era il suo gusto, ma non però una società a rozza come quella di suo padre, non una società di soldatacci che fumavano la pipa e si ubriacavano tutta la notte. La società di Federico era fatta appunto di musicisti, di scrittori. L'unica donna invitata qualche volta era sua sorella, Guglielmina, ma anche lei ci andava di rado. Si diceva che gli unici esseri di sesso femminile che ci fossero nel palazzo erano le levriere di Federico. Guglielmina lo definì un monastero. E mio fratello è il padre superiore, disse. Anche Voltaire era entusiasta di questa società maschile che si riuniva intorno a Federico II a Saint-Souci e la paragonò al circolo di Platone, niente meno. Disse, non c'è mai entrata né una donna né un prete. Il palazzo di Saint-Souci a Potsdam con le sue architetture rococò leggerissime in mezzo alle terrazze e ai giardini è emblematico del gusto artistico di Federico che era un gusto forse convenzionale per la sua epoca però estremamente raffinato. Federico collezionava arte. Finché era principe ereditario comprava soprattutto quadri francesi che allora non costavano ancora troppo anche se certi vattò gli costarono già un bel po' di talleri. Poi quando divenne re potè permettersi qualcosa di più e effettivamente mise insieme una collezione d'arte abbastanza straordinaria. Tanto per capirci aveva tre Leonardo cinque Raffaello e nove Tiziano. Il valore complessivo oggi è incalcolabile ma se vogliamo farci un'idea per uno solo dei quadri di Federico un vattò ma famosissimo però l'imbarco per Citera ecco vent'anni fa il museo Polghetti offrì dodici milioni di dollari. Se parliamo del gusto di Federico però dobbiamo anche di nuovo collocarlo un po' nel suo tempo. Quella era un'epoca in cui appunto stava finendo il rococò e stava cominciando il gusto neoclassico e infatti molti altri edifici di Federico saranno appunto neoclassici templi greci frontoni colonne tutti gli intellettuali del suo tempo condividevano questi gusti e la cosa sorprendente per noi oggi è che amare appunto il neoclassico voleva dire diventare completamente ciechi verso tutte le altre forme d'arte. Gli intellettuali del Settecento ci stupiscono perché con tutta la loro intelligenza e con tutta la loro raffinatezza quando vedevano una cattedrale gotica dicevano ma che orrore ma che vecchiume ma bisognerebbe buttarla giù e farci un bel tempio greco in sostanza avevano un unico modello di bellezza in testa e Federico era così questo lo si vede molto bene anche nei suoi gusti letterari chi aveva questa impostazione neoclassica non riusciva a capire per esempio Shakespeare Shakespeare era già famoso a quell'epoca e però non era di moda non era di moda perché appunto se uno era cresciuto con certi gusti Shakespeare sembrava rozzo sembrava barbaro violava tutte le regole già scriveva in inglese che per Federico era una lingua barbara per cui non volle mai impararla sul serio quando decise di leggere Shakespeare se lo fece tradurre in francese e lo lesse e rimase scandalizzato per lui per il suo gusto le tragedie di Shakespeare era una roba assurda non rispettavano le unità classiche d'azione di tempo di luogo mescolavano continuamente il comico il tragico tutte cose che non si fanno tutte cose di cattivo gusto Federico disse testualmente parlando appunto delle tragedie di Shakespeare è roba che tutt'al più va bene per i pelli rosse d'America e anche questo appunto ci aiuta a capire da un lato il fascino e dall'altro i limiti di questo mondo intellettuale di cui Federico era uno dei leader ma di cui era anche però prigioniero insomma e questo ebbe risultati particolarmente gravi nel rapporto di Federico con la letteratura tedesca si sa che per lui l'unica lingua colta civile era il francese anche il tedesco era una roba da barbari la letteratura tedesca Federico non la capì mai la considerò sempre anche quella roba barbara eppure fece in tempo a leggere le prime cose di Goethe e non gli piacciono neanche quelle quando lesse il Goethe von Berlichingen di Goethe disse che era un'orribile imitazione dei drammi di Shakespeare e già quelli sono brutti non leggeva non comprava non proteggeva i letterati tedeschi e questo in qualche modo la cultura tedesca non gliela ha mai perdonato c'è sempre un imbarazzo nella cultura tedesca quando si parla dei gusti letterari di Federico e si fece anche del male in questo modo a un certo punto gli proposero di assumere ai musei di Berlino Winckelmann che era il più grande archeologo dell'epoca un uomo che avrebbe avuto un'influenza immensa sulla cultura tedesca oltretutto proprio con la riscoperta del gusto neoclassico greco quindi roba che in teoria a Federico avrebbe dovuto piacere però Winckelmann era tedesco e Federico rifiutò di pagargli lo stipendio che chiedeva per un tedesco mille talleri sono sufficienti ovviamente Winckelmann rifiutò e Federico non l'ebbe mai a suo servizio il nostro ritratto di Federico il Grande non sarebbe completo se non ci fermassimo un po' di più sui suoi rapporti con due fra i più grandi suoi contemporanei due intellettuali e artisti di grandissima rilevanza non solo nel Settecento ma in tutti i tempi sto parlando di Voltaire e di Johann Sebastian Bach Voltaire l'abbiamo già menzionato tante volte sappiamo che Federico intrattenne per tutta la vita una corrispondenza con lui e che questa corrispondenza è anche una delle fonti più straordinarie per conoscere Federico il Grande però il suo rapporto con Voltaire in realtà fu qualcosa di molto più complicato e vale la pena di ripercorrerlo in tutte le tappe il loro rapporto era cominciato quando Federico era ancora principe ereditario e aveva spedito a Voltaire un suo saggio filosofico con una letterina di accompagnamento ovviamente piena di elogi bisogna pensare che Voltaire aveva 18 anni più di lui ed era già l'intellettuale più famoso d'Europa in quella letterina di Federico a guardar bene c'era una frase che avrebbe potuto suscitare un qualche allarme a Voltaire il principe ereditario di Prussia diceva facendogli appunto ogni sorta di complimenti io vorrei possedervi e in qualche modo tutta la storia del loro rapporto sarà segnata da questa voglia di Federico di impadronirsi di Voltaire e dai tentativi di Voltaire di evitarlo ovviamente però intanto Voltaire fu molto lusingato che il principe si rivolgesse a lui gli rispose con grandi complimenti dicendogli che era una rarità unica fra i principi Federico a sua volta fu lusingatissimo insomma cominciarono a scriversi regolarmente quando Federico diventò re la prima cosa che fece fu di invitare Voltaire e rimasero insieme tre giorni e Voltaire ricorda che a cena discutevano dell'immortalità dell'anima della libertà del destino e altre piccolezze del genere Federico era entusiasta Voltaire tra l'altro gli lesse la sua nuova tragedia che era dedicata tra tutti gli argomenti possibili a Mahometto ecco non oso pensare che cosa se ne penserebbe oggi Voltaire rimase anche lui entusiasta ma con qualche riserva trovò che Federico era davvero un filosofo e disse mi ha quasi fatto dimenticare che quello che stava lì seduto ai piedi del mio letto era un re che comandava un esercito di centomila uomini quasi però e se si tiene conto che Voltaire tra l'altro era un antimilitarista molto deciso ecco anche qui si vede che qualche riserva c'era il loro incontro successivo avvenne già pochi mesi dopo e fu un incontro bizzarro stava per scoppiare la guerra di successione austriaca tutti i governi europei erano in allarme e il governo francese sapendo che Voltaire e Federico ecco andavano così d'accordo suggerì a Voltaire di andare a trovare il re e vedere se per caso non fosse mai che riusciva a prendere qualche cosa sui suoi progetti e quindi fu questo incontro di nuovo ambliguo da un certo punto di vista Federico era contentissimo di averlo lì d'altra parte gli pagava le spese e tirò fuori una quantità di soldi enorme per questo soggiorno di Voltaire tanto che alla fine fu anche un po' seccato ecco c'è una lettera di Federico a un altro amico in cui in realtà si esprime abbastanza duramente nei confronti di questo Voltaire che è tanto intelligente e simpatico ma costosissimo come giullare mi costa caro un buffone di corte non ha mai avuto un salario così da parte sua Voltaire si accorse che tutto sommato Federico anche se gli faceva un sacco di complimenti alla fine lo considerava poco più di un buffone di corte e comunque si rifiutava di parlare con lui di politica per cui la sua missione per conto del governo francese fu un fallimento a un certo punto Federico gli disse seccamente se non le spiace io con lei vorrei parlare di poesia non di politica e a Voltaire non rimase per il momento che adeguarsi Passò qualche anno ci fu la guerra di successione austriaca e poi Federico tornando da trionfatore a casa si preparò a vivere molti anni di pace e di tranquillità e ovviamente gli ritornò la voglia di vedere Voltaire si erano sempre scritti nel frattempo e questa è una di quelle cose curiose fra l'altro dell'Europa del Settecento due paesi potevano essere in guerra ma i cittadini e perfino i sovrani di questi paesi si scrivevano fra loro tranquillamente nel frattempo e nessuno si sognava di impedirlo ecco era un mondo un po' diverso dal nostro da questo punto di vista però quando tornò la pace Federico decise che aveva voglia appunto di possederlo questo filosofo che nel frattempo diventava sempre più famoso e può darsi benissimo che dal punto di vista di Federico fosse anche questa tutto sommato un'ambizione ecco l'ambizione di dimostrare che lui il re filosofo aveva tutti al suo servizio anche i grandissimi attuali che tutti ammiravano fatto sta che Voltaire ebbe un'offerta che non poteva rifiutare fu invitato a trasferirsi con armi e bagagli in Prussia con tutte le spese pagate appartamento al palazzo di Sanssouci uno stipendio principesco il titolo di Ciambellano la croce pur le merit che era la più alta decorazione di Prussia insomma Voltaire accettò si trasferì a Berlino e all'inizio sembrava che tutto andasse bene Voltaire ovviamente viveva la vita di corte cenava tutte le sere in privato con il re quando non c'erano ospiti discutevano di arte di letteratura di filosofia è il paradiso dei filosofi disse Voltaire però dopo un po' con i suoi amici privati cominciò anche a lamentarsi si era accorto che il paradiso era anche una gabbia dorata il re era gentile simpatico chiacchierava chiacchierava con lui tutte le sere però era pur sempre il re era pur sempre un padrone Voltaire scrisse quando i re ti dicono mio caro amico vuol dire in realtà per me tu non conti niente e quando ti invitano a cena vogliono dire vieni perché voglio divertirmi alle tue spalle naturalmente tutte le corti dei re sono dei nidi di vipere dove ci sono invidie pettegolezzi le cose si vengono a sapere Federico dopo un po' venne a sapere che Voltaire diceva queste cose dietro le sue spalle e ci rimase abbastanza male tuttavia tirarono avanti tirarono avanti finché Voltaire non fece una grossa sciocchezza e cioè si imbarcò in una speculazione nei titoli di stato prussiani approfittando delle informazioni riservate che riusciva a ottenere vivendo a palazzo e quando poi questa speculazione andò male e ci perse un sacco di soldi fece causa al banchiere accusandolo di averlo imbrogliato ecco a questo punto Federico non ne poteva più la cosa era scandalosa Voltaire era diventato veramente ingombrante per cui Federico decise di allontanarlo per qualche tempo però non lo rimandò in patria lo fece stare per un po' fuori dal palazzo ma in realtà gli seccava che fosse andata male questa storia Voltaire poi comunque lo divertiva sarà anche stato soltanto un buffone di corte per lui ma un buffone di lusso alla fine lo perdonò e lo fece tornare bisogna anche dire che Federico stava scrivendo un lunghissimo poema in francese sull'arte della guerra e aveva bisogno di Voltaire per correggergli i versi e Voltaire lavorava anche se non era tanto contento pare che quando arrivava un canto nuovo sospirasse altra biancheria sporca da lavare insomma finì male un'altra volta ci fu un momento in cui Voltaire non ne pote più e decise di svinarsela e se la svinò proprio perché non osava chiedere il permesso al re quindi partì senza dire niente a nessuno portandosi via la medaglia la chiave d'oro che era la sua insegna di Ciambellano e anche un manoscritto molto imbarazzante di poesie di Federico in cui si insultavano i vari re d'Europa altre poesie invece erano oscene insomma Federico ovviamente andò su tutte le furie fece inseguire Voltaire lo fece arrestare prima che lasciasse la Germania e lo costrinse a restituire tutto era andata male quei tre anni erano stati alla fine un'esperienza fallimentare e tuttavia quando furono lontani ricominciarono a scriversi e continuarono per tutta la vita a scriversi Voltaire diceva non posso vivere con voi ma neanche senza di voi e quando alla fine Voltaire morì Federico lo commemorò così sono nato di gran lunga troppo presto ma non lo rimpiango ho veduto Voltaire l'altro grande contemporaneo con cui Federico ebbe un rapporto molto significativo fu Johann Sebastian Bach ma per parlare di questo bisogna forse parlare un po' più ampiamente di Federico e la musica perché Federico fu un musicista appassionato e tra l'altro fu un grande flautista secondo i contemporanei e anche quando parlavano fra loro non solo quando facevano i complimenti a lui era realmente un flautista superiore alla media fu un compositore e uno dei pochissimi credo re europei di cui ancora oggi è possibile comprare le composizioni su CD non soltanto marce militari che fin lì potremmo magari anche aspettarcelo come la famosa marcia di Hohen Friedberg che compose per celebrare una delle sue grandi vittorie ma anche sinfonie per esempio era un compositore più che decoroso e insomma ci sono persone che per tutta la vita ottengono soltanto risultati di questo tipo in un campo per Federico fu un campo del tutto secondario e marginale in apparente rispetto alla sua attività di re di uomo di guerra di filosofo scrittore e tuttavia invece anche in questo campo raggiunse dei risultati nettamente al di sopra della media va detta una cosa che la Germania era eccezionale da questo punto di vista rispetto al resto d'Europa la Germania era già la patria della musica era un paese in cui era normale che i nobili e anche i re i principi facessero musica quindi Federico in questo non ha inventato nulla quello che appunto invece colpisce è la qualità del livello Federico era poi appassionato naturalmente di opera ma qui ecco qui c'è una contraddizione interessante fare musica voleva dire da un lato fare musica italiana perché l'opera era interamente dominata dagli italiani Federico promosse sempre l'opera fece costruire il teatro dell'opera berlino fece eseguire opere italiane però al tempo stesso la musica era anche l'unico aspetto in cui Federico partecipava alla cultura tedesca l'orchestra di corte per esempio era interamente composta di musicisti tedeschi e in generale in questo ambito Federico si può dire che fu dentro alle correnti della cultura e dell'anima tedesca del suo tempo ecco è strano che forse proprio in quest'ambito in cui in cui si esprimeva senza le parole si esprimeva componendo si esprimeva col flauto si lasciava anche andare perché tutti i contemporanei ci dicono che il re suonava anche e specialmente nei momenti di massima tensione quando doveva sfogarsi e probabilmente nel flauto trovava il modo di esprimere così quei sentimenti che normalmente invece si proibiva di tirar fuori perché era così autocontrollato ecco è strano che proprio in quest'ambito Federico abbia permesso a se stesso di essere tedesco però era anche sempre il sovrano assoluto e ci sono episodi anche da questo punto di vista che ci aiutano a non entusiasmarci troppo per Federico e a ricordarci che uomo era come l'episodio di una cantante veneziana la barbarina Campanini che era una famosissima cantante dell'epoca e che doveva venire a cantare a Berlino e a un certo punto invece decise di non venire più stracciò il contratto Federico scrisse al doge di Venezia chiedendo che intervenisse il governo veneziano rispose che non poteva farci niente allora Federico arrestò il primo diplomatico veneziano di passaggio in Prussia e fece sapere a Venezia che non lo avrebbe rilasciato fino a quando la barbarina Campanini non fosse venuta a Berlino il doge chinò la testa e la cantante venne a sapere dal suo governo che era meglio che facesse i bagagli e che andasse a Berlino forse l'episodio più famoso nella vita musicale di Federico è il suo incontro con Bach con Bach padre dico si sa che c'era tutta una dinastia di Bach e i figli di Johann Sebastian ebbero rapporti molto fitti con Federico Carl Philipp Emanuel fu anche al suo servizio a Berlino ma qui quello che ci interessa è l'incontro di Federico con il più grande dei Bach con Johann Sebastian si videro una volta sola per due giorni il 7 e l'8 maggio 1747 eppure quei due giorni sono entrati nella storia della musica Bach venne a Potsdam invitato dal re e già questo è qualcosa che fa riflettere perché da un lato certo noi pensiamo Bach il più grande musicista di tutti i tempi forse e anche allora era molto stimato ma era anche un vecchio musicista che stava cominciando a passare di moda la musica che faceva Federico era molto diversa da quella di Bach Federico faceva una musica molto più leggera diciamo così certamente non si occupava di polifonia certamente non aveva nessun interesse per la musica religiosa e quindi è già una cosa significativa che nonostante questo Federico che avrebbe potuto guardare alla musica di Bach come un'anticalia di cui non gli importava niente invece abbia sentito il bisogno di invitarlo e di confrontarsi con lui c'è anche chi pensa che in realtà Bach stesso fosse alla ricerca di un nuovo impiego e che quindi si è andato a Berlino a esplorare la possibilità di farsi assumere lì o magari anche soltanto a richiedere qualche sovvenzione perché a quell'epoca la vita musicale funzionava in questo modo i musicisti avevano bisogno di patroni ricchi che li mantenessero ma in realtà sembra sicuro che sia stato proprio Federico a invitarlo e noi abbiamo di questo incontro tra il grande re e il grande musicista molto più vecchio di lui abbiamo un resoconto scritto proprio dai figli di Johann Sebastian Bach la storia dice che Federico si stava preparando guarda caso proprio a un concerto quando gli fu annunciato l'arrivo del musicista Federico posò il flauto e disse signori è arrivato il vecchio Bach piantò tutto e diede ordine che Bach fosse condotto immediatamente a palazzo senza neanche lasciargli il tempo di cambiarsi ecco ovviamente gli studiosi tedeschi vanno in estasi di fronte a questa delicatezza di Federico a questa sua capacità di entrare in contatto con un grande eroe della cultura tedesca ripetiamolo è forse l'unica occasione in cui Federico si dimostra sensibile alla cultura tedesca e l'incontro fu un incontro a suo modo straordinario il re e il musicista discussero di strumenti musicali provarono un nuovo modello di fortepiano l'antenato del pianoforte che cominciava a nascere proprio in quell'epoca e poi Federico chiese a Bach di spiegargli come funzionava la polifonia questa musica che a lui doveva già apparire appunto un po' arcaica e certamente difficilissima e di cui Bach invece era il più grande esponente al mondo gli chiese di spiegargli come funzionava l'arte della fuga che è l'aspetto più complesso della polifonia allora Bach gli disse beh mi proponga un tema e io costruirò una fuga così su due piedi così faccio vedere come funziona Federico ci pensò un po' propose un tema e su questo tema Bach improvvisò una serie di composizioni e poi tornato a casa sviluppò queste composizioni e ci costruì quella che è rimasta una delle sue opere più importanti e anche più difficili la mandò in offerta a Federico e per questo si chiama l'offerta musicale è considerato uno dei grandissimi capolavori del Bach maturo ed è basato appunto su un tema proposto da Federico il Grande che infatti Bach chiama nella letra di accompagnamento tema regium il tema del re ecco già soltanto il fatto che Federico abbia saputo proporre il tema per quello che sarà poi uno dei grandi capolavori della musica di tutti i tempi basterebbe a meritargli un posticino nella storia della musica nel nostro racconto della vita di Federico il Grande siamo arrivati a un momento di svolta un momento decisivo all'inizio della guerra dei sette anni la guerra più dura che Federico combatte in vita sua la guerra in cui colse le sue più grandi vittorie ma in cui subì anche le sconfitte più catastrofiche la guerra in cui si coprì di gloria e in cui più di una volta fu sull'orlo dell'abisso una guerra che cominciò da uomo ancora giovane nel pieno delle forze mentre quando finì era un vecchietto rattrappito e con i capelli bianchi la guerra da cui nonostante tutto però uscì contro praticamente tutto un mondo coalizzato contro di lui uscì vittorioso salvando quella posizione della Prussia come grande potenza europea che lui stesso aveva costruito invadendo la Slesia all'inizio del suo regno la guerra dei sette anni dunque è un episodio anzi diciamo pure una fase estremamente importante su cui varrà la pena di fermarci abbastanza a lungo e vale la pena di cercare di spiegare quale fosse la posta in gioco dal punto di vista delle grandi potenze europee coinvolte non solo dal punto di vista di Federico la guerra dei sette anni comincia nel 1756 ma già da qualche anno c'erano avvisaglie che la pace europea sarebbe stata presto turbata il conflitto in realtà non era neanche solo europeo ma era mondiale perché era innanzitutto un conflitto tra la Francia e l'Inghilterra per il possesso delle colonie negli altri continenti infatti la guerra dei sette anni è stata anche chiamata la prima vera guerra mondiale perché inglesi e francesi combattevano in America combattevano in Asia in India ed è la guerra da cui le ambizioni della Francia uscirono stroncate e da cui l'Inghilterra invece uscì confermata come grande potenza coloniale allora questa guerra a un certo punto cominciò a avere un risvolto in Europa tocca dare una precisazione dinastica di quelle complicate ma senza questo si rischia di non capire niente il re d'Inghilterra era in realtà un principe tedesco era della casa di Hannover e quindi possedeva in Germania questo principato di Hannover la Francia che combatteva l'Inghilterra sui mari e in mezzo mondo e in genere però era più debole in Europa invece sul continente era più forte e quindi minacciava di invadere l'Hannover da tutto questo un personaggio che abbiamo evocato qualche tempo fa e che adesso torna sulla scena Maria Teresa d'Austria cominciò a trarre qualche conseguenza interessante Maria Teresa d'Austria non era poi riuscita a farsi incoronare imperatrice ma aveva fatto incoronare suo marito in realtà poi comandava lei quindi tutto sommato ce l'aveva fatta a recuperare l'eredità dell'impero e però c'era qualcosa che le bruciava aver perso la Slesia e non essere riuscita a riconquistarla aver dovuto fare la pace con l'uomo cattivo di Berlino ecco questo era qualcosa che Maria Teresa non aveva mai mandato giù veramente e allora cominciò a ragionare sul fatto che la Francia era in guerra con l'Inghilterra e che forse sarebbe stato possibile tirarla dentro anche un'altra guerra farle fare la guerra anche alla Prussia Maria Teresa in pratica offrì alla Francia di aiutarla di aiutarla a conquistare l'Hannover e in cambio i francesi avrebbero aiutato l'impero a riconquistare la Slesia ecco adesso ovviamente queste cose ci suonano aride politica dinastica dobbiamo cercare di metterci nei panni della gente di allora dei politici e dei re di allora e dobbiamo cercare di renderci conto quanto fosse audace questa proposta di Maria Teresa perché la Francia e l'impero erano sempre stati nemici erano i due poli intorno a cui ma fin dal medioevo si era mossa la politica europea la rivalità tra Francia e impero era un carattere strutturale della storia d'Europa Maria Teresa ha l'audacia intellettuale di proporre di rovesciare tutto di alleare Francia e impero e di fare la guerra per stroncare questa nuova potenza che è venuta a perturbare la pace d'Europa la Prussia di Federico l'imperatrice Maria Teresa dunque cominciò a trattare col governo francese per creare una coalizione contro la Prussia dal suo punto di vista sarebbe stata una guerra benedetta da Dio per tanti motivi uno è che finalmente le grandi potenze cattoliche invece di combattersi si sarebbero unite la Francia e l'Austria avrebbero fatto la guerra alle potenze protestanti Inghilterra e la Prussia appunto ma poi Maria Teresa vedeva questa guerra quasi come una crociata perché aveva identificato in Federico una volta disse addirittura il principio del male cioè un uomo che era venuto a imporre un nuovo modo di fare politica e un nuovo modo di fare la guerra profondamente immorale secondo Maria Teresa era necessario che questa immoralità fosse punita e che il militarismo prussiano fosse stroncato sul nascere per evitare poi che degenerasse e che trascinasse tutta l'Europa nel baratro del militarismo disse questa guerra va fatta per la salvaguardia della nostra santa religione e per la felicità del genere umano e nella coalizione fu tirata dentro anche un'altra potenza europea fino a un certo punto ma proprio per questo ansiosa di affermarsi in Europa la Russia Maria Teresa prese contatti anche con la zarina Elisabetta e le fece balenare la possibilità di espandere il dominio russo verso occidente la Russia già allora cominciava a guardare con interesse alle ricche province prussiane alla Prussia orientale quella Prussia orientale che poi la Russia nel 1945 effettivamente è riuscita ad annettersi e che ancora adesso è terra russa e dunque si creò questa coalizione certo c'era una difficoltà per scatenare la guerra ed è che la Francia era legata alla Prussia da un trattato di alleanza noi sappiamo già che Federico non si sarebbe imbarazzato per questo per lui i trattati erano pezzi di carta e si stracciavano quando ce n'era bisogno e le alleanze erano matrimoni da cui si divorziava quando si voleva ma appunto non tutti i re d'Europa erano così spregiudicati in generale si cercava di rispettare le convenienze di mantenere la parola data dunque la Francia era legata alla Prussia da un trattato ma questo trattato scadeva nel marzo 1756 e quando Federico si accorse che i francesi invece di cominciare a discutere con lui di come rinnovare il trattato non si facevano sentire cominciò a pensare che c'era qualche cosa che non andava poi vennero non più le sensazioni ma le notizie le notizie concrete del fatto che i diplomatici francesi trattavano con Vienna e che alla fine il primo maggio del 1756 l'Austria e la Francia e poi anche la Russia strinsero un trattato di alleanza naturalmente nel trattato non si parlava affatto della Prussia era un trattato di alleanza difensiva fra quelle potenze ma Federico era uno che non si faceva illusioni e capì subito o perlomeno si convince subito che quel trattato era rivolto contro di lui ora noi abbiamo detto che la Prussia era diventata una potenza con la conquista della Slesia ma proviamo a immaginare la situazione di questo regno che era pur sempre un piccolo regno completamente circondato con la Russia a est l'Austria a sud est e la Francia a sud ovest non aveva nessuna possibilità sulla carta non ne aveva Federico si ragionò su e decise che l'unica cosa da fare era colpire per primo fin da quando era ragazzo aveva scritto in uno dei suoi tanti trattati e riflessioni sul mestiere di re che la guerra è una brutta cosa che non bisogna cominciarle ma la guerra preventiva quando si è minacciati e beh quella un re ha il diritto di farla e perciò cominciò a ragionare sull'ipotesi di attaccare per primo la coalizione era potente era molto più ricca di lui ma avrebbe avuto bisogno di molto tempo prima di mettere in campo i suoi eserciti coordinare la strategia e gli interessi di potenze diverse non era facile Federico era da solo ma proprio in quello stava anche la sua forza nell'estate del 1756 Federico prese la sua decisione avrebbe attaccato per primo prima che l'Austria la Russia e la Francia fossero in grado di mobilitare i loro eserciti e di attaccarlo per la sua offensiva scelse la Sassonia e cioè uno che non c'entrava niente in realtà un piccolo regno che non si era ancora alleato con l'Austria ma Federico era sicuro che l'avrebbe fatto inoltre Federico per ragioni sue odiava la Sassonia aveva sempre deciso di stroncarne il potere in tutti i modi stavolta avrebbe fatto un passo in più avrebbe invaso la Sassonia e l'avrebbe semplicemente annessa alla Prussia i suoi ministri furono terrorizzati quando vennero a sapere di questi progetti perché qui si andava anche oltre quello che Federico aveva già fatto una volta nel 1740 allora aveva invaso senza pretesto una provincia una provincia altrui se l'era presa e basta una rapina ma adesso si trattava di invadere un regno un regno intero neutrale che non aveva nessuna colpa e senza avere proprio nessunissimo pretesto per farlo se non l'interesse l'interesse di colpire per primi di allargare la potenza della Prussia di garantirsi una base di operazione avanzata contro i nemici i ministri dunque si permisero di far notare a Federico con rispettosa franchezza cito tutti i disastri e le orribili conseguenze che potevano venire fuori da questo passo azzardato Federico trovò che era un modo di ragionare troppo timido e che non era così che si faceva politica convocò il ministro degli esteri stette a sentirlo per un po' e poi gli disse che poteva anche andarsene adieu monsieur de la timide politique adieu signor politica timida ecco su Federico possiamo pensare quello che vogliamo ma certamente non era timido in politica e dunque e dunque invase la Sassonia senza dichiarazione di guerra senza nessuna provocazione senza nessuna giustificazione semplicemente ci entrò occupò la capitale Dresda circondò l'esercito Sassone prima che questo fosse in grado di scendere veramente in campo e lo costrinse ad arrendersi il diritto internazionale era calpestato sotto i piedi in tutta Europa le corti reagirono scandalizzate e anche a questo punto seriamente spaventate perché cominciavano a capire con chi avevano a che fare Federico era convinto di aver fatto la cosa migliore secondo gli storici di oggi no qualcuno ha scritto che l'invasione della Sassonia fu un incredibile atto di follia da parte di Federico perché dopo tutto può anche darsi che la coalizione magari non sarebbe riuscita davvero a fargli la guerra i ministri contavano di riuscire a lavorare con la diplomazia per scongiurare questo pericolo Federico invece tagliò il nodo brutalmente con la spada una volta occupata la Sassonia come se non bastasse si comportò di nuovo in un modo che non si era mai visto e che il diritto internazionale non aveva mai neanche lontanamente immaginato in pratica l'intero regno fu confiscato la Sassonia aveva un bilancio di 6 milioni di talleri all'anno e Federico ne incamerò 5 per mantenere l'esercito di occupazione la Sassonia aveva un esercito che Federico aveva catturato intatto ebbene i soldati furono costretti a arruolarsi nell'esercito prussiano in massa senza chiedere il loro permesso agli ufficiali che erano gentiluomini fu lasciata la scelta invece la truppa fu incorporata in blocco nell'esercito prussiano anche qui la saggezza di questa misura è discutibile negli anni successivi quasi tutti i Sassoni disertarono dall'esercito prussiano questo fra l'altro ci fa anche intravedere che questi eserciti di mercenari in realtà cominciavano ad avere un senso di patriottismo o se non di patriottismo di odio i Sassoni odiavano i prussiani erano cordialmente ricambiati e insomma anche qui Federico si comportò in un modo tale da scandalizzare tutto il mondo Maria Teresa cominciò a mandare in giro dei memoriali in cui faceva notare agli altri re che non si era mai vista nella storia d'Europa una potenza che si comportasse in un modo così brutale così spregiudicato e che calpestasse tutte le regole in questo modo dal punto di vista puramente militare in ogni caso l'invasione della Sassonia aveva davvero dato un vantaggio a Federico i suoi nemici non erano pronti e il secondo anno di guerra nel 1757 fu Federico a attaccare padrone della Sassonia era in grado di sboccare nelle pianure dell'impero austriaco con la massima facilità invase la Bohemia Maria Teresa gli mandò contro l'esercito che nel frattempo faticosamente aveva messo insieme l'aveva messo al comando di uno dei suoi parenti Carlo di Lorena ecco bisogna dire che Maria Teresa che in genere di sbagli non ne faceva tanti da questo punto di vista sbagliò spesso come molti re era convinta che le cose è meglio farle in famiglia e tendeva ad affidare gli eserciti austriaci a parenti in particolare questo Carlo di Lorena che poi sul campo non si rivelavano all'altezza Federico affrontò Carlo di Lorena lo sbaragliò presso Praga occupò Praga dopo la Sassonia insomma aveva conquistato anche la Bohemia e le cose gli andavano a gonfie vele e il mondo cominciava a chiedersi se questo re di Prussia e dopo tutto fosse invincibile sul serio perché l'esercito austriaco sconfitto a Praga era più grosso del suo tutto lasciava pensare insomma che i prussiani qualche difficoltà l'avrebbero avuta e invece no ormai erano abituati tutti da un pezzo a chiamarlo Federico il Grande e stava dimostrando apparentemente sul campo di battaglia di essere anche il più grande generale del suo tempo ma Maria Teresa era una ostinata mise in campo un altro esercito trovò un generale migliore di suo cognato Carlo di Lorena un generale vale la pena che facciamo il suo nome perché è l'unico che durante la guerra dei sette anni diede del filo da torcere a Federico si chiamava Daun il maresciallo Daun Daun dunque ebbe il comando di un altro esercito austriaco ed entrò in Bohemia e Federico lo attaccò convinto di sbaragliarlo come sempre aveva sbaragliato tutti i nemici che l'avevano affrontato ecco Federico ricordiamo solo fino a quel momento aveva vinto tutte le sue battaglie ed è proprio questo che rende clamoroso l'esito della battaglia di Colin in cui invece Federico fu sconfitto era la prima volta in vita sua che era sconfitto e l'effetto nel mondo fu clamoroso perché in pratica lui aveva giocato tutto sull'ipotesi di una guerra lampo sull'ipotesi che gli austriaci non sarebbero riusciti a riconquistare la Bohemia e che lui si sarebbe trovato in una posizione di forza tale che la coalizione non avrebbe più osato attaccarlo e si sarebbe disgregata la sconfitta di Colin rimetteva tutto in gioco la guerra lampo era fallita e Federico doveva prepararsi a una lunga guerra e il mondo era sicuro che non avesse le risorse per farcela la sconfitta di Colin non a caso è diventata famosa ha dato origine a ogni sorta di aneddoti nell'ottocento in Germania la costruzione del mito di Federico il Grande ha cercato di fare anche della sconfitta di Colin un episodio da leggenda si racconta che una volta poi anni dopo Federico incontrò un granatiere vide che questo granatiere era sfregiato e gli fece in quale osteria ti sei fatto quella cicatrice il granatiere rispose in un'osteria dove vostra maestà ha pagato il conto a Colin ecco questi sono aneddoti però che entrano in circolazione più tardi nei giorni dopo la sconfitta di Colin noi sappiamo invece per esempio che i fratelli di Federico fra loro si scrivevano e quasi non riuscivano a nascondere la soddisfazione perché questo fratello maggiore saputello che sapeva sempre tutto lui che aveva sempre vinto ecco stavolta le aveva prese uno di questi fratelli il principe Enrico che era anche lui un grande generale lo dimostrerà in seguito scrisse sempre in francese naturalmente finalmente Fetonte è caduto ecco Fetonte nel mito greco era il figlio del sole che aveva avuto l'arroganza di guidare il carro del sole senza essere capace e poi era sprofondato era precipitato ecco il fatto che i fratelli stessi di Federico avessero soddisfazione all'idea che finalmente aveva perso una battaglia ci fa capire come hanno reagito le altre corti europee a questa notizia siamo nell'estate del 1756 la grande guerra europea è scoppiata solo da un anno e nessuno sa ancora che alla fine ne durerà sette e che passerà la storia appunto come la guerra dei sette anni la sensazione anzi è che la guerra finirà molto presto perché Federico il grande che ha iniziato questa guerra convinto di riuscire come dire a prevalere ancora una volta con un colpo di dadi sulla coalizione nemica Federico il grande ha subito la sua prima grande sconfitta a Colin e apparentemente la sua situazione è disperata non dimentichiamo che la Prussia è praticamente sola la sua unica alleata è l'Inghilterra che però sul continente europeo non è in grado di aiutarlo seriamente contro Federico le più grandi potenze del mondo la Francia l'impero austriaco la Russia la situazione prussiana è talmente fragile appunto che basta una sconfitta in campo per dare l'impressione che tutto si è perduto e Federico nelle settimane dopo la sconfitta di Colin tocca uno dei momenti di massima depressione della sua vita reagisce come faceva lui scrivendo versi per esempio si sa che era l'unico modo che è uno dei modi insieme al flauto che aveva per rilassarsi per scaricare la tensione dopo la sconfitta di Colin Federico produce un fiume di versi francesi che sono però appunto quello che è interessante è l'argomento meditazioni su come gli eroi antichi sfidavano il destino su come la morte è una bella cosa perché mette fine alle sofferenze e così via lui stesso sapeva che scrivere versi in quelle situazioni era una specie di droga una volta disse certe volte vorrei ubriacarmi per affogare le preoccupazioni ma siccome non mi piace bere l'unica cosa che riesce a distrarmi è fare versi e finché dura questa distrazione dimentico la mia sfortuna però non è che potesse distrarsi troppo i russi stavano marciando sulla Prussia orientale gli austriaci avevano riconquistato la Bohemia e si preparavano a entrare in Slesia i francesi avanzavano verso la Sassonia in questo momento quando Federico non sapeva da che parte cominciare per difendersi da tutte queste minacce gli arrivò anche un altro colpo gli arrivò la notizia che era morta sua madre i ministri erano così preoccupati dell'effetto che poteva avere questa cosa sul morale del re che era appunto già in depressione per conto suo che cercarono di tenergliela nascosta ma sua moglie gli scrisse per annunciare questa cosa e mise un sigillo nero da lutto sulla busta anziché un sigillo rosso così fu impossibile impedire a Federico di aprire la lettera e appunto la scoperta che sua madre era morta lo buttò giù ancora di più si mise a scrivere un'altra opera poetica e la intitolò Epistola sul caso dove cercava di dimostrare che i politici hanno un bel calcolare ma in realtà brancolano sempre nel buio e il mondo in realtà è dominato dal caso ecco questa era la situazione di Federico che a questo punto lascia l'esercito va a Berlino per cercare di coordinare la strategia su tutti i fronti affida l'esercito al più grande dei suoi fratelli Augusto Guglielmo che era anche destinato a succedergli in caso di guai perché Federico non aveva figli e non ne avrà mai ecco le disgrazie non vengono mai sole Augusto Guglielmo al comando dell'esercito dovrebbe cercare di coprire la Sassonia comincia a ritirarsi Federico lo avverte che non deve più ritirarsi deve dare battaglia se continui così fra un mese sarai a Berlino gli scrive in realtà Augusto Guglielmo si rivela un generale catastrofico non riesce a dare battaglia viene respinto buttato fuori dalla Bohemia ha completamente fallito il suo compito quando si presenta a Federico Federico si rifiuta di parlargli poi fa sapere che lui e i suoi generali meriterebbero tutti quanti la corte marziale la condanna a morte e che solo visto che lui è un principe non farà niente del genere contro di lui Augusto Guglielmo chiede il permesso di andarsene e Federico gli fa sapere il principe può andare dove gli pare ecco Augusto Guglielmo pochi giorni dopo si ammala e muore gli storici hanno sempre detto di crepacuore in realtà pare probabilmente di un tumore al cervello ma certamente la scenata con suo fratello non l'ha aiutato ecco ci siamo soffermati molto a lungo nel descrivere la situazione disperata in cui Federico il Grande si trovava nell'estate del 1757 situazione disperata dal punto di vista militare e anche psicologicamente ecco si vede benissimo che Federico ha toccato in quel momento veramente l'orlo della disperazione ci siamo fermati a lungo su questo perché perché quando si racconta una guerra bisogna cercare di far capire che effetto hanno le battaglie perché certe battaglie diventano famose diventano famose perché arrivano come un colpo di fulmine perché di colpo cambiano la situazione la stravolgono completamente questo è il caso delle due battaglie che racconteremo questa sera perché Federico a un certo punto si stanca di scrivere versi si stanca di insultare i suoi fratelli e i suoi generali decide di rimboccarsi le maniche e di provarci anche se la situazione è disperata l'unica cosa da fare è provare ancora a raddrizzarla non gli rimane granché come esercito dopo le sconfitte subite riesce a mettere insieme una forza abbastanza piccola tre grandi eserciti nemici avanzano contro la Prussia si tratta di scegliere il primo contro cui marciare Federico decide di andare a sud contro i francesi che stanno avanzando verso la Sassonia è la prima volta che Federico affronta i francesi fra l'altro il popolo che amava così tanto che ammirava così tanto li va ad affrontare i francesi sono abbastanza tranquilli hanno un esercito forte il doppio rispetto a quello di Federico è un esercito a cui si sono aggiunte anche truppe dell'impero truppe reclutate in varie zone della Germania avanzano quindi con una certa sicurezza Federico si porta abbastanza vicino apparentemente non ha la forza per dare battaglia rimangono così per qualche giorno con i francesi e gli imperiali che ogni giorno avanzano arrivano un po' più vicini al loro obiettivo alla Sassonia a un certo punto un mattino presto Federico ha l'impressione che ci sia l'occasione ha l'impressione che il nemico che ormai non si aspetta più di essere attaccato stia avanzando con un po' troppa tranquillità con le truppe in colonna in formazione di marcia incolonnate lungo le strade in una posizione quindi in cui non è facile poi difendersi e c'è un gioco di colline di valli che può permettere ai prussiani di avvicinarsi al nemico senza che se ne accorgano ecco Federico immediatamente prende la decisione mette in movimento il suo esercito l'esercito prussiano è ancora il migliore del mondo come rapidità di marcia come capacità di manovra anche senza preavviso si sposta arriva all'improvviso sul fianco dell'esercito francese imperiale che sta marciando tranquillo che non si aspetta niente Federico scatena l'attacco in due ore l'esercito nemico è completamente annientato e la battaglia di Rosbach che è fino a quel punto la più famosa delle battaglie e delle vittorie di Federico e con la distruzione completa di questo esercito nemico con pochissime perdite da parte prussiana questo è uno dei rari casi in cui lo squilibrio delle perdite nelle battaglie di quell'epoca è totale i prussiani perdono 500 uomini il nemico 10.000 e oltre a perdere 10.000 uomini il nemico perde anche completamente qualunque voglia di continuare il maresciallo Subis comandante dell'esercito scrive a Luigi 15 scrivo a vostra maestà nella più profonda disperazione la rotta del vostro esercito è totale non sono in grado di dire quanti ufficiali sono stati uccisi o catturati o perduti il collega di Subis il principe di Hilburghausen che comandava il contingente imperiale si dimette il giorno dopo e scrive a un amico il mio martirio è finito non resterei qui neanche se l'imperatore mi desse un milione al mese ecco la leggenda di Federico ha fatto un altro passo avanti i generali cominciano a avere paura di affrontarlo cominciano a voler fare qualunque cosa piuttosto che dover dare battaglia contro Federico e questa superiorità morale poi servirà parecchio al re di Prussia negli anni successivi per riuscire a restare a galla con la battaglia di Rosbach dunque il mito di Federico il grande si era consolidato ulteriormente in particolare in Francia questa sconfitta suscitò un'impressione enorme si cominciò a avere l'impressione che non ci fosse nessun generale francese che valesse qualcosa visto che venivano sbaragliati così facilmente a un certo punto si sparse addirittura la voce che Federico stava per invadere la Francia e che c'era il pericolo di trovarselo a Parigi entro pochi giorni e la duchessa d'Orléans disse grazie a Dio finalmente vedrò un uomo ma sta di fatto che Federico si era liberato soltanto di uno dei tre eserciti nemici e ciascuno di quelli più forte del suo che stavano avanzando contro il regno di Prussia infatti Federico dopo Rosbach è tutt'altro che entusiasta sì veramente scrive un poemetto francese per farsi beffe di quei vigliacconi di francesi e di come sono scappati però poi deve di nuovo rimbocarsi le maniche perché il lavoro è appena cominciato il prossimo è l'esercito austriaco che sta invadendo la Slesia che sta facendo cioè quello che Maria Teresa aspetta da dieci anni finalmente riprendersi questa provincia che Federico le ha rubato Federico raduna le sue forze recluta nuove truppe raschia il fondo della pentola e si mette in marcia verso la Slesia ormai tra l'altro è inverno non c'è più molto tempo nel cuore dell'inverno di solito non si combatte e gli austriaci sono già entrati in Slesia bisogna buttarli fuori lo stato d'animo di Federico in questo momento ecco possiamo capirlo andando a vedere il testamento segreto che scrisse proprio in quel momento in cui ordinava ai suoi generali se fosse stato ucciso di giurare fedeltà al prossimo suo fratello in linea di successione e poi diceva per quanto mi riguarda voglio essere sepolto a Saint-Souci di notte e senza cerimonie non voglio nessuna autopsia che mi seppelliscano senza fare tante storie ecco con questo stato d'animo Federico nel dicembre del 1757 entra in Slesia e va ad affrontare gli austriaci gli austriaci hanno il doppio delle sue forze Federico li affronta e ancora una volta incredibilmente li sbaraglia e li annienta completamente è la battaglia di Leuthen queste due battaglie Rosbach e Leuthen avvengono nel corso di un mese Rosbach il 5 novembre Leuthen il 5 dicembre del 1757 a Leuthen Federico compie il capolavoro della sua carriera militare e anche la battaglia in cui esegue nel modo più perfetto la manovra per cui poi diventerà famoso presso gli strateghi quello che viene chiamato l'ordine obliquo che è una cosa in teoria semplicissima in realtà è estremamente complicata da applicare cosa vuol dire l'ordine obliquo vuol dire sostanzialmente che Federico si trova di fronte un esercito austriaco grande il doppio del suo gli eserciti a quel tempo si schieravano in linea occupavano degli spazi molto lunghi erano lenti poco maneggevoli anche i comandanti facevano fatica a dare degli ordini che permettessero poi di cambiare fronte di cambiare posizione le battaglie in genere erano abbastanza statiche ma Federico aveva a disposizione uno strumento straordinario un esercito che era in grado di manovrare e di marciare più in fretta di qualunque altro l'ordine obliquo vuole dire affrontare il nemico dove non se l'aspetta attaccarlo su un fianco lasciando indietro qualcuno per ingannarli e poi sbucare all'improvviso sul fianco del nemico e a quel punto attaccarlo così in fretta che il nemico non fa in tempo a cambiare formazione e praticamente viene annientato progressivamente come da un rullo compressore che scende lungo il fronte è così che l'esercito austriaco viene annientato a Leuthen e che Federico ancora una volta stupisce il mondo e getta nella costernazione ovviamente tutte le corti europee perché a Parigi a Vienna a Pietroburgo non si riesce a credere che sia successo un'altra volta e si comincia a pensare e anche lui comincia a pensarlo che Federico in battaglia sia invincibile la battaglia di Leuthen come si può immaginare ha avuto poi uno spazio enorme nel mito di Federico nella leggenda che gli storici tedeschi hanno alimentato nel corso dell'ottocento e ancora del novecento è una battaglia quindi leggendaria da vari punti di vista e in particolare da uno ecco c'è un aspetto di questa battaglia su cui adesso vale la pena che noi riflettiamo un momento alla sera della battaglia siamo a dicembre la pianura è coperta di neve insanguinata l'intero esercito prussiano o almeno i superstiti si inginocchiano nella neve piena di sangue e tutti insieme cantano una corale luterana in ringraziamento a Dio nun dank dalle got ora ringraziate tutti Dio ecco questa scena dell'esercito prussiano inginocchio nella neve che canta una corale per ringraziare Dio della vittoria è rimasta impressa nella memoria collettiva nella storiografia e naturalmente noi potremmo dirci sì figuriamoci Federico proprio lui con il tipo di religiosità che aveva però un conto è lo scetticismo forse anche l'ateismo di Federico e di molti dei suoi amici intellettuali un conto era il sentimento collettivo l'esercito prussiano era davvero un esercito che era tenuto insieme fra l'altro anche dal sentimento religioso i contadini erano ferventi cristiani e i soldati erano ferventi cristiani e marciavano cantando appunto corali luterane Federico poteva benissimo dire figuriamoci se la provvidenza si preoccupa di queste faccende nostre ecco non mi sembrano così importanti per interessare la provvidenza divina ma la gente non la pensava così e su questo vale la pena di riflettere perché questo è proprio un aspetto della guerra dei sette anni che contrasta un po' con la nostra idea del settecento noi sappiamo che nel settecento ormai le guerre di religione erano finite da un pezzo che non ci si scannava più per motivi puramente religiosi e soprattutto noi identifichiamo la cultura del settecento con l'illuminismo e quindi con l'irriverenza magari non proprio l'ateismo ma quasi ecco ma non era così la gente non era così la gente era come dire piena di spirito religioso e la vecchia ostilità fra cattolici e protestanti era ancora ben gradicata i governi potevano anche essere composti da gente che ci credeva poco ma sapevano che l'opinione pubblica invece a questo aspetto era interessata e quindi dopo Rospach e Leuten Federico diventa anche l'eroe protestante in un mese ha sbaragliato i due grandi eserciti cattolici quello francese e imperiale e poi quello austriaco e Federico è alleato dell'altra grande potenza protestante l'Inghilterra ora l'Inghilterra appunto ancora nel settecento ma anche dopo a dire il vero lo spirito protestante aggressivo era ben radicato fra gli inglesi l'Inghilterra era un paese che tenera in schiavitù l'Irlanda cattolica e non riconosceva nessun diritto ai cattolici perché riteneva che il cattolicesimo fosse qualcosa di orribile di profondamente disumano pericoloso i papisti erano odiati e quindi l'opinione pubblica inglese viveva questa guerra noi possiamo dire era la guerra imperialista per il dominio del mondo ma per l'opinione pubblica era anche la guerra dei protestanti contro i papisti e in quel momento Federico diventa l'eroe protestante e a Londra impazziscono di entusiasmo per lui intanto si tengono servizi religiosi per celebrare le sue vittorie ma poi i negozi mettono in vendita non so boccali da birra col ritratto di Federico e gli osti cominciano a cambiare il nome ai loro pub e quindi compaiono i pub al re di Prussia oppure alle armi di Prussia e il 24 gennaio del 1758 due mesi dopo la vittoria di Leuthen il giorno del compleanno di Federico a Londra e in molte altre città inglesi si tengono enormi festeggiamenti pubblici e ubriacature generali per celebrare il compleanno dell'eroe che sta difendendo la causa protestante contro i papisti e noi per il momento ci fermiamo e ci ritroviamo lunedì prossimo stiamo raccontando la guerra dei sette anni la più famosa e anche la più dura delle guerre di Federico il Grande e stiamo raccontando il momento in cui Federico sembra che sia diventato capace di fare i miracoli dopo che aveva subito la sua prima sconfitta a Colin e tre eserciti nemici avanzavano da direzioni diverse contro di lui nel giro di un mese Federico ha sconfitto prima i francesi a Rosbach poi gli austriaci a Leuthen ha liquidato due dei tre artigli che stavano cercando di arpionare la Prussia ne rimane uno il più lento quello che viene da più lontano l'artiglio russo Leuthen chiude l'anno 1757 con grandi tedeum di ringraziamento e manifestazioni di entusiasmo in Inghilterra e in Prussia l'anno 1758 si apre per Federico con la necessità di liquidare quest'ultima minaccia che è rimasta naturalmente bisogna notare che Federico aveva molti vantaggi nel combattere questa guerra manovrava come si dice per linee interne lui cioè si spostava attraverso il suo piccolo regno affrontava nemici che invece arrivavano da direzioni diverse era molto difficile far collaborare i francesi e gli austriaci anche difficile far collaborare gli austriaci e i russi i russi i russi in particolare venivano da molto lontano oggi non ci rendiamo più conto di quanto tempo ci volesse materialmente per portare un esercito russo attraverso le immense pianure dell'Europa orientale fino a poter minacciare la Prussia e però alla fine anche i russi erano arrivati nel 1758 i russi si impadroniscono della Prussia orientale Federico ha deciso di abbandonarla al suo destino è troppo lontana è impossibile difenderla e dopo aver conquistato la Prussia orientale e Königsberg l'esercito russo lentamente faticosamente si rimette in moto e punta su Berlino e a questo punto Federico non può più ignorarlo l'avanzata russa in Prussia è segnata da distruzioni saccheggi stupri violenze l'impressione degli europei è che i russi siano un popolo primitivo e il loro esercito sia un esercito primitivo che commette appunto ogni sorta di devastazioni non è un esercito civilizzato Federico proprio per questo è convinto di poterlo liquidare facilmente si muove a Est e arriva su Loder nel momento in cui i russi stanno assediando Kystrin proprio la fortezza dove Federico era stato prigioniero da ragazzo dopo il suo tentativo di fuga Federico cioè si trova a operare in un territorio che conosce come le sue tasche ha vissuto lì a lungo conosce ogni ruscello ogni ponte ogni strada perciò è sicuro del fatto suo e pianifica questa volta un massacro che gli permette di liberarsi per sempre di questa minaccia disprezza i russi appunto è convinto che siano un'orda di barbari decide di non attaccarli frontalmente ma di attraversare il fiume Oder girare da dietro e attaccarli alle spalle e cacciarli nel fiume e annientarli completamente è così tranquillo che la sera prima della battaglia il suo segretario lo descrive che butta giù versi francesi appunto e mangia grappoli d'uva e ogni tanto si interrompe per dare gli ordini per la battaglia e poi ricomincia a scrivere versi il giorno dopo però la battaglia non va esattamente come Federico aveva pianificato è la battaglia di Zorndorf la prima volta che Federico affronta i russi e Federico ha modo di rendersi conto che quell'esercito di barbari è anche un esercito incredibilmente difficile da sconfiggere la fanteria russa può essere fatta di contadini analfabeti ma tiene duro Federico era convinto di buttarli nell'Oder non ci riesce combattono tutto il giorno è la più sanguinosa delle battaglie della guerra dei sette anni alla fine restano sul campo di battaglia qualcosa come 35.000 fra morti e feriti dalle due parti i russi tengono duro non si lasciano buttare nell'Oder il giorno dopo sono ancora lì poi alla fine decidono che comunque non ce la fanno e cominciano a ritirarsi e dunque Federico ha vinto la battaglia di Zorndorf però ha imparato una lezione che non si scorderà più sarà l'ultima volta che sottovaluta la tenacia dell'esercito russo con la sua vittoria di Zorndorf dunque Federico si è liberato del terzo dei nemici ma la guerra dei sette anni ha questa caratteristica che appunto per quanto Federico compia miracoli i nemici sono tanti la coalizione è potente si è appena liberato di un esercito avversario che subito ne spunta un altro gli austriaci nel corso del 1758 hanno avuto il tempo di rimettere in piedi un esercito l'hanno affidato al maresciallo Daun che è il migliore dei loro comandanti e Daun sta avanzando e insomma Federico non può fermarsi mai c'è di nuovo una forza nemica che avanza contro la Sassonia decisa a buttare fuori i prussiani Federico naturalmente non può fare nient'altro che andarli ad affrontare del resto a questo punto la sensazione è che si sia abbastanza convinto anche lui di saper fare i miracoli ha un esercito talmente addestrato ed è talmente sicuro lui delle sue capacità di generale che non teme più nessuno va ad affrontare dunque il maresciallo Daun arriva abbastanza vicino alla zona in cui sono accampati gli austriaci e anche i prussiani si accampano per la notte vicino a un villaggio che si chiama Hochkirch io forse dovrei scusarmi per tutti questi nomacci gotici di queste battaglie che devono essere molto difficili da memorizzare per gli ascoltatori ma tant'è questi sono i nomi dunque al villaggio di Hochkirch Federico si accampa uno dei suoi generali gli dice che la posizione è un po' pericolosa sono troppo vicini al nemico e anzi se fosse in gamba dovrebbe attaccare se non ci attaccano in questa posizione meritano di essere impiccati Federico ribatte hanno più paura di noi che della forca e invece si sbaglia quella notte il maresciallo Daun contro tutte le regole dell'arte della guerra perché di notte non si combatteva quella notte il maresciallo Daun attacca Federico è svegliato dal fuoco della moschetteria austriaca vicino all'accampamento l'esercito si sveglia in fretta e furia in mezzo travolto a fatica Federico riesce a radunare le truppe a difendere la chiesa e il cimitero di Hochkirk che era l'unica costruzione di pietra in questi villaggi di legno all'alba l'esercito austriaco continua ad avanzare continua l'offensiva i prussiani alla fine sono costretti a ritirarsi Federico ha perso un'altra battaglia ed è una sconfitta pesante di nuovo perché a questo punto è di nuovo tutto in ballo nelle potenze cattoliche entusiasmo finalmente il malvagio è stato sconfitto Papa Clemente XIII manda a Daun un cappello consacrato e una spada che a quanto pare era un riconoscimento tradizionale per i generali che avevano sconfitto gli eretici ovviamente Federico appena viene a sapere questa cosa si mette a sghignazzare ed ora in poi quando parla del maresciallo Daun lo chiamerà sempre quello col cappello consacrato però la battaglia era persa e il momento era brutto sappiamo già che Federico aveva tendenza a deprimersi quando le cose gli andavano male e sappiamo già che le cattive notizie non arrivano mai sole lo stesso giorno della sconfitta di Hochkirch muore Guglielmina la sorella preferita di Federico alla Margravia di Bayreuth Federico riceve la notizia qualche giorno dopo e rimane davvero scioccato non è mai stato così solo come in quel momento scrive a suo fratello Enrico una lettera in cui appunto gli racconta questa cosa e la finisce con un'esclamazione di una sincerità estrema grandio dice la mia sorella di Bayreuth ecco naturalmente noi potremmo anche notare l'egoismo o almeno l'egocentrismo di Federico perché Guglielmina era sorella anche di Enrico ma Federico dice la mia sorella per lui è una tragedia come una battaglia perduta per quattro giorni si chiude in una stanza buia e non vuol vedere nessuno e quando esce comincia a fare dei discorsi inquietanti sulla provvidenza sull'immortalità dell'anima i suoi segretari sono seriamente preoccupati poi come succede la crisi finisce Federico per l'ennesima volta si rimbocca le maniche però comincia a essere stanco comincia a essere provato sono buono da buttare ai cani dice proprio dopo la sconfitta di Hochhir Voltaire mandò a Federico la sua nuova opera la più famosa il Candide ovvero l'ottimismo cioè l'opera in cui Voltaire si fa beffe di quelli che credono che il mondo sia il migliore possibile e che la provvidenza l'abbia ordinato a fin di bene ecco Federico era nello stato d'animo adatto per apprezzarlo in quel momento evidentemente che le cose andassero bene non poteva pensarlo nessuno tra l'altro nelle ultime battaglie erano morti anche molti fra i generali più fidati di Federico Federico cominciava a essere accorto di buoni generali scrisse a suo fratello Enrico i miei generali attraversano la Cheronte al galoppo presto non ce ne saranno più e tuttavia bisognava continuare a combattere per fortuna il generale nemico il maresciallo Dauna era famoso per la sua prudenza dopo aver vinto a Hochhir invece di avanzare si era messo a fortificare il suo campo e Federico ricominciava a prendere un po' di coraggio se continua così ci metterà quattro anni per arrivare in Slesia disse però arrivò qualcun altro arrivò di nuovo un esercito russo e già mentre lo racconto c'è un senso di monotonia quasi in questa guerra in cui gli eserciti vengono sconfitti e poi dopo un po' ricompaiono di nuovo e noi dobbiamo cercare di immaginare lo stress di chi da solo doveva continuamente correre a tappare i buchi da tutte le parti i russi arrivano al comando di un nuovo generale Saltikov e succede per la prima volta una cosa che Federico era sempre riuscito a impedire i due eserciti nemici si riuniscono Saltikov e Daun mettono insieme l'esercito russo e quello austriaco e a questo punto sono molto più forti del nemico ancora una volta Federico si trova di fronte a un esercito nemico grande il doppio del suo e questo esercito nemico è su Loder a pochi giorni di marcia da Berlino non c'è niente da fare se non affrontarlo Federico parte marcia verso est arriva su Loder trova il nemico schierato in una zona che si chiama Kunersdorf e attacca Federico lo sappiamo già attacca sempre quando può talmente convinto attacca e un'altra volta gli va male la battaglia di Kunersdorf è una delle sconfitte più grandi di Federico e il suo esercito per la prima volta stavolta è veramente disfatto messo in rotta Federico poi dirà avevano paura dei russi non so perché ai miei soldati è venuta questa stupida paura di essere deportati in Siberia e hanno perso la testa e la volta che Federico cerca di fermare i suoi soldati gridando cani non volete mica vivere per sempre no e però non basta evidentemente scrive ai suoi ministri a Berlino il mio mantello è crivellato di pallottole hanno ammazzato due cavalli sotto di me ma per mia disgrazia sono ancora vivo in questo momento stanno tutti scappando e non ho più il controllo dei miei uomini non mi resta nessuna risorsa e a dire la verità credo che tutto sia perduto addio per sempre ecco ancora una volta naturalmente una disfatta getta Federico nella depressione e l'intero paese nel panico perché stavolta il nemico è veramente in casa stavolta Berlino è veramente minacciata tant'è vero che Federico dopo aver mandato appunto ai suoi ministri questo rapporto deprimente sulla sconfitta dà ordine di evacuare il governo da Berlino e informa anche che è meglio che tutti i cittadini più ricchi almeno loro si mettano in salvo perché se arrivano i russi a Berlino non si può immaginare che cosa succederà ecco a questo punto noi sappiamo che le prime volte che Federico era stato sconfitto c'era stata perfino una certa soddisfazione perfino tra i suoi fratelli perché tutto sommato Federico sapeva essere molto antipatico e il fatto che ogni tanto le prendesse faceva perfino piacere a questo punto però no dopo la sconfitta di Kunersdorf nell'inverno del 1759 in Prussia il clima è da fine del mondo da crepuscolo degli dei la sensazione e che non soltanto la guerra sia persa ma che il regno di Prussia rischi di essere sull'orlo della catastrofe la sconfitta di Federico a Kunersdorf contro gli austriaci e i russi era venuta dopo quattro anni di guerra in quei quattro anni Federico era invecchiato paurosamente scrisse a Voltaire se mi vedesse farebbe fatica a riconoscermi sono invecchiato rotto grigio rugoso perdo i denti e perdo anche l'allegria notiamo che Federico nel 1759 aveva 47 anni un'altra volta scrisse sono uno scheletro però sono ancora pieno di buona volontà ecco fra l'una e l'altra citazione si vede un Federico che sta cominciando nonostante tutto a ritrovare le risorse che ha sempre avuto un'energia disumana ecco e che decide ancora una volta di riprovarci a tappare il buco però però non c'erano più in tanti a crederci in Inghilterra dove un anno prima festeggiavano il suo compleanno e si entusiasmavano per l'eroe protestante anche lì il clima era cambiato completamente adesso si facevano così delle battute ironiche sul fatto che Federico forse non era poi quel così gran generale e che se adesso i russi lo buttavano fuori dalla Prussia cosa si poteva fare di lui era pur sempre un alleato bisognava trovargli qualcosa magari si poteva mandarlo in America si poteva nominarlo re dell'Ohio e mandarlo a fare la guerra contro gli indiani ecco forse contro loro ce l'avrebbe ancora fatta insomma questo era il clima e Federico appunto era ancora la testa di un esercito mal ridotto però nell'arco della guerra dei sette anni morirono complessivamente 60 generali prussiani davvero non gli restavano più molti di quelli bravi e anche i soldati non erano più quelli di prima l'esercito era pieno di mercenari di reclute giovanissime e con un esercito così era più difficile fare i miracoli ecco che cosa salva Federico a questo punto quando veramente sembra tutto perduto in realtà lo salva la sua stessa leggenda il fatto stesso è che ormai Federico è un tale mito che comunque i nemici non osano credere che sia davvero ridotto così male bisogna dire Federico ha fatto innumerevoli errori in guerra ha perso grandi battaglie ha fatto scelte così scriteriate del resto lui stesso una volta scrisse al principe Enrico non c'è nessuno di noi che non abbia fatto errori in questa guerra però comunque era una spanna sopra gli altri era una spanna sopra gli altri non fosse altro perché si muoveva sempre attaccava sempre non lasciava mai spazio agli altri tutti i generali nemici sono un'altra cosa tutti i generali nemici sono prudenti dopo la vittoria di Kunersdorf i russi e gli austriaci dovrebbero marciare su Berlino stanno fermi l'ambasciatore francese al loro campo scrive dei rapporti pessimisti dove in sostanza dice qui hanno tutti troppa paura di lui ce l'avrebbero in mano basterebbe che stringessero il pugno e invece non osano muoversi bisogna anche dire un'altra cosa che noi parliamo di vittorie e di sconfitte ma queste erano battaglie incredibilmente sanguinose dove anche quello che vinceva di solito subiva delle perdite tali che poi rimaneva intontito e prima di riuscire a muoversi ce ne voleva dopo la vittoria di Kunersdorf il comandante russo il maresciallo Saltikov scrisse a Lazzarina un'altra vittoria così e resterò solo io per portare la notizia a Pietroburgo il risultato è che mentre tutti aspettavano che gli austrorussi marciassero su Berlino invece successe il contrario Saltikov decise di ritirarsi e di tornare indietro e mettere in salvo quel che restava del suo esercito prima dell'inverno quando Federico ricevette la notizia che i russi si ritiravano disse una cosa non tanto adatta per quel vecchio ateo miscredente che era ma che è passata alla storia disse questo è il miracolo della nostra famiglia è il miracolo della casa di Brandeburgo ed è una battuta che vale la pena di ricordare perché perché verrà tirata fuori molti anni dopo nel 1945 con i russi sull'Oder a pochi chilometri da Berlino Hitler dirà ai suoi generali ricordatevi il 1759 ricordatevi il miracolo della casa di Brandeburgo il miracolo della casa di Brandeburgo così Federico aveva definito la decisione del generale russo di ritirarsi anziché marciare su Berlino dopo che Federico aveva affrontato i russi e gli austriaci insieme sull'Oder a Kunersdorf e aveva subito la più devastante delle sue sconfitte di solito questo miracolo è associato alla vittoria finale di Federico nella guerra dei sette anni e quindi suscita un certo stupore andare a controllare la cronologia e renderci conto che siamo soltanto a metà della guerra siamo nell'inverno nel durissimo inverno tra il 1759 e il 60 la guerra era scoppiata nel 56 finirà nel 63 siamo dunque esattamente a metà e già questo ci fa capire che Federico avrà bisogno ancora di qualche altro miracolo per riuscire a venire fuori con le ossa intiere da questa guerra perché la resa dei conti è soltanto rimandata è rimandata perché il generale russo ha subito perdite terrificanti in battaglia soprattutto perché d'inverno non si fa la guerra nell'Europa del nord nell'Europa orientale e quindi i russi hanno preferito ritornare indietro alle loro basi passare lì l'inverno ma poi poi si rimetteranno in marcia come al solito saranno lenti ci vorranno mesi ci vorrà forse tutta l'estate l'autunno perché si ripresentino un'altra volta sull'Oder ma se c'è una cosa sicura è che verranno perché a Pietroburgo regna una nemica feroce di Federico la zarina Elisabetta ecco questa zarina è un'altra figura di quella su cui varrebbe la pena di soffermarsi alcolizzata brutale ma in politica estremamente determinata determinata a strappare tutti i vantaggi possibili e a troncare sul nascere questa potenza prussiana che si presenta come un potenziale concorrente per l'egemonia nell'Europa orientale a Vienna lo sappiamo regna un'altra acerrima nemica Maria Teresa la quale nonostante tutte le sconfitte è decisa a non perdonare il malvagio di Berlino e a non lasciargli quella slesia che vent'anni prima gli ha portato via e gli austriaci sono più vicini gli austriaci che hanno trovato nel maresciallo Daun l'unico generale capace di tenere testa a Federico troppo prudente criticato per questo ma comunque capace di tenergli testa gli austriaci che non hanno bisogno di arretrare per svernare svernano lì in Bohemia a un passo dalla Slesia a un passo dalla Sassonia pronti ad attaccare quando pensa alla campagna futura la campagna del 1760 Federico con se stesso con suo fratello Enrico con qualcuno dei suoi consiglieri è tremendamente sincero tremo pensando alla campagna che sta per cominciare anche lui dunque sa benissimo che un miracolo c'è stato ma che non basta troviamo nelle sue lettere un'altra frase che fa pensare sapendo all'uomo che era Federico e soprattutto il tipo di generale che era Federico che ha sempre avuto un'estrema fiducia nella sua fortuna è sempre stato pronto ad attaccare anche in condizioni di inferiorità ha sempre preferito tirare i dadi e vedere cosa succedeva ecco a un certo punto Federico scrive ho perso la fiducia nella mia fortuna ha tempo di rimettere in piedi un esercito sì lavora con tutta quella capacità organizzativa che è una delle sue caratteristiche che è uno dei suoi punti di forza sappiamo già che Federico diversamente dalla maggior parte dei re dei generali europei non dorme mai lavora continuamente controlla tutto personalmente in quei mesi d'inverno rimette in piedi un esercito ma che esercito gran parte confessa lui stesso serve solo a farla vedere al nemico da lontano ma andare al fuoco con questa fanteria fatta di coscritti che non si è avuto il tempo di addestrare ecco quello bisogna vedere se ci si riuscirà Federico in quell'inverno oltre a suonare il flauto e comporre versi per cercare di distrarsi si abbandona a fantasie che anche quelle sono inquietanti ci fanno vedere a che livello è arrivata la sua angoscia interna a un certo punto pensa seriamente che forse e chi lo sa potrebbe darsi che nella guerra intervenisse la Turchia e allora se la Turchia intervenisse in guerra forse i russi gli austriaci cambierebbe insomma tutto lo scacchiere geopolitico ecco per attaccarsi alla Turchia bisogna dire che fosse veramente ridotto alla disperazione la campagna del 1760 dunque si apre nelle peggiori condizioni possibili Federico sa che molto presto sarà attaccato da diversi lati ci si potrebbe aspettare che ora ora che oltretutto ha un esercito molto più debole rispetto al passato sia contenti di difendersi finalmente e del resto gli storici militari presentano sempre la guerra dei sette anni come il classico esempio di guerra difensiva in cui Federico aveva il vantaggio di poter restare all'interno del suo piccolo regno e spostarsi continuamente per far fronte alle varie minacce ecco quando uno va a vedere da vicino non è poi proprio così Federico appena può cerca di avere lui l'iniziativa e questa è una caratteristica cruciale che fa un generale diverso dagli altri l'aver capito che l'iniziativa da sola è metà della vittoria insomma Federico all'inizio del 1760 attacca nel terribile anno precedente gli austriaci hanno riconquistato la Sassonia hanno ripreso Dresda per avere l'idea di quanto questo è grave ricordiamoci che Federico ha cominciato la guerra invadendo la Sassonia si è attirato addosso l'odio di tutta Europa con questo delitto politico invadere questo regno neutrale con l'idea che così si sarebbe assicurato una base necessaria per la sua strategia avrebbe coperto il suo regno dell'invasione ora gli austriaci hanno riconquistato la Sassonia l'elettore di Sassonia è tornato nella sua capitale a Dresda ebbene Federico prima che lo attacchino entra lui in Sassonia va a sediare Dresda e qui succede una cosa come dire che fa effetto a noi che siamo vissuti nella fine del novecento e che abbiamo altri termini di confronto Federico ha il dubbio onore di essere stato il primo nella storia a ordinare un bombardamento di Dresda è un bombardamento volutamente distruttivo incendiario c'è un quadro del bellotto famoso il bellotto è quello che faceva tutti questi panorami di città europee che poi sono stati usati per ricostruire le città di mezza Europa distrutte dopo la seconda guerra mondiale Varsavia per esempio e Dresda c'è un quadro del bellotto dipinto quindi intorno al 1770 che sembra dipinto nel 1945 rappresenta una piazza di Dresda con in mezzo un mozzicone di una chiesa crollata sotto i bombardamenti e tutte le macerie intorno la chiesa di Santa Croce perché Federico assedia Dresda e dato che Dresda non cede ordina di bombardarla ordina di bruciarla c'è in questo l'odio che Federico ha sempre avuto per questa disgraziata Sassonia stato che vedeva come concorrente e che ha sempre cercato di annientare forse c'è anche qualcosa di più perché non siamo solo noi che quando parliamo di bombardamento di Dresda ne abbiamo in mente un altro che rabbrividiamo anche l'ambasciatore inglese al campo di Federico Mitchell scrive nelle sue memorie non posso pensare al bombardamento di Dresda senza provare orrore e poi dice giudicando appunto Federico che l'ha ordinato le disgrazie naturalmente inaspriscono il carattere e quando continuano a lungo senza intervallo estinguono l'umanità bene Federico bombarda Dresda da ordine di bombardarla con proiettili incendiari ne devasta il centro storico ma Dresda non cede e Federico è costretto a tornare indietro una volta di più ha tirato i dadi e gli è andata male l'azzardo è fallito l'invasione della Sassonia va rimandata gli austriaci stanno entrando in Slesia i russi sono arrivati sull'Oder per fortuna sono prudenti come sempre tra l'altro in queste guerre di coalizione gli alleati di solito non si fidano mica tanto l'uno dell'altro fare il primo passo a togliere le castagne dal fuoco agli alleati questo non lo vuol fare nessuno specialmente con Federico davanti i russi sono all'Oder cominciano a gettare i ponti per attraversarlo Berlino e Lì a portata di mano ma aspettano che gli austriaci vengano più vicini e si ricongiungano con loro Federico decide di colpire gli austriaci lascia la Sassonia torna in Slesia dove una volta di più il maresciallo Daun sta tentando di riconquistare la provincia per la sua imperatrice siamo nella tarda estate del 1760 il maresciallo Daun è accampato in Slesia con l'esercito più grande che Maria Teresa sia mai riuscita a mettere in campo 100.000 uomini Federico entra in Slesia per attaccarlo con un esercito che è grosso modo un quarto di quello nemico 26.000 uomini Daun che è il generale più prudente del suo tempo oltre che uno dei più bravi è trincerato in posizioni fortissime imprendibili quando Federico si fa sotto comincia a manovrare Daun per sbarrargli la strada per tagliargli la ritirata a un certo punto sembra che sia bella finita sembra che sia finita in quel modo che piaceva ai generali del Settecento i quali almeno in teoria adoravano vincere le campagne soltanto manovrando senza dover correre il rischio di una battaglia tutto il contrario di Federico appunto Daun manovrando è riuscito a intrappolare Federico tra le montagne della Slesia a ripetiamolo un esercito grande il quadruplo del suo a un certo punto nel campo di Federico sembra che non ci sia più niente da fare ritirarsi praticamente non c'è più lo spazio restare lì significa morire di fame attaccare sembra inimmaginabile l'ambasciatore inglese perché accompagna sempre Federico ricordiamoci che l'Inghilterra è l'unica grande potenza alleata della Prussia l'altra grande potenza protestante l'ambasciatore inglese comincia a bruciare le sue carte segrete e i cifrari che usa per corrispondere con Londra perché ormai è sicuro che fra qualche giorno saranno tutti i prigionieri degli austriaci Maria Teresa da Vienna tempesta di lettere il maresciallo Daun perché attacchi Daun è prudente sente di avere la preda in mano nel sacco preferisce aspettare che cada da sola non attacca Maria Teresa insiste il maresciallo si deve muovere finalmente Daun si decide a muoversi manda una parte del suo esercito fuori dal campo per attaccare e qui in qualche modo Federico ha uno di quegli attacchi di preveggenza se vogliamo chiamarli così che di nuovo caratterizzano i generali che passano alla storia come grandi generali Federico in qualche modo si rende conto di quello che vuol fare il nemico sposta il suo esercito quel tanto che basta perché l'attacco nemico vada a vuoto trovi un campo abbandonato e poi Federico all'improvviso col suo esercito piccolissimo spunta fuori dove non se l'aspettano contraattacca gli austriaci sono presi alla sprovvista cominciano a rinculare Federico insiste serra sotto con tutte le forze che ha in mano in un attimo l'esercito austriaco comincia a disgregarsi e andare in rotta la battaglia avviene in un posto si chiama Lignitz che nella storia tedesca è famoso lì molti secoli prima nel 200 i cavalieri teutonici avevano fermato l'invasione dei mongoli la grande invasione mongola che sembrava che dovesse spazzare via tutta l'Europa e che fu fermata appunto con alcune battaglie sanguinosissime dai polacchi e dai cavalieri teutonici in Slesia tra cui appunto questa battaglia di Lignitz questo stesso nome va a quella che sarà poi la terz'ultima battaglia di Federico il Grande dopo questa ne avremo solo altre due da raccontare la battaglia di Lignitz è una battaglia unica dura appena due ore in due ore Federico con 25.000 uomini ne rovescia 100.000 e li manda in rotta Daun è costretto a abbandonare la Slesia privatamente darà a Maria Teresa la colpa di averlo costretto a muoversi a costretto ad attaccare in realtà di scuse non ce ne sono il problema è che in tutta Europa si comincia a pensare che realmente ci sia qualche cosa di mostruoso in Federico se è riuscito ancora una volta con un esercito così tanto più piccolo di quell'avversario a farcela e non solo a vincere ma a stravincere a mettere in rotta il nemico e beh i generali i nemici cominciano a pensarci seriamente ogni generale in guerra pensa alla sua carriera e alla sua reputazione prima ancora che alla vittoria finale dopo Lignitz nessun generale austriaco o russo oserà mai più attaccare Federico la vittoria di Lignitz il giorno di ferragosto del 1760 non significa ancora che Federico sia uscito dai guai naturalmente di momenti brutti ce ne saranno ancora parecchi tra l'altro tutta la strategia di Federico è basata sul fatto di impedire agli eserciti nemici di invadere il cuore della Prussia di prendere Berlino e di restarci e infatti questo non accadrà mai ma un conto è prendere Berlino e restarci nessun nemico riesce a farlo contro Federico un conto è una scorreria nelle scorrerie tra l'altro gli austriaci e i russi sono maestri hanno tanta cavalleria leggera nell'esercito ulani austriaci cosacchi russi sono specialisti nel mandare corpi di truppe veloci che possono fare una scorribanda e comparire dove nessuno se li aspetta poco dopo che Federico ha vinto la battaglia di Lignitz e comincia un minimo a respirare arriva la notizia che una forza austro-russa in realtà ha sorpresa e riuscita a entrare a Berlino per fortuna non è un esercito capace di restarci è soltanto una forza di cavalleria mandata a fare appunto una scorribanda e tuttavia l'effetto è scioccante lo stesso anche perché appunto la città è occupata i comandanti nemici richiedono come si usava allora una contribuzione forzata alla città al municipio e ai cittadini ecco in cambio della garanzia di non saccheggiare di non distruggere la città Berlino rimane occupata per quattro giorni e per non essere saccheggiata è costretta a pagare una somma colossale di due milioni di talleri ecco finora Federico aveva finanziato la sua guerra imponendo contribuzioni agli altri in Sassonia in Bohemia questa è la prima volta che il nemico lo ripaga con la stessa moneta l'effetto politico è grande Federico è costretto a rimettersi in marcia un'altra volta e teniamo conto che tutte queste marce naturalmente le fanno tutti a piedi o a cavallo sotto le intemperie anche Federico va a cavallo verso la fine e quando sarà molto malato si farà portare in carrozza ma normalmente è a cavallo sotto la pioggia siamo in Europa orientale possiamo immaginarci il clima ecco è a cavallo sotto la pioggia o la neve con i suoi uomini per 8-10 mesi all'anno anche questo ci fa capire come mai alla fine della guerra avrà i capelli bianchi e l'artrite allora Federico si rimette in marcia corre a Berlino e in realtà basta questo perché la sola notizia che Federico sta arrivando è sufficiente perché gli austrorussi sgombrino la città e se ne vadano e però appunto nel momento stesso in cui lo racconto mi rendo conto della sensazione di andirivieni continuo e monotono che dà questa guerra appena Federico si è allontanato Daun ritorna in Sassonia e ricomincia a occupare anche quelle zone che Federico aveva ripreso Federico torna in Sassonia e ancora una volta attacca questa battaglia si chiamerà di Torgau è molto diversa da quella che abbiamo raccontato prima di Lignitz anche se poi il punto di partenza è lo stesso c'è Daun con un grande esercito austriaco ben trincerato in una posizione apparentemente imprendibile Federico attacca stavolta però la battaglia non dura due ore ne dura otto Federico attacca tutto il giorno ed è continuamente respinto alla fine le perdite sono terrificanti e la sensazione è che i prussiani non passano che stavolta la situazione davvero si è rovesciata verso sera il maresciallo Daun che anche lui è in mezzo ai suoi soldati che è rimasto ferito decide che ormai la situazione è abbastanza tranquilla l'ultimo attacco di Federico è stato respinto torna nelle retrovie e comincia a scrivere un rapporto a Maria Teresa dove dice finalmente siamo riusciti a farcela a fermarlo mentre il maresciallo Daun nelle retrovie scrive Federico ordina un ultimo attacco con le ultime riserve che gli restano e questa volta trova il buco passa sfonda alla sera l'esercito austriaco è di nuovo in fuga costretto a ripassare oltre l'elba questa battaglia di Torgau è la penultima battaglia combattuta da Federico in vita sua è la più sanguinosa in assoluto quando Federico venne a sapere il conto delle perdite che aveva subito proibì di diffondere i dati noi li conosciamo fra morti e feriti perse quasi il 40% degli uomini che aveva portato in battaglia gli austriaci ne perseva addirittura di meno erano molti di più però chi aveva vinto erano i prussiani Federico un'altra volta era riuscito a restare padrone del campo alla fine del 1760 la guerra dei sette anni si trascinava ormai da quasi cinque e tutta Europa cominciava davvero a questo punto a non poterne più non ne potevano più le popolazioni su cui territorio avvenivano i combattimenti e le devastazioni non ne potevano più gli eserciti che erano ridotti all'osso non ne poteva più in generale la finanza pubblica che in tutti o quasi tutti i paesi coinvolti nella guerra faceva sempre più fatica a tenere dietro le spese immense del conflitto in particolare questo gravò sull'Austria il debito di stato austriaco nel corso della guerra era quasi triplicato era arrivato a sei volte le intere entrate annue dell'impero come dire che Maria Teresa era alla bancarotta e questo conterà non poco alla fine per portare la guerra a esaurirsi perché di questo si tratta in effetti la guerra dei sette anni più che finire si esaurì l'altro grande nemico di Federico di cui abbiamo parlato meno la Francia ne abbiamo parlato meno per un motivo preciso perché la Francia aveva la sua guerra da combattere contro l'Inghilterra una guerra combattuta non soltanto sul continente europeo ma soprattutto nel mondo in India in America e questa guerra stava andando molto male la Francia era stata sbaragliata dappertutto nel 1759 mentre Federico subiva le sue peggiori sconfitte i suoi alleati inglesi vincevano la battaglia di Quebec e conquistavano il Canada praticamente l'impero coloniale francese era uscito distrutto dalla guerra l'Inghilterra se ne era impadronito e anche la Francia era al collasso finanziario è proprio in questi ultimi anni della guerra dei sette anni che comincia a emergere la debolezza finanziaria della Francia che poi come sappiamo avrà conseguenze catastrofiche perché la rivoluzione francese nasce essenzialmente nel momento in cui la monarchia francese si trova di fronte al rischio della bancarotta allora continuare a fare la guerra perché davvero bisogna riportare via la Slesia a Federico e ridarla a Maria Teresa non c'è più nessun governo che ci creda veramente in pratica si può dire che ci sono soltanto le due donne formidabili Maria Teresa innanzitutto e la sua omologa Lazzarina Elisabetta a Pietroburgo se non fosse per loro la guerra finirebbe già nel 1761 quando infatti si comincia fra ministri a prendere dei contatti per provare a bozzare una pace se fosse per i generali sarebbe già finita nessuno ha più voglia di perdere la faccia e la reputazione davanti a Federico sono tutti diventati prudentissimi e tuttavia da Vienna e da Pietroburgo gli ordini sono ancora di muoversi sono ancora di avanzare e avanzano e gli eserciti austriaci e quelli russi per l'ennesima volta si rimettono in movimento avanzano gli austriaci verso la Slesia i russi lungo il Baltico e Federico di lui non abbiamo parlato finora ma anche Federico è allo stremo Federico ha finito le risorse ha finito le reclute soprattutto non ha più materialmente gli uomini con cui riempire i ranghi dei suoi reggimenti e comincia a temere che alla fine gli altri riescano a strangolarlo non lo batteranno sul campo ma lui non ha più la forza per reagire alla loro avanzata a un certo punto parlando con uno dei suoi amici uno dei suoi corrispondenti intellettuali perché amici veri non ne ha forse mai avuti ma intellettuali con cui gli piaceva confidarsi sì Federico a un certo punto fa questo paragone ma immaginate uno che suona il violino e gli dicono bravo bravissimo sei capace anche con una corda in meno e gli strappano una corda e quello continua a suonare e poi gli dicono ah però veramente bravo sei capace se ne togliamo anche un'altra e quello continua a suonare gli resta una sola corda poi gli strappano anche quella e gli dicono su continua continua a suonare ecco Federico si paragonò a quel suonatore con un violino che ormai era rimasto senza corde e di nuovo in questo momento traspaiono nella sua corrispondenza i sintomi inquietanti della depressione o di quel filosofare che serve appunto per sfuggire a una realtà intollerabile a un certo punto scrive io mi salvo considerando il mondo come se fossi su un lontano pianeta allora mi sembrano così ridicoli i miei nemici che si danno tanto da fare per ottenere risultati così insignificanti tutto mi sembra così piccolo sarà un secondo miracolo a salvare di nuovo la pelle a Federico e a mettere fine ma questa volta sul serio alla guerra dei sette anni nel gennaio del 1762 muore la zarina Elisabetta una delle due grandi nemiche che ostinatamente caparbiamente portavano avanti la guerra contro la Prussia ma non solo muore la zarina Elisabetta perché fin qui noi sappiamo certo che i sovrani assoluti di quest'epoca danno un'impronta decisiva alla politica dei loro paesi ma l'interesse della Russia sarebbe stato comunque di continuare la guerra di mantenere l'occupazione della Prussia orientale di Königsberg di allargarsi forse ancora di più invece l'erede della zarina Elisabetta è un giovanotto il nuovo zar Pietro III il quale ha una caratteristica di fondo è un ammiratore sfegatato di Federico e in questo noi ci rendiamo conto un'altra volta di come la leggenda di Federico diventa essa stessa un ulteriore punto di forza si alimenta da sola e diventa un'arma nelle mani di Federico lo zar Pietro III è come probabilmente molti giovanotti europei innamorato perso di Federico passa il suo tempo a studiare le sue guerre ad ammirare le sue imprese e nel momento in cui si trova zar decide immediatamente che basta fare la guerra contro il suo eroe anzi intendiamoci quando dico innamorato di Federico parlo quasi sul serio si sa che lo zar baciava in pubblico il busto di marmo di Federico che nel palazzo d'inverno aveva un ritratto di Federico e si inginocchiava davanti a questo ritratto i cortigiani e i generali russi tanto contenti non erano ovviamente però si sa certe cose non si possono dire e quindi subivano magari nell'ombra protestavano e cominciavano a intrigare lo vedremo subito però ufficialmente stavano tutti zitti e lo zar riceveva l'ambasciatore prussiano trattandolo come il suo più caro amico e si vantava con lui di conoscere a memoria i nomi di tutti i reggimenti prussiani e di tutti i loro colonnelli e chiamava in pubblico Federico il re mio padrone e gli scriveva certe lettere in cui gli diceva vostra maestà è uno dei più grandi eroi che il mondo abbia mai visto insomma un giovanotto che aveva perso la testa ce ne erano sicuramente tanti in Europa ma questo era lo zar di Russia nel giro di una settimana Pietro III capovolge la politica di sua madre Elisabetta non soltanto fa la pace con Federico rinuncia a tutte le conquiste russe e quindi restituisce l'intera Prussia orientale ai prussiani ma fa di più decide di allearsi con Federico di aiutarlo a sconfiggere i suoi nemici l'esercito russo che era in campo pronto a unirsi con gli austriaci e marciare su Berlino riceve all'improvviso da Pietroburgo il contrordine il contrordine è non fare la pace e tornare a casa ma allearsi con i prussiani e dare addosso agli austriaci in questa situazione evidentemente la guerra si ribalta Federico riesce appunto a ottenere dal generale russo che pure tanto convinto non è perché questi ordini che arrivano da Pietroburgo un po' strani gli sembrano e negli ambienti dirigenti russi si comincia a sussurrare che forse questo nuovo zar non è proprio tutto a posto e tuttavia il generale russo pur prudente non può fare a meno di obbedire mette a disposizione le sue truppe a disposizione di Federico Federico che era ridotto a un esercito ormai molto piccolo lo raddoppia grazie al contributo russo e può decidere per l'ennesima volta di marciare di attaccare gli austriaci a questo punto gli austriaci che avevano cominciato la guerra con praticamente mezza Europa decisa insieme a loro a annientare la Prussia si ritrovano grottescamente in una situazione ribaltata hanno la Russia che può attaccarli alle spalle la Francia che da molto tempo non è più convinta di continuare questa guerra e di truppe comunque non ne vuole più sprecare insomma a questo punto Federico addirittura si ritrova a carezzare l'idea di poter lui riprendere l'offensiva e marciare su Vienna alla fine le cose non andranno così bene a Federico come lui per un attimo aveva sperato lo zar Pietro III come si poteva prevedere non dura in Russia sono tempi in cui a fare una rivoluzione di palazzo non ci si mette molto lo zar Pietro III un bel giorno dopo pochi mesi di regno si trova di fronte ai suoi generali e ai suoi ministri che gli ordinano di abdicare a favore della moglie Caterina e poi una settimana dopo misteriosamente scompare si viene a sapere che è morto i contadini russi non ci crederanno mai verranno fuori molti falsi zar Pietro III nei decenni successivi ma intanto il governo e l'esercito hanno giurato fedeltà a Caterina che sarà poi Caterina la Grande Caterina è una strana zarina non fosse altro perché nasce principessa tedesca anzi addirittura figlia di un generale di Federico il Grande però adesso che è zarina intende fare la sua politica di zarina intende fare gli interessi dell'impero russo l'alleanza con Federico contro l'Austria le sembra francamente una di quelle assurdità di suo marito che si possono anche cancellare però non riprenderà la guerra comunque adesso non le interessa più continuare Federico non avrà più i russi al suo fianco ma saprà comunque che da quel lato è tranquillo la Russia dalla guerra esce tutte queste notizie arrivano al campo di Federico il quale insieme con i russi si sta preparando a attaccare per l'ennesima volta Daun in Slesia Federico fa per una volta in vita sua un capolavoro diplomatico e non militare si prende da parte il generale russo e gli spiega che tutta la sua strategia si basa sul fatto che il contingente russo partecipi a questa operazione se anche non vuole partecipare alla battaglia non importa ma deve occupare certe posizioni fondamentali Federico ha calcolato tutto e in fondo il generale russo si ha ricevuto l'ordine di ritirarsi ma se l'avesse ricevuto due o tre giorni dopo pare che passino anche di mano sostanziose bustarelle come è inevitabile in situazioni del genere fatto sta che il generale russo accetta di aspettare ancora tre giorni prima di eseguire i suoi ordini e ritornarsene a casa col suo esercito in quei tre giorni Federico manovra attacca Daun e lo sconfigge in quella che sarà l'ultima battaglia finalmente della sua carriera a Burgersdorf un altro di questi minuscoli villaggi slesiani o sassoni che passano alla storia perché lì vicino Federico ha scatenato una carneficina a Burgersdorf dunque Federico combatte la sua ultima battaglia sconfigge Daun ancora una volta scaccia gli austriaci dalla Slesia non è l'ultima battaglia della guerra dei sette anni perché ce ne sarà ancora una pochi mesi dopo ma qui il merito non sarà di Federico sarà di suo fratello il principe Enrico che nel frattempo era cresciuto fino a diventare un abile generale forse il miglior generale prussiano dopo il re suo fratello Enrico ha avuto il comando di un esercito separato in Sassonia con l'incarico di ripulire la Sassonia dagli austriaci Federico ha sconfitto gli austriaci in Slesia tre mesi dopo Enrico li sconfigge in Sassonia la battaglia di Freiberg una grande battaglia durissima e l'ultima battaglia stavolta davvero della guerra dei sette anni è un paradosso che la vinca il principe Enrico il quale in privato odiava suo fratello Federico ne scrive malissimo per tutta la vita con gli altri fratelli scrive lettere in cui insultano Federico parlano male di lui lo chiamano quell'imbecille quel furfante Enrico a un certo punto dice suo fratello è la bestia più volgare che l'Europa abbia generato sono tutti gelosissimi di lui Federico lo sappiamo che nelle relazioni familiari non eccelleva in generale è abbastanza affascinante leggere questa corrispondenza di tutti questi principi che fra loro dicono le cose più orrende del re loro fratello a cui in pubblico sono costretti a inchinarsi tuttavia Enrico anche se odia suo fratello è un fedele generale prussiano e per lui vince l'ultima battaglia della guerra dei sette anni alla fine del 1762 si aprono i colloqui di pace fra le varie potenze e nei primi mesi del 63 si firmano i due trattati il trattato di Parigi che forse dei due è il più importante storicamente perché col trattato di Parigi la Francia cede all'Inghilterra il suo impero coloniale il Canada le sue basi in India e l'altro trattato quello di Hubertusburg che invece è quello che interessa Federico con questo trattato la Prussia conserva i suoi confini di prima della guerra Maria Teresa non è riuscita a riprendersi la Slesia e ufficialmente è costretta a ingoiare questa umiliazione a rinunciare al titolo di duchessa di Slesia che aveva sempre continuato a portare ufficialmente nel marzo di quell'anno subito dopo aver firmato il trattato Federico torna a Berlino rientra per la prima volta nella sua capitale dopo anni le autorità cittadine gli preparano un'accoglienza trionfale notturna alla luce delle torce una specie di trionfo romano con tanto di cocchio dorato Federico quando lo viene a sapere entra in città di nascosto si fa portare a palazzo e entra da una porta di servizio per evitare tutti i festeggiamenti entra a palazzo e lì per la prima volta dopo molti anni incontra sua moglie sappiamo già che con la moglie i rapporti erano estremamente imbarazzati e freddi Federico non riesce a dirle praticamente niente l'unica cosa che riesce a tirar fuori è madame è ingrassata il giorno dopo Federico comincia a rimboccarsi le maniche e lavorare alla ricostruzione del suo regno le distruzioni della guerra sono enormi e noi le conosciamo bene grazie all'enorme lavoro statistico che Federico ha subito cominciato a far fare in certe province quelle a est dell'Oder dove si era combattuto a lungo dove erano passati a lungo i russi saccheggiando e devastando più di un abitante su cinque era morto complessivamente Federico calcolò che quasi mezzo milione di suoi sudditi un nono del totale erano morti durante la guerra e si mise immediatamente a lavorare per riportare tutto a posto quando una delegazione di alti funzionari venne a presentargli le congratulazioni disse va bene ma adesso sedetevi prendete carta e penna voglio sapere esattamente che cosa serve in ciascuna delle vostre province quante case sono state distrutte quanto bestiame vi serve e sulla base di questi rapporti comincia a provvedere oggi si direbbe a pioggia perché la concezione è dovunque ci sono stati dei danni un minimo di aiuto dello Stato per aiutare a rimettere in piedi le cose i contadini ricevono forniture di legna per ricostruirsi le case forniture di semente se ce n'è bisogno animali Federico smobilita mezzo esercito distribuisce quasi 60.000 cavalli ai contadini rimanda a casa 30.000 soldati i quali tutti sono contadini e si rimettono al lavoro bisogna anche dire che Federico era l'unico sovrano europeo che fosse riuscito durante la guerra dei sette anni a non andare in bancarotta un po' giocando sulla svalutazione della moneta un po' combattendo fuori dal paese e saccheggiando spietatamente le risorse per esempio della Sassonia fatto sta che il tesoro era pieno di talleri e tutto questo denaro Federico comincia a spenderlo sistematicamente rimborsa a Berlino per esempio i due milioni che la città aveva dovuto pagare come contribuzione agli austriaci e ai russi quando l'avevano invasa toglie le tasse anche per diversi anni alle province maggiormente danneggiate distribuisce tutte le scorte accumulate nei magazzini di guerra poi contemporaneamente fa un'altra cosa che lascia esterrefatti gli storici comincia in quello stesso momento a costruire un nuovo palazzo a Potsdam quello che c'è ancora oggi si chiama il Noies Palais il nuovo palazzo ed è una spesa che da sola praticamente gli costa come tutte le spese di ricostruzione messe insieme ci sono critiche anche allora ce ne sono molte di più oggi gli storici trovano come dire esemplare della follia dell'assolutismo il fatto che nel momento in cui ha un carico così grosso come quello della ricostruzione Federico cominci questa impresa però le risposte possibili sono tante e la cosa non è così assurda in realtà intanto si tratta di un cantiere immenso un cantiere immenso che quindi dà lavoro a un'enorme quantità di gente si tratta in sostanza di investire in opere pubbliche e sotto l'antico regime le opere pubbliche erano innanzitutto i grandi palazzi ma si tratta anche di un'operazione di immagine il regno di Prussia non è in ginocchio tutt'altro è perfettamente in grado di riprendere il suo posto tra le grandi potenze europee in un'epoca in cui la potenza di una monarchia si misura appunto dallo splendore della sua Versailles Alla fine della guerra dei Sette Anni nel 1763 Federico il Grande aveva 51 anni era al potere da 23 anni e sarebbe morto 23 anni dopo il che vuol dire che siamo esattamente a metà del suo regno ecco noi siamo talmente abituati a identificare Federico con le sue guerre con le sue vittorie con le sue sconfitte che si rimane un po' stupiti quando ci si rende conto che in realtà tutte le sue guerre appartengono alla prima metà del regno 10 anni di guerra pieni su 23 la seconda metà del regno di Federico sarà qualcosa di completamente diverso ci sarà un unico breve intervallo di guerra ma una guerra inconcludente di cui quasi non vale la pena di parlare senza battaglie sostanzialmente sarà una lunga epoca di pace di pace di rafforzamento per il regno di Prussia di pace ma non di riposo per il re che invece si dedicherà con la stessa energia instancabile a volte quasi cieca che usava in guerra ecco si dedicherà invece al rafforzamento economico amministrativo del suo regno la seconda metà del regno di Federico è l'epoca di un re che lavora e praticamente non fa quasi nient'altro non è più il re giovane che amava passare tempo anche con Voltaire o con altri intellettuali avere invitati stranieri lunghe chiacchierate balli anche feste ogni tanto dopo la guerra dei sette anni tutto questo è uscito completamente dal suo orizzonte il Federico il Grande che va dai 50 anni fino alla sua morte a 74 è un uomo che vive secondo una routine ferrea scandita da una tabella di marcia sempre uguale tutti i giorni e che gli permette di ottimizzare i suoi tempi di lavoro in un'epoca in cui era normale per le classi alte compresi i re fare notte a ballare a bere a giocare a giocare a carte e poi svegliarsi tardissimo al mattino Federico si faceva svegliare tutte le mattine alle 4 soltanto in tarda età pare che abbia cominciato a essere un minimo più tranquillo da questo punto di vista e a volte si alzava solo alle 5 ma era già una concessione eccezionale normalmente la sveglia era alle 4 aveva dato ordine che un domestico entrasse nella sua stanza aprisse le cortine del letto e gli mettesse un asciugamano freddo sul viso e in questo modo il re si svegliava gli facevano la barba e gli incipriavano i capelli secondo la moda settecentesca mentre era ancora a letto poi si vestiva non ci metteva molto tanto si vestiva sempre allo stesso modo aveva due divise in tutto uguali era sempre in divisa militare e stivali e poi i domestici cominciavano a portargli la posta del mattino dentro dei grandi cesti di vimini e Federico cominciava il suo lavoro di re sbrigava la posta mentre faceva colazione caffè molto caffè poi avrebbe continuato tutto il giorno a prenderne frutta e mentre beveva il caffè e mangiava la frutta sfogliava la posta e dettava le risposte ai segretari o prendeva appunti poi venivano gli aiutanti di campo con tutti i problemi militari che erano pur sempre più importanti tutte le questioni dell'esercito le nomine degli ufficiali le riforme le nuove armi e così via in tarda mattinata ispezione delle truppe Federico conservò per tutta la vita il senso che era suo preciso dovere in quanto comandante in capo dell'esercito ispezionare periodicamente le truppe quando era a Berlino quelle della guardia e quando era in giro quelle delle varie guarnigioni e guai al colonnello che non presentava un reggimento impeccabile fino all'ultimo bottone quando era a Berlino o a Potsdam Federico spesso personalmente prendeva la testa di un battaglione e cominciava a ordinare le manovre sulla piazza d'armi per vedere se il battaglione era addestrato bene ma prima di pranzo c'era ancora tempo anche per qualcos'altro per ricevere i sudditi che gli avevano mandato suppliche perché in questa monarchia assoluta qualunque suddito poteva scrivere al re e il re in linea di massima riceveva quelli che gli sembravano meritevoli di una risposta il primo momento di riposo nella giornata tipo di Federico il Grande veniva col pranzo a mezzogiorno riposo fino a un certo punto perché c'era sempre molta gente in genere aveva una ventina di ospiti militari soprattutto gli piaceva parlare di cose militari anche a tavola mangiava in abbondanza però con la cucina gli era sempre piaciuta sappiamo che mangiava cucina molto speziata e del resto gli eccessi alimentari hanno certamente contribuito poi anche a una certa sua cattiva salute si sa che Federico per molti anni continua a soffrire di indigestione di gotta di emorroidi di attacchi di coliche renali nei rapporti dei suoi medici soprattutto quando sua maestà ha bevuto troppo champagne ma pare che nessuno fosse in grado di farlo smettere del resto abbiamo il menù di una sua cena un mese e mezzo prima di morire quando era già malato da moltissimo tempo in pratica non lasciava quasi più il letto zuppa alle spezie bue al cognac pasticcio di anguilla formaggio all'aglio si può capire che questi pranzi durassero abbastanza lungo in minimo due ore a volte anche di più ben annaffiati di champagne o in certi periodi a quanto pare di bordeaux annaquato dopo pranzo in genere Federico esaminava il menù e metteva una crocetta accanto ai piatti che gli erano piaciuti di ognuno era anche segnato il nome del cuoco che lo aveva preparato in modo che il re potesse ricompensare o rimproverare a seconda del caso dopo pranzo una passeggiata a piedi a cavallo e poi continua questa routine appunto sempre uguale giorno dopo giorno vengono i segretari con tutte le lettere che intanto hanno scritto in base agli ordini del mattino e Federico firma la corrispondenza soltanto quando ha firmato l'ultima carta la giornata lavorativa è finita Federico rimane per la prima volta da solo a leggere a comporre versi o a suonare il flauto poi alle sei concerto concerto a cui tutta la corte è tenuta ad assistere e in cui normalmente il re suona da solista il flauto e in cui si eseguono di solito composizioni sue cena leggera alle dieci al più tardi alle undici a dormire e poi si ricomincia il giorno dopo sveglia alle quattro e così via la stessa identica routine per ventitré anni tranne quando appunto la cattiva salute gli lo impediva o quando un giro di spezione lo portava nelle province ma anche in quei casi il re comunque si riteneva in dovere di lavorare seguendo sempre la stessa scaletta era una corte strana quella di Prussia gli stranieri si stupivano non c'erano praticamente donne non c'erano amanti o favorite come invece succedeva nelle altre corti in particolare in quella di Versailles c'era soltanto quest'uomo che invecchiava e intorno a cui tutti stavano ben attenti a non farlo arrabbiare verso la fine della guerra dei sette anni fu assunto un giovane svizzero che si chiamava Kat da non confondere col vecchio amico di Federico il tenente von Kat decapitato tanti anni prima questo Kat fu assunto come lettore Federico amava farsi leggere a voce alta e tutti quelli che conoscevano meglio Federico gli diedero dei precisi consigli su come fare a non litigare con il re parla poco non metterti a scherzare anche se lui ha voglia di scherzare non stare allo scherzo non dare l'impressione di aspettarti delle confidenze per l'amor di Dio non criticare mai i suoi scritti o i suoi versi non chiedergli niente soprattutto niente soldi ecco non doveva essere tanto semplice stare vicini a Federico evidentemente e fra l'altro nella seconda parte della sua vita si accentuano anche certe caratteristiche che prima erano appena visibili per esempio l'avarizia e il sospetto nei confronti di tutti quelli che gli stanno intorno un giorno gli avevano portato nel suo studio un piatto di ciliegie una ghiottoneria costosa Federico ne mangiò un po' poi uscì dallo studio nel piatto rimase un biglietto di suo pugno ne lascio 18 nella seconda metà del suo regno Federico combatté ancora una guerra ma fu una guerra in realtà insignificante era in cattivi rapporti per vari motivi politici col nuovo imperatore Giuseppe II il figlio di Maria Teresa a un certo punto decise che non poteva lasciargli passare un certo sgarbo politico che aveva ricevuto e scoppiò la guerra insomma e Federico come ai vecchi tempi si mise alla testa dell'esercito e tanto per cambiare invase la Bohemia ma fu una guerra molto diversa in realtà da quella di una volta nessuno aveva veramente voglia di combattere gli austriaci non vennero ad affrontarlo Federico stesso in realtà era vecchio forse tanta voglia di combattere non aveva più neanche lui rimase per un po' di tempo in territorio nemico faceva brutto pioveva era difficile mantenere le truppe i soldati cominciavano a morire di fame o a disertare tanto che questa guerra passò alla storia con un nome poco glorioso la guerra delle patate perché alla fine tutto quello che fecero i soldati fu di appunto rubare patate ai contadini per riuscire a mantenersi e poi i diplomatici vennero a togliere dagli impacci il loro re riallacciando contatti appunto diplomatici con Vienna e riuscendo a far fare la pace una faccenda quindi poco gloriosa che probabilmente convince Federico definitivamente che c'erano altri modi più sicuri per continuare a ingrandire il suo regno perché questa ossessione gli era rimasta che la Prussia non fosse ancora abbastanza forte e che si dovesse ingrandirla questo Federico continuava a pensarlo fino alla fine e continuò fino alla fine a muoversi in questa direzione in quest'ambito rientra l'ultima grossa impresa di Federico il Grande di cui vale la pena di parlare e che vale la pena di osservare un po' più da vicino dico grossa impresa non oso dire grande impresa perché fu una faccenda moralmente anche molto discutibile la prima spartizione della Polonia nel 1772 spieghiamo un attimo come mai fosse possibile spartirsi la Polonia in quel momento e poi proveremo a ragionare sulla rilevanza appunto morale e politica di questa faccenda e su quello che ne è venuto fuori poi la Polonia era un paese estremamente arretrato anche dal punto di vista politico era uno stato debole con un re elettivo un po' come l'imperatore a Vienna però il re in Polonia era ancora più debole il paese era in mano ai principi ai vescovi riuniti in una specie di parlamento una dieta che però non era appunto un parlamento in qualche modo rappresentativo del paese come il parlamento inglese la dieta polacca era esclusivamente un'assemblea di principi per lo più spiantati dunque la Polonia non contava nulla non aveva un esercito non aveva risorse i suoi vicini a un certo punto cominciarono a pensare che era un peccato che fosse così grossa che avesse così tanti territori che forse si sarebbe potuto anche ridurre un po' questa Polonia e ricavarne dei vantaggi ho detto i suoi vicini ma quello che ebbe l'idea fu Federico fu lui che nel 1772 intavolò trattative con Caterina e con Maria Teresa con la Russia quindi e con l'Austria per convincerle a prendersi ciascuno un pezzo di Polonia se l'avessero fatto tutti e tre insieme nessuno avrebbe osato protestare discussero a lungo Maria Teresa in particolare aveva degli scrupoli a un certo punto riferirono a Federico che prima di firmare l'accordo si era messa a piangere Federico commentò sì piange sempre e annette sempre fatto sta che le tre grandi potenze si presero in tutto circa un quarto della Polonia questa è la prima spartizione ne verranno altre in seguito ma Federico non sarà più coinvolto dopo la sua morte la Polonia sarà definitivamente annientata questo è il primo colpo la Prussia ha il pezzo più piccolo di Bottino un sesto del totale sono pur sempre 600.000 abitanti e soprattutto è un pezzo di territorio strategico perché è quel corridoio polacco che permette finalmente di collegare il Brandeburgo e la Prussia orientale che permette finalmente alla Prussia di essere un'unica macchia sulla carta geografica che può essere attraversata tutta senza che ci siano territori nemici in mezzo dal punto di vista politico militare un'acquisizione magnifica da altri punti di vista come vedremo il discorso è molto più ambito dopo essersi preso la sua fetta di Polonia Federico scrisse al fratello Enrico è un guadagno magnifico ci vorrà molto lavoro perché in questo paese non c'è nessun sistema nessun ordine le città sono in uno stato disastroso ma comunque ci guadagneremo moltissimo però è sempre Federico che parla confidenzialmente in una lettera segreta al fratello però per non suscitare invidia dico a tutti che da quando sono qui ho visto solo sabbia pini erica e ebrei ed effettivamente la Polonia agli occhi di Federico è un paese terribilmente arretrato e lui si mette al lavoro con la solita energia per riportarlo allo stesso livello del resto del suo regno e quindi strade ponti bonifiche immigrazione di coloni dal resto della Prussia o dal resto della Germania tutto per trasformare questo pezzo di Polonia in una prospera provincia tedesca naturalmente questo comporta anche una serie di riforme fiscali amministrative imposte dall'alto senza preoccuparsi né di opinione pubblica né di niente cioè non per niente siamo nell'assolutismo il re fa quello che vuole Federico confisca feudi si impadronisce di gran parte dei latifondi che appartenevano ai monasteri perché la Polonia era un paese come si suol dire ancora medievale come struttura e naturalmente Federico ha poca pazienza con queste cose i nobili la chiesa non pagavano tasse sotto Federico cominciano tutti quanti a pagarle l'opposizione c'è i polacchi protestano non troppo forte perché si finisce in fortezza ma protestano il paese si riempie di stemmi prussiani con l'aquila nera con le ali spiegate e con sotto il motto latino della dinastia degli di Hohenzollern che in latino suona sum cuique cioè a ciascuno il suo sui muri mani sconosciute cominciano a aggiungere un'ultima paroletta latina rapuit cioè a ciascuno il suo porta via questo è lo stato d'animo dei nuovi sud di tipo lacchi e questo è anche lo stato d'animo dell'opinione pubblica internazionale specialmente nei paesi che non hanno partecipato alla rapina come in Francia ecco gli amici intellettuali illuministi di Federico sono abbastanza sbigottiti e anche Federico deve avere un qualche senso di colpa perché scrive scrive al solito Voltaire scrive ad Alambert spiegando che la Polonia è un paese barbaro che il governo polacco è il peggiore d'Europa dopo quello turco e non è giusto che un paese potenzialmente così prospero sia lasciato a marcire nella tirannia ecco oggi è facile vedere le conseguenze catastrofiche dal punto di vista della storia del lungo periodo di questo primo passo questa prima spartizione della Polonia apre la strada a tutto un rapporto fra i tedeschi e la Polonia che poi ritroveremo fino al nazismo per i tedeschi diventa abituale pensare ai polacchi come un popolo inferiore spregevole diventa normale parlare di economia polacca che diventa un'espressione standard in lingua tedesca per dire un'economia che non funziona diventa normale disprezzare un intero popolo Federico stesso ci cade con tutto il suo illuminismo a un certo punto si riferisce a quella società di imbecilli con i nomi che finiscono in schi e diventa normale pensare che un popolo invece tanto più moderno progredito avanzato come i tedeschi abbia diritto di prendersi questo paese e di farlo prosperare insomma da Federico e dalla prima spartizione della Polonia alla teoria dell'Ebensraum dello spazio vitale ecco non c'è poi tanta strada da percorrere e però però le cose hanno sempre un'altra faccia le hanno in generale specialmente quando si tratta di Federico a Berlino gli ambasciatori stranieri riferivano stupiti che era facilissimo procurarsi degli opuscoli che criticavano il re criticavano la sua politica in Polonia e nessuno si sognava di censurarli anche quello era l'assolutismo illuminato di Federico negli ultimi anni della sua vita Federico il Grande era una specie di leggenda vivente specialmente per gli stranieri i quali continuavano a arrivare a Berlino con gli occhi spalancati per l'ammirazione ancora prima di averlo visto pochi mesi prima di morire nell'autunno del 1785 Federico tenne una rivista delle sue truppe in Slesia a cui parteciparono molti ospiti illustri e fra gli altri il marchese di Lafayette che aveva comandato poco prima le truppe francesi mandate in America in aiuto della rivoluzione americana e di George Washington quello stesso Lafayette che più tardi avrà un ruolo tutt'altro che secondario nello scoppio di un'altra rivoluzione quella francese bene Lafayette andando in visita in Prussia e partecipando insieme a Federico a una rivista delle truppe prussiane scrisse nonostante tutto quello che avevo sentito dire di lui sono rimasto stupito lo stesso dal suo vestito e dal suo aspetto sembrava un vecchio caporale malconcio sporco tutto macchiato di tabacco con la testa quasi piegata su una spalla e le dita deformate dall'artrite e questo è un ritratto consueto di Federico che si incontra molte volte ma Lafayette prosegue però mi hanno sorpreso molto di più il fuoco e anche la dolcezza dei suoi occhi i più begli occhi che abbia mai visto è capace di avere l'espressione più affascinante e subito dopo quando prende la testa delle truppe quella più dura e minacciosa ecco insomma Federico evidentemente sapeva ancora far innamorare i giovanotti europei e non si era rammollito Lafayette in sua presenza si lasciò andare a parlare con un po' troppo entusiasmo delle cose di cui in quegli anni parlavano tutti la rivoluzione la costituzione il suffragio universale la democrazia Federico lo ascoltò e poi gli disse una volta conoscevo un giovanotto che parlava proprio come lei sa cosa gli è successo? Lafayette fu presa alla sprovvista no beh è stato impiccato evidentemente appunto Federico anche se negli ultimi anni si lamenterà di essere nato troppo presto quasi che avesse voglia ancora di vedere cosa sarebbe successo ecco però non era più l'uomo adatto per i tempi delle rivoluzioni del resto l'impressione è che questa ammirazione fanatica fosse più diffusa all'estero che nel suo paese nel suo paese tutti erano abituati a lui ben pochi sudditi erano così vecchi da ricordarsi di un re diverso da lui il vecchio Fritz nonno Fritz come lo si chiamava che però in dialetto tedesco del nord non suona neanche così affettuoso sia chiaro ecco il vecchio Fritz era una presenza nella vita di tutti temuto forse più che amato anche fra i gruppi dirigenti quando un altro militare francese Ghibert andò in visita a Berlino incontrò un generale prussiano che stava raccogliendo i materiali per scrivere un libro e dimostrare tutti gli sbagli che il re aveva fatto nella guerra dei sette anni intorno a lui la gente durava poco e i cortigiani licenziati poi si vendicavano parlando in giro del fatto che il re non sapeva cosa fosse l'amicizia e non era capace di provarla e tuttavia anche Ghibert per esempio questo militare francese che arrivò a vedere Federico dopo aver sentito tutti questi commenti negativi e beh anche lui era sotto l'impressione del mito avrebbe dovuto vedere un vecchio malandato e artritico e invece quando fu ricevuto a Potsdam quando il re lo accolse nel palazzo di San Susi Ghibert anche lui come tutti gli altri rimase con gli occhi aperti e poi scrisse mi sembrava che la sua persona fosse circondata da una specie di alone magico ecco in realtà Federico era circondato essenzialmente di cani questo era quello che si portava dietro dappertutto e sempre Ghibert vide nella sua stanza da lavoro tre poltrone per i suoi tre levrieri preferiti e davanti a ogni poltrone uno sgabellino perché il cagnolino non facesse troppa fatica a salirci sopra la solitudine di Federico si misura anche da questo certamente però per tutto il mondo era una leggenda vivente l'ispezione dell'agosto 1785 in Slesia quella in cui incontrò il marchese di Lafayette fu l'ultima ispezione di Federico il grande alle sue truppe aveva insistito per rimanere sotto la pioggia a vedere sfilare i reggimenti a esaminare da vicino il loro addestramento e le loro divise era rimasto tutto il giorno sotto il diluvio senza mettersi il mantello naturalmente non si era messo il mantello lui e quindi l'etichetta richiedeva che nessuno se lo potesse mettere e tutti i ministri e gli ospiti erano tornati a casa fradici ma anche Federico era tornato a casa fradicio e da quel momento in poi la sua salute cominciò a declinare rapidamente soffriva soprattutto di artrite e di asma l'asma non lo lasciava dormire e Federico commentò beh potrei sempre trovare lavoro come guardiano notturno passarono diversi mesi Federico stava male la notizia non veniva comunicata nemmeno la regina sua moglie lo sapeva tanto non si vedevano mai a un certo punto la regina venne a sapere che un medico straniero era venuto a Berlino si informò per vie traverse e seppe che suo marito il re era malato allora gli chiese per iscritto il permesso di venire a trovarlo Federico rispose sempre per iscritto che era molto obbligato della sua gentilezza ma siccome aveva un po' di febbre per il momento non poteva risponderle fu l'ultima comunicazione fra i due non si videro mai più e la regina continuò a essere così poco informata che diede una festa da ballo il giorno stesso in cui Federico stava morendo il 15 agosto 1786 Federico si alzò alle 5 ormai da un po' di tempo si concedeva questo lusso delle 5 del mattino anziché le 4 come era stato abituato si alzò alle 5 e firmò delle carte i suoi consiglieri si accorsero poi quella sera che la firma era quasi illeggibile il giorno dopo il 16 agosto Federico sonnecchiò quasi tutto il giorno verso sera poi si svegliò sembrava che stesse meglio chiamò il suo lettore e si fece leggere dei passi dalla vita di Luigi XIV di Voltaire era a letto naturalmente però a letto stava male l'asma gli impediva di respirare si fece mettere in poltrona c'erano sempre a disposizione dei soldati robusti in questo caso degli Ussari per prendere il re di peso e spostarlo quando ce n'era bisogno si fece mettere in poltrona perché lì gli sembrava di respirare meglio era la sera del 16 agosto intorno a lui domestici e cani si accorse che il levriero preferito che era accucciato ai suoi piedi era brividiva ad agosto può già fare molto freddo in Prussia e il riscaldamento non era mai stato l'aspetto forte di questi grandi palazzi reali il cane era brividiva e Federico diede ordine di prendere un piumino per coprirlo fu il suo ultimo ordine non parlo più alle due del mattino del 17 agosto quelli che gli stavano intorno si accorsero che non riusciva più a respirare un momento dopo era morto Federico aveva dato ordine nel suo testamento di essere seppellito nel giardino di Saint-Sussi accanto al suo cavallo e ai suoi cani preferiti aveva scritto ho vissuto da filosofo e voglio morire da filosofo non voglio cerimonie non voglio pompa e non voleva neanche essere seppellito in chiesa evidentemente anche se non lo disse così chiaramente voleva che gli scavassero una fossa in giardino dove aveva personalmente sepolto gli animali che aveva amato il nuovo re era suo nipote Federico Guglielmo II diventato famoso poi soprattutto per la sua grassezza tant'è vero che fu soprannominato appunto il re grasso Federico Guglielmo non ebbe il coraggio di rispettare le ultime volontà del suo prozio seppellirlo in giardino vicino ai cani era un po' troppo per un re di Prussia e perciò lo fece seppellire invece nella cripta della chiesa della Guarnigione a Potsdam sotto tutte le bandiere dei reggimenti nemici che erano state catturate nel corso delle sue guerre la cripta della chiesa della Guarnigione a Potsdam dove era sepolto Federico negli anni seguenti fu il luogo di avvenimenti importanti passiamo qualche anno novembre 1805 siamo in piena epoca napoleonica lo zara Alessandro di Russia che ha appena dichiarato guerra a Napoleone viene a Berlino per stringere alleanza con il re di Prussia non è più Federico Guglielmo secondo il nipote di Federico è Federico Guglielmo terzo che ha una moglie rimasta famosa nella storia della Prussia la regina Luisa una regina bellissima amatissima dal popolo romantica bellicosa fra l'altro nazionalista la regina Luisa voleva a tutti i costi questa alleanza fra Russia e Prussia per fare la guerra contro questo intruso Napoleone e organizzò una scena teatrale per impressionare i due sovrani li portò con sé di notte lo zara e il re di Prussia nella cripta della chiesa di Potsdam e lì alla luce delle torce sulla tomba di Federico lo zara di Russia e il re di Prussia si giurarono alleanza contro Napoleone poi le cose andarono molto diversamente da come la regina Luisa aveva pensato un mese dopo lo zara Alessandro veniva sbaragliato da Napoleone alla battaglia di Austerlitz pochi mesi dopo era il turno della Prussia nell'estate del 1806 l'esercito che era ancora l'esercito di Federico il Grande viene sbaragliato in un sol giorno e per sempre da Napoleone nelle due grandi battaglie di Iena e di Auerstedt il crollo dell'esercito di Federico vent'anni dopo la sua morte e il crollo del suo regno fecero una sensazione enorme mai Napoleone aveva vinto così facilmente e sbaragliato così totalmente un esercito nemico mai un regno era crollato così in fretta ovviamente qualcuno cominciò anche a riflettere sul fatto che forse l'eredità di Federico era stata anche in qualche modo un'eredità avvelenata si cominciò a pensare nella stessa Prussia dove proprio in quel momento nasce un sentimento così di ripresa nazionale si cominciò a pensare che forse si erano rimasti troppo legati al mito di Federico non si era voluto toccare niente l'esercito di Federico era invincibile perciò non bisognava cambiare le armi il modo di combattere perfino le divise erano ancora quasi quelle si diffuse in altre parole in plus la sensazione che proprio Federico in qualche modo senza volerlo avesse lasciato appunto un'eredità troppo pesante che era stata la causa del disastro di fronte a Napoleone ma Napoleone dopo aver conquistato Berlino scese anche lui nella cripta della chiesa della guarnigione insieme con i suoi generali e davanti alla tomba di Federico disse signori toglietevi il cappello perché se lui fosse ancora vivo noi non saremmo qui ecco in tutto l'otto e novecento nella storia tedesca si sono affrontate queste due posizioni diverse Federico ha lasciato un'eredità avvelenata alla Germania col suo assolutismo il suo militarismo il suo culto del particolare fanatico che perde di vista però le grandi questioni anche morali ecco oppure al contrario Federico è la leggenda intorno a cui si può costruire un'identità tedesca nell'ottocento e nel novecento fino a Hitler grosso modo è questa seconda versione che ha prevalso e specialmente Hitler puntò ancora moltissimo sull'eredità di Federico all'inizio della sua carriera quando il vecchio presidente von Hindenburg lo aveva appena nominato cancelliere Hitler organizzò una grande cerimonia nella cripta della chiesa della guarnigione di Potsdam e quindi in qualche modo continuava a riproporsi come luogo centrale di una simbologia tedesca Hitler volle appropriarsi del mito di Federico e quando le cose cominciarono ad andargli male ovviamente si aggrappò anche all'ultimo aspetto della leggenda di Federico il miracolo della casa di Brandeburgo l'idea che forse i russi anziché avanzare su Berlino si ritirano successe perfino qualcosa alla fine della guerra mondiale che sembrò per un attimo dargli ragione morì il presidente Roosevelt e Hitler disse è come quando è morta la zarina Elisabetta e Federico è stato salvato la domanda su come si debba interpretare l'eredità di Federico il Grande e della storia prussiana non ha mai smesso di angosciare i tedeschi io ho qui fra le mani un numero di Der Spiegel il settimanale tedesco simile al nostro espresso del 12 agosto 1991 il titolo in copertina è Il ritorno di Federico e sulla copertina è raffigurato appunto un busto di Federico con quegli occhi azzurri che piacevano tanto al Marchese di Lafayette che spunta fuori come un giocattolo a sorpresa da una scatola che in realtà si rivela poi essere la sua bara ecco il ritorno di Federico come mai 1991 facciamo mente locale è caduto il muro la Germania si è appena riunificata e in quel momento le spoglie mortali di Federico che durante la guerra erano state evacuate da Potsdam per timore dei bombardamenti e che erano finite ad ovest ecco con la riunificazione le spoglie di Federico possono essere riportate a Potsdam come a chiudere un cerchio i tedeschi in quel momento si interrogano e avevano cominciato da qualche anno a interrogarsi apertamente su cosa volesse dire fare i conti con Federico il Grande per un po' dopo la guerra era calato il silenzio dopo la guerra le potenze vincitrici avevano addirittura abolito ufficialmente la Prussia come circoscrizione amministrativa della Germania di Federico non si era più parlato per molto tempo si ricomincia a parlarne forse per la prima volta sul serio nel 1981 quando proprio a Berlino viene organizzata una grande esposizione sulla Prussia e si intitola Prussia tentativo di un bilancio ecco in quell'occasione sempre il settimanale Der Spiegel intitolò in copertina Nostalgia della Prussia e le polemiche furono furiose quella era una Germania non ancora unita c'era ancora la guerra fredda anche se stava finendo e molti videro nel fatto di riparlare di Federico un tentativo di riabilitare il militarismo tedesco giravano in Germania sondaggi del tipo secondo voi il mondo sarebbe migliore se la Prussia non fosse mai esistita pochi anni dopo nel 1986 cadevano i 200 anni della morte di Federico e proprio allora nell'86 lo Spiegel lo mise in copertina per la prima volta c'era un busto di Federico che si apriva in due e dentro spuntava quello di Hitler l'interrogativo era certo è l'anniversario dobbiamo festeggiarlo nel 91 la polemica furibonda nacque quando il cancelliere Cole dichiarò che sarebbe andato a Potsdam per accogliere le ossa di Federico che ritornavano vennero fatti dei sondaggi anche in questo caso beh si scoprì che al 41% dei tedeschi non importava niente dell'intera faccenda e che però c'era comunque una maggioranza di tedeschi che considerava la storia della Prussia nel complesso come abbastanza positiva o anche molto positiva insomma c'era un'inversione di tendenza pian piano i tedeschi stavano cominciando a fare i conti con il loro passato e a recuperare un'immagine come dire di luci e ombre naturalmente ecco di un passato in cui anche Federico aveva un peso enorme nel bene e nel male e però le domande angosciose erano ancora sempre lì e non andavano via ancora nel 91 lo Spiegel intervistò gli storici tedeschi e questi dissero la domanda è sempre la stessa Federico è colpevole per Hitler e per Auschwitz? ecco non hanno risposto finora gli storici tedeschi e non risponderemo certamente noi la chiesa della guarnigione di Potsdam è stata distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e Federico quando è tornato a casa come titola lo Spiegel è stato finalmente sepolto nel giardino di San Sussi come aveva chiesto e qui si chiude anche il nostro ciclo in compagnia di Federico il Grande grazie per l'ascolto e buonasera grazie a tutti